Significa che le aziende del territorio hanno messo a disposizione le loro competenze e soprattutto hanno chiesto ai ragazzi dell'università e degli studenti delle superiori di secondo grado di risolvere delle questioni sulle problematiche e sulle esigenze delle aziende stesse. Ed è proprio da questo momento che sono nati gli elaborati che verranno presentati questa mattina. La mattinata sarà divisa in due momenti perché avremo una prima parte dedicata alle superiori e una seconda dedicata all'università e quindi è stata di studenti delle classi terze, quarta e quinte per quanto riguarda le superiori. È un modo formativo per realizzare questo compimento degli elaborati che poi verranno a rotazione, trasmessi sui social di Confindustria. Ora io direi però subito di passare la parola al presidente dei Giovani Imprenditori Marche, Massimiliano Bacchetti, che ci introdurrà appunto questa mattinata di lavori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come detto, in apertura sarà una giornata intensa e piena di interventi, quindi cercherò di essere rapidissimo e sarò rapidissimo. Questo è un progetto come il comitato del Giove Imprenditori di Confindustria Marche, che ci chiamiamo Particolar Marche. Eccoci, perché è un progetto win-to-win, nel senso che è un progetto che permette alle aziende di conoscere i ragazzi, di avvicinarsi al mondo sempre più delle scuole e delle università, ma allo stesso tempo permette ai ragazzi di sperimentare un nuovo modo di approcciarsi al mondo del lavoro, al mondo delle imprese. È un progetto che va avanti ormai da qualche anno, quindi è molto consolidato, era nato nella territoriale di Pesaro ed è stato sposato da tutto il comitato regionale, quindi ora sul perimetro regionale, avremo due giornate dove ci saranno la presentazione dei laborati, dei ragazzi, delle classi superiori e delle università e poi avremo una giornata conclusiva dove ci saranno i finalisti e finalmente vedremo chi avrà presentato, chi sarà risultato come un lavoro migliore e quindi vincerà i premi in palio. Detto questo, io non mi vorrei dilungare ulteriormente e sono impaziente anch'io di ascoltare gli elaborati dei ragazzi, quindi vi ripasso la linea. Bene, andiamo allora subito a entrare nel vivo della mattinata con il primo collegamento che riguarda appunto la scuola Terza B Seneca del Polo 3 di Indirizzo Grafica di Fano, la docente referente Tiziana Conti con tutto il consiglio di classe, l'azienda la Luzzi Food SRL, referente aziendale Gianluigi Luzzi e Martina Ballarini. Il progetto si intitola Ideazione, Progettazione e Sviluppo di un Packaging Ecologico per Pasta e Farina Fior di Pietra. Allora prego, Terza B Seneca. Sì, piacere, ci siamo. Le ragazze, prego. Buongiorno, sono la torsia B Seneca del Polo 3 di Fano e studiamo Grafica e Comunicazione. Abbiamo aderito a questo progetto per l'apporto di Ministra Marche assieme all'azienda Luzzi, un'azienda agricola, biologica. Il nostro progetto era quindi di fare un restyling del packaging di pasta e farina dell'azienda Luzzi, del logo Pior di Pietra. E gli step del lavoro sono stati quattro. Il primo è stato il briefing, quindi fare delle ricerche sull'azienda, sul packaging. Poi abbiamo definito un'idea, un layout e l'abbiamo stampato, abbiamo realizzato questi packaging, questi modellini. Ognuno di noi ha fatto un modellino diverso. Poi abbiamo le delme, dalla delme, poi l'abbiamo stampato, tagliato e intollato. L'azienda Luzzi ha scelto quattro packaging e il definitivo che alla fine è stato scelto è stato questo. Questo qui è stato scelto e all'azienda Luzzi piaceva. C'è questo grafismo di questi fiori, questa è la farina di parola. Il fiore è formato da ogni tipo e questo è per la farina di parola. Poi abbiamo sotto i fusilli, quindi abbiamo fatto un packaging per il parola, per il segale, poi per la pasta di fusilli, spaghetti e le penne. E questo è stato quello che è piaciuto più alla azienda. Comunque ognuno di noi ha fatto una proposta di un packaging. Abbiamo creato anche dei video, abbiamo creato dei video, dove abbiamo fatto vedere il nostro percorso. Intanto possiamo farvi vedere. Deve andare in slideshow. Grazie a tutti. 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 Gianluigi Luzzi e Martina Pallarini. Salutiamo e buon seguimento. Grazie mille. Grazie. Buongiorno a tutti, siamo la terza C-Seneca dell'Istituto Prozzi di Fano. Per il progetto Learning by Doing abbiamo collaborato con l'azienda Lucy Food di San Lorenzo in campo. Nello specifico abbiamo realizzato il restyling dei packaging dei prodotti dell'azienda a marchio Fiori di Pietra che rivende nei punti vendita S-Lunga. Il nostro percorso si è così sviluppato. Abbiamo avuto un momento di conoscenza attraverso degli incontri online sia con la referenza della Confindustria sia con l'azienda per conoscere il progetto. Successivamente abbiamo visionato quattro video, ovvero qui le informative, che ci aiutassero a ragionare sull'evoluzione del progetto e sull'organizzazione dei materiali e delle fasi di lavoro. Dopodiché abbiamo letto insieme le slide fornite dall'azienda, visionato le pustelle, i siti web e i prodotti che ci sono stati consegnati. In seguito a questo abbiamo fatto una ricerca visiva riguardo i competitors sia attraverso una ricerca di immagini online sia direttamente nei supermercati vedendo i prodotti fisici. Con questo progetto abbiamo avuto anche modo di conoscere e studiare delle specifiche tecniche sui marchi, ad esempio il logo del biologico e il suo utilizzo, ad esempio loghi legati allo smattimento di rifiuti, e altre informazioni obbligatorie che abbiamo dovuto inserire e capire per inserirle appunto nelle nostre fustelle. Oltre a questo abbiamo lavorato anche sull'utilizzo del font più appropriato che potesse essere più accattivante per le nostre fustelle. A seguito nella fase di progettazione dove abbiamo sviluppato questa mappa concettuale legata proprio alle scelte grafiche dei competitors in cui per ogni tipologia di prodotto abbiamo fatto una mappa concettuale che racchiudesse le esigenze, i bisogni, i punti di forza dell'azienda e dei prodotti su cui stavamo lavorando. Poi i definitivi delle nostre fustelle li abbiamo fatti attraverso questo software che sarebbe Adobe Illustrator e in particolar modo per la farina abbiamo realizzato anche dei mock-up però in questo caso usando il Photoshop i mock-up sarebbero questa messa realistica della nostra fustella su piano. Infine ci siamo incontrati dapprima con line con le referenti dell'azienda per la scelta dei definitivi dei packaging delle farine sui quali fare l'immagine coordinata anche per i tre formati di pasta e nell'ultimo incontro in presenza, in conclusione, previsionare i progetti insieme e raccontare la nostra esperienza e il nostro lavoro e impegno. Adesso le presentiamo il nostro video che abbiamo fatto con le nostre fotografie e la professoressa Chiara Pedrello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. complimenti anche in questo caso il bisogno di un'impresa del territorio ha portato i giovani a confrontarsi anche con il modo della distribuzione dei grandi marchi e quindi a portare una soluzione a questa azienda che ha chiesto un packaging innovativo. passiamo allora al prossimo progetto che riguarda il polo 3 dell'indirizzo turistico di Fano la terza G con il titolo Make My Future un progetto per l'azienda di Assindustria Consulting i referenti sono Laura Pedinelli, Federica Pradarelli, Silvia Battistini e tutto il consiglio di classe. I referenti aziendali sono Nicole Spinaci e Giulio Gabbianelli. e allora prego per la vostra esposizione. Buongiorno, ci siete? Il microfono? Bisogna attivare il microfono? Buongiorno. Bisogna attivare il microfono con la spunta rossa. Grazie. Non si sente l'audio. In basso vede un'icona con disattiva, attiva l'audio. Non so se eventualmente vogliamo procedere con l'altra classe. Proviamo ad andare avanti e poi riprendiamoci. Allora presentiamo il Polo Trade, sempre dell'indirizzo turistico di Fano Make My Future con la terza H i referenti sono Laura Pedinelli, Daniela Guarino e Benedetta Dallevi sempre per Assindustria Consulting i referenti aziendali sono Nicole Spinaci e Giulio Gabbianelli. Vediamo se la terza H è collegata. La vedo dalla professoressa Guarino, non so. Professoressa Guarino? C'è? Vogliamo provare? Ci fate un riscontro? Prima provavano l'audio, insomma. Ecco, vedo che la professoressa Guarino ha attivato l'audio. Ci siamo. Quindi i ragazzi della terza H presentano adesso? Non vediamo il video, se potete... Ecco, perfetto. Abbiamo anticipato in attesa che la terza G risolvano i problemi di audio. Se siete pronti, se i regati sono pronti, abbiamo anticipato di qualche minuto. Bene. Si presentano adesso i ragazzi perché sentiamo male. Si, presentano i ragazzi. Si presentano i ragazzi della terza H. E abbiamo anticipato il gruppo della terza H. Devo rispettare il progetto. Prof. Professoressa, noi la vediamo e la sentiamo. Può presentare il progetto. Riattivate l'audio Terza H, riattivate l'audio Luigi magari possiamo Perfetto Nel frattempo anche se si prepara la terza G in modo che abbiamo fatto solo un'inversione per non perdere diciamo Prego Bene, vi vediamo, vi sentiamo Buongiorno Siamo alla classe terza H turistico di Fano La nostra classe è stata coinvolta all'interno del progetto Erasmus View Make My Future Nella quale Assindustria Consulting parte del progetto ci ha coinvolto in occasione del meeting con i partner stranieri che si sarebbe svolto nel mese di aprile a Piero indicando i seguenti obiettivi da raggiungere la realizzazione di un pacchetto di ospitalità per i professionisti che vi avrebbero partecipato e la creazione di materiale promozionale del territorio in lingua inglese come la cartellina promozionale del territorio da presentare nei giorni del meeting e una presentazione multimediale Il progetto ci ha spinti mirando obiettivi inerenti al percorso di studio come l'opportunità di applicare lo studio a tematiche aziendali concrete avvicinandoli realmente al mondo del lavoro padroneggiare l'utilizzo della lingua straniera nel settore tecnico con acquisizione della terminologia specifica conoscenza del territorio e della sua promozione autonomia nello sviluppo di un progetto dalle sue fasi iniziali a quelle finali e collegamento e contatto con le aziende di settore del territorio acquisendo competenze specifiche nel settore Ci siamo occupati della creazione di un pacchetto turistico per accogliere i professionisti presenti alle due giornate del meeting scegliendo hotel, ristoranti e attività culturali da svolgere al termine delle due giornate nel rispetto del budget di 575 euro Come primo passo ci siamo concentrati sulla ricerca delle strutture ricettive considerando la distanza della sede del meeting i costi e le recensioni dei clienti Abbiamo contattato le strutture individuate e richiesti preventivi Dopo aver realizzato i preventivi ricevuti abbiamo definito tre proposte due compatibili con il budget e una di livello superiore prevedendo un'aggiunta extra al budget In seguito siamo passati alle proposte di ristoranti abbiamo selezionato le location in base alla vicinanza dal meeting e alle tipologie abbiamo contattato i ristoranti scelti per richiedere i costi e possibili menu da porre e abbiamo individuato tre proposte di scelta per pranzo e cena Infine abbiamo pensato a due itinerari culturali da svolgere al termine dei lavori del meeting per accompagnare i partecipanti nei luoghi significativi della città Come primo passo abbiamo fatto una ricerca dei luoghi significativi di Pesero e abbiamo contattato alcune guide turistiche della zona Abbiamo richiesto i preventivi per due vidite guidate e abbiamo richiesto i preventivi per due vidite guidate in lingua inglese e individuato insieme due percorsi da svolgere nella prima e nella seconda giornata Abbiamo anche pensato di inserire un'indicazione in merito al transfer per raggiungere le città di Pesero dall'aeroporto Il secondo obiettivo prevedeva l'ideazione di materiale promozionale in lingua inglese da fornire il giorno del meeting all'interno della cartellina e creando una presentazione del territorio Per la cartellina abbiamo ricercato, esplorato e esportato informazioni del sito Per la cartellina abbiamo ricercato e esportato informazioni nel sito Per la cartellina abbiamo ricercato un piccolo brochure in lingua inglese che mette in luce gli aspetti principali della città tra cui il paesaggio, la cultura e l'attività economica Come ultima settimana è stata la realizzazione di una presentazione della città di Pesero in lingua inglese in cui abbiamo messo a luce le principali caratteristiche di Pesero e dintorni la presentazione è stata mostrata durante la giornata di apertura del meeting Grazie per l'attenzione Grazie ragazzi anche in questo caso un progetto di problem solving avete lavorato sull'incoming, sulla promozione della città e ovviamente anche sullo spettro dell'internazionalizzazione perché il tema tecnico dei temi appunto che devono essere declinati appunto all'azienda è messo chiaramente Se non avete altro da dire, proverei a tornare dalla terza G No, 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 aspetta Make my future Ci siete con l'audio adesso? Cendere la cara No, no, aspetta Noi ora vi sentiamo C'è qualche problema? Eccovi Vi dividiamo in attre sitten Eh Prego Eh, Ph.D. Dobbiamo presentare Ci sentite? Sì Certo Allora prego con la presentazione del vostro Make My Future. Andiamo poi per la presentazione successiva a prepararsi la terza RIM della Donati e la terza SIA. Appena la terza G turistico Fano è pronta, noi siamo qui ad ascoltarvi. Ci sentite? Ci sentite? Scrivete l'indirizzo. Vedo invece sulla sfondo la professoressa Moretti, del Donati di Postegore. Voi eventualmente sareste pronti o avete bisogno di un attimo di tempo? Siamo in giro. Se potete prepararvi, proprio in base alla scaletta, prepararvi qualche minuto prima. L'audio, vai. Ok, noi siamo pronti se dobbiamo partire noi. Allora magari così diamo qualche minuto al terzo angi turistico di Fano per tutti i collegamenti e per la presentazione. È il bello della diretta ragazzi, del resto è un momento formativo per cui... Allora passiamo la parola alla Donati di Fussonbrone, la terza RIM, per il progetto di una proposta di piano editoriale di comunicazione aziendale della Pedini Spa. Prego. Condividiamo schermo. No? Sì. Sì, ora vi vediamo. Il referente del progetto è Francesco Verabiglia. No. No, io sono... Mi ha chiamato Francesco Verabiglia. Quanto è questo per cercare di... Ma al progetto non sanno chi sono è meglio. No, ti hanno chiamato Francesco Verabiglia perché, se non erro, è la persona, il referente aziendale, con cui si fa un incontro a suo tempo al quale tu hai partecipato, giusto? E' preferente. Ah, va bene, va bene. Io sono un po' ferma luce. Sì, sì, va bene. Dai, dai. Buongiorno, siamo il referente dell'Istituto Donati e questo è il nostro lavoro per il CTO, in cui abbiamo preso in esame l'azienda Pedini. Iniziamo parlando della comunicazione aziendale, ovvero di tutte le azioni di comunicazione che compie un'azienda e si divide in comunicazione interna, ovvero di come vengono informati i nostri dipendenti e di come vengono fatti partecipare all'attività interna dell'azienda e la comunicazione esterna, ovvero quella composta da fornitori e clienti. L'obiettivo di questa comunicazione è quella di dare un'immagine uniforme dell'azienda su tutti i canali in cui operano i vari dipartimenti dell'azienda e per raggiungere questo obiettivo i dipartimenti dell'azienda collaborano a Stagio di Pro. Riguardo alla comunicazione esterna, qua abbiamo un'immagine che viene rappresentato il fito scambio di informazioni che abbiamo durante la comunicazione e oltre ai dipendenti, un altro soggetto di contatto importante sono i clienti, ovvero visitatori che siamo riusciti a indirizzare nel modo giusto per renderli interessati nel acquistare il nostro prodotto e quindi farli diventare clienti che successivamente compreranno altri prodotti e si fidelizzeranno. Questo è il primo passo per il contatto fra la comunicazione aziendale e il marketing. Altre azioni che deve compiere l'azienda, per esempio quella di tenere contatto con i clienti in ogni modo possibile, infatti per i clienti che non usano la tecnologia è consigliato usare ancora le emittenti radiofoniche o la televisione, per i clienti invece che sono un po' più moderni tecnologicamente possiamo usare i siti web e i social network. Importante per l'azienda anche esaminare il mercato in cui opera per poter trovare i migliori modi per vendere il proprio prodotto e analizzare la propria concorrenza, perché naturalmente insieme alla nostra azienda ne abbiamo altri rivali che offrono il stesso prodotto nel nostro stesso mercato e quindi l'azienda deve trovare un modo per rendere più vasta la vendita del nostro prodotto. Oltre ai clienti e ai dipendenti nella comunicazione esterna abbiamo anche gli azionisti e gli investitori e altri partner commerciali. Per queste persone dobbiamo mantenere rapporti e trattarli con cura, perché da questo traspare la professionalità della nostra azienda e abbiamo un'idea ferma dell'identità della nostra azienda. Passerò però alla Sara. Allora, il Brantadini nasce nel 1957 con sede a Lucrezia di Cartoceto e nel 1992 ha questa evoluzione in chiave più industriale, anche se ha mantenuto i valori tradizionali artigianali. Nel 2000 espande la sua produzione anche in tutto il mondo e nel 2016 nasce lo showroom in occasione del sessantesimo anniversario e appunto si trova a Lucrezia di Cartoceto e offre i servizi di cucina, living e bagno e si apre sempre di più verso un mercato estero, in particolare verso la Cina. Nonostante i nuovi mercati e comunque le scelte innovative dell'azienda, l'azienda non registra sempre andamenti positivi, infatti si vede che nell'andamento dell'utile del 2019 e del 2020 ci sono delle perdite, anche se nel 2020 sono minori. Passo parola a Rachela. Allora abbiamo analizzato la visibilità e la conoscenza del brand Pedini tramite una piattaforma chiamata Google Trend e tramite questa piattaforma abbiamo ricavato dei grafici. Il primo grafico rappresenta la ricerca appunto di Pedini che è diciamo altalenante nel corso appunto dei 12 mesi. In questo secondo grafico abbiamo analizzato la ricerca però a livello regionale, possiamo notare che le ricerche maggiori sono state fatte nel centro e nel nord Italia. Nel terzo grafico abbiamo confrontato Pedini con altre aziende più o meno dello stesso settore e abbiamo visto che Pedini diciamo è quella meno ricercata mentre Rub è quella che è quella che è più ricercata tra tutte. Passo la parola a miei compagni. Allora abbiamo analizzato il sito Pedini S.P.A. attraverso gli approfondimenti delle ricerche che sono immerse durante lo sviluppo del progetto. Per analizzare in meglio il sito abbiamo formulato delle domande di IDA a cui abbiamo risposto per riorientarci. Il sito Pedini S.P.A. si presenta come istituzionale in quanto permette di identificare l'azienda nel web e nel sito risulta disponibile il responsabile delle comunicazioni, responsabile delle vendite e Raniero Maracchini ma non c'è responsabile delle comunicazioni. Analizzando il sito risulta che Pedini usi quattro social Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Però nessuno dei quattro social ha un piano editoriale. Hanno pochi post, pochi commenti, poche visualizzazioni, pochi tweet, pochi like e no insight. In conclusione si è didotto che l'azienda ha un'insufficiente attenzione alla comunicazione, ha un'inadeguata interazione con il cliente e poca conoscenza e visibilità. Passo la parola a Bader. I consigli che diamo per Pedini è quella di avere una pubblicità, magari utilizzare TV e radio per sponsorizzare i propri prodotti, mandare delle pubblicità ogni giorno oppure quelli più mirati, quindi dopo show televisivi come ad esempio Masterchef. Usare jingle e slogan come frase d'effetto oppure motivetti orecchiabili, degli eventi per comunicare direttamente con i clienti e delle collaborazioni con l'influencer per sponsorizzarsi sui social media. Il pen editoriale per la programmazione della comunicazione aziendale è quello di avere dei target, degli strumenti, dei canali, contenuti, pianificazione, approvazione degli obiettivi. Come appunto per gli obiettivi dobbiamo avere un buon risultato come raggiungere magari più follower su Twitter o aumentare il numero di visite sui propri siti. Target, capire e decidere a quale pubblico riferirsi, oppure come contenuti quindi delle tematiche da trattare o delle keywords, quindi delle parole chiavi, canali, quindi decidersi su che social network o blog, magari avere più aggiornamenti, quindi avere magari più frequenza di pubblicazione perché appunto è importante pubblicare costantemente post articoli per mostrarsi più presenti sui social. La nostra proposta del piano editoriale per Piedini è quella di aumentare la visibilità brand in Italia, come appunto magari la Lube che usa più TV e radio, quindi che magari ha più impatto, è meglio utilizzare appunto questi canali per raggiungere il proprio target, magari con una frequenza che può essere dai 20 ai 30 secondi per almeno un anno e qua in questa tabella abbiamo appunto diversi target e quindi i rispettivi canali da utilizzare sia nella comunicazione e la frequenza durata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a voi ragazzi, complimenti per il lavoro fatto di questa campagna di comunicazione, forse vedremo le pubblicità dopo Masterchef, secondo il vostro suggerimento. Chiediamo allora la terza G se questa volta è pronta, se ci siamo. Eh sì. Beh, allora la parola è tutta vostra e prego per la presentazione dell'elaborato. Allora, buongiorno, siamo la classe terza G turistico del Polo 3 di Fano. No, 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 no. Avevamo due obiettivi. Il primo è di realizzare una proposta per il pacchetto di accoglienza rivolto ai partecipanti e il secondo è di creare del materiale promozionale del territorio in lingua inglese. Gli obiettivi più importanti sono stati acquisire conoscenza del pacchetto viaggio delle sue fasi organizzative, imparare a rapportarsi con le strutture del settore turistico in autonomia, utilizzare la lingua straniera e la sua terminologia specifica nel settore turistico e recettivo, imparare ad organizzare i tempi di lavoro seguendo un processo dalle fasi iniziali fino a quelle finali, acquisire la conoscenza del territorio locale e della sua specificità e saper presentare prestare attenzione ai dettagli e alle informazioni dati in autonomia e aumentare l'interazione tra i compagni, favorire il dialogo, la partecipazione e la collaborazione. Allora, abbiamo creato un pacchetto turistico di accoglienza per i professionisti presenti alle due giornate del meeting, individuando hotel, ristoranti e attività culturali da svolgere al termine delle due giornate, tenendo conto del budget definito. Il primo step è stato la ricerca delle strutture ricettive adeguate rispetto alla sede dei meeting, al costi e alla recensione. Abbiamo contattato le strutture, individuate e richiesti preventivi. Dopo un'attenta analisi di esti, abbiamo definito due proposte compatibili con le richieste e il rapporto qualità-prezzo. In seguito, siamo passate alle proposte di ristoranti selezionati in base alla vicinanza dei meeting e alla tipologia, privilegiando ristoranti di cucina locale. Dopo una fase iniziale di contatto telefonico, abbiamo creato due proposte per pranzo e cena con relativi menu. Una proposta per il primo giorno e una per il secondo giorno, con i rispettivi ristoranti. Il menu offerto da ognuno dei due per il pranzo e la cena, con relato ai costi. Infine, abbiamo pensato a due proposte di itinerari culturali da svolgere al termine dei lavori del meeting, per permettere ai partecipanti una visita della città. Dopo un iniziale studio del territorio, abbiamo contattato diversi musei e alcune guide turistiche della zona. Abbiamo richiesto i preventivi per due visite guidate in lingua inglese e individuate insieme due proposte compatibili con gli orari e le distanze percorribili senza la necessità di utilizzare mezzi pubblici. Allora, il secondo obiettivo prevedeva la creazione del materiale promozionale in lingua inglese da fornire il giorno del meeting. Per la cartellina abbiamo contattato gli ITA della zona per visionare e selezionare il materiale promozionale di Pesaro, della provincia e della regione Marche, già esistente. Poi abbiamo estrapolato alcune informazioni dal materiale cartaceo e online, creando un volantino di benvenuto. Tutti i materiali selezionati e il flyer creato sono stati inseriti nella cartellina consegnata al meeting. L'ultimo step è stata la realizzazione di un video promozionale della città di Pesaro in lingua inglese, realizzato sulla piattaforma Canva, che purtroppo non riusciamo a far vedere per motivi di tempo. Abbiamo delineato le caratteristiche di Pesaro, la sua storia, le sue tradizioni culinarie, i luoghi della cultura e gli aspetti economici e turistici della città. Grazie per l'attenzione e ci scusiamo per il disguido. Grazie a voi ragazzi, grazie della vostra proposta di incoming. Ora, se la terza sia Donati di Cusombrone è collegata, li vedo già in video, prego di attivare l'audio per la presentazione di una proposta di una strategia comunicativa dell'azienda Pedini Spa. Il referente è Andrea Brunetti, mentre il referente aziendale è Francesco Verdini. Donati, siete con noi? Sì, sì, stiamo arrivando. Benissimo. Allora. Prego. Si vede, stiamo di sì? Ciao a tutti, siamo della classe terza sia dell'Istituto Luigi Donati di Fossombrone e abbiamo partecipato a questo progetto chiamato Learning by Doing in collaborazione con Confindustria, in questo per il nostro PCTO. Durante questa attività abbiamo analizzato il piano di comunicazione pubblicitaria della Pedini SPA. Dall'esame del sito aziendale della Pedini abbiamo visto che il mercato si divide in due aree geografiche nettamente diverse. Da una parte troviamo il mercato domestico, mentre dall'altra parte troviamo il mercato estero. Nel mercato domestico è presente una vera e propria catena di distribuzione, mentre invece nel mercato estero sembra agire prevalentemente come contattor, nel senso che partecipa ad appalti medio-grandi, alla quale fornisce decine e centinaia di mobili per cucine e bagni e per la realizzazione di edifici completi. Quindi abbiamo praticamente limitato la nostra analisi al mercato domestico, che è il mercato prevalentemente sviluppato in Italia, ma anche in altri paesi dell'Europa e anche se in minoranza in alcuni paesi del Nord America. Come sappiamo il mercato è suddiviso in vari gruppi o segmenti. Questi segmenti sono caratterizzati da vari consumatori che hanno stessi interessi. Bisogna quindi capire in quale segmento troviamo l'azienda Pedini. Abbiamo tre diverse tipologie di segmenti, segmento basso, generalista e medio-alto. Il segmento basso è caratterizzato da continue offerte ed è importante appunto il prezzo proprio per questo motivo. Abbiamo ad esempio l'IKEA o Mondo Convenienza. Poi c'è il segmento generalista che qui il prezzo non è molto importante o perlomeno nella media diciamo, ma c'è comunque un piano strategico e è caratterizzato da una continua comunicazione anche tramite pubblicità e sponsorizzazioni. Abbiamo poi il segmento medio-alto nella quale abbiamo per esempio la Ernesto Meda o la Dada e ci sono marchi di nicchia, cioè fasce di consumatori ben specifici. E appunto nel segmento medio-alto troviamo la Pedini S.P.A. Buongiorno, allora, come se va Giubbacchi? Ok, dall'analisi del sito della Pedini abbiamo notato che si trova nel segmento medio-alto dell'impresa, del mercato. Essendo un segmento di nicchia con consumatori ad alto reddito, di cultura elevata, non è semplice suggerire una strategia comunicativa. E queste strategie sono infatti rivolte alla massa di consumatori in cui il cliente del segmento alto non si riconosce. E poi la prima strategia comunicativa è che praticamente i clienti per la progettazione delle loro abitazioni si rivolgono ad architetti, ad eredatori, e questi professionisti devono mandare poi, devono mandare i clienti a vedere i prodotti della Pedini S.P.A. Allora, un'altra strategia comunicativa può essere anche la programmazione di possibili uscite pubblicitarie su delle riviste o dei siti di architettura, riguardo soprattutto a delle ville o a costruzioni simili. Deve essere anche considerata una politica attiva nei confronti della media del settore in modo che si possano realizzare ville o comunque, come detto prima, costruzioni simili che possono essere oggetto di recensioni o così via. E in modo che anche in queste recensioni possano essere descritte anche riguardo alla Pedini Cucina. Comunque si parli anche della Pedini Cucina. E l'ultima strategia comunicativa può essere anche quella di analizzare i comportamenti dei consumatori del segmento medio-alto in modo da capire quali siano i loro interessi e creare delle pubblicità sui media del settore che possano portare a più clienti rispetto a delle campagne generiche e generaliste che non sono rivolte a nessun genere di cliente specifico. Come ad esempio degli interessi dei clienti medio-alti possono essere l'alta moda, le macchine, le auto sportive o comunque anche la nautica. Grazie mille. Buongiorno. Hanno terminato, eh sì. Adesso interrompiamo la condivisione. Grazie mille del vostro contributo. Complimenti ancora ragazzi. Ora chiediamo se sono con noi del Bravante Genga di Pesaro la quarta T e quarta H. H. Ci siete con noi per la presentazione? Intanto chiedo anche alla terza E sia del Bravante Genga di Pesaro di prepararsi per la presentazione successiva. Quarta H. Non vi sentiamo, né vi vediamo. Quarta H e quinta T. Ci siete? Proviamo a chiamare allora la terza E del Bravante Genga. C'è qualcuno del Bravante Genga, forse. C'è qualcuno dal Bravante della terza E o quinta T? C'è qualcuno dal Bravante Genga di Pesaro di prepararsi per la presentazione successiva. Non abbiamo nessuno del Bravante? Proviamo a scorrere con la terza F rim. Dunque, l'indirizzo tecnologico quarta H del Bravante. Non vedo collegato. La terza E sia, sempre del Bravante. Buongiorno, noi vi lasciamo perché dobbiamo continuare la giornata a fare lezioni che siamo alla fine dell'anno, quindi ci ricollegheremo il 30 per la premiazione. Benissimo, grazie a tutti. Buongiorno, buona giornata. Arrivederci, grazie. Buongiorno, buona giornata. Grazie, buongiorno. Allora, proviamo a richiamare la quinta T e quarta H del Bravante Genga di Pesaro. Non li sentiamo. Abbiamo quella successiva che è la terza E sia del Bravante Genga di Pesaro. C'è qualcuno? Ambrogiani? Provo a scorrere l'elenco. Vediamo se c'è la terza F rim del Bravante Genga di Pesaro, con Danilo Baiocchi come referente. Proviamo allora a chiamarli come si faceva una volta con il telefono e vediamo se riescono a collegarsi. Infatti li sto contattando, se intanto magari vuoi anche ricordare un pochino perché le modalità di collegamento abbiamo inviato una scaletta, diciamo, oraria, proprio anche per venire incontro a sette di fine anno scolastico, ci sono interazioni, compiti, verifiche, e magari qualcuno che era prevenzato più avanti della scaletta rischia di non essere insomma collegato. Quindi è una mattinata di lavoro con gente che entra e esce dal collegamento. Stessa cosa per gli imprenditori perché anche i differenti aziendali entrano praticamente e escono dal collegamento, seguono la presentazione, però è la prima volta che vedono gli elaborati due ragazzi, nel senso che hanno partecipato, hanno condiviso tutto il lavoro, si sono presentati come azienda, hanno presentato la tematica, però l'elaborato professionale, così come è stato presentato nel concorso, ad alcuni viene presentato, diciamo, in questo momento, mentre ad altri, in altri gruppi, è stato presentato invece in aula in una precedente occasione. Vedo però collegata Costanza Cicerchia che è referente del progetto della quinta T e quarta H dell'indirizzo tecnologico del Bramante Genga di Pesaro, siete collegati. Buongiorno, mi sento. Sì, mi sento. Per attivare anche il video e procederei con la presentazione del vostro elaborato, che è la produzione di un ponte in legno, ciclabile, pedonale e olico, per la Wooden Houses RSRL con il referente aziendale Stefano Dini. I referenti invece dei docenti sono Costanza Cicerchia, Stefano Brandi, Alessandro Fabretti, Michela Iacomucci e Paolo Santi Rocco. Allora, prego ai ragazzi. Lascio la parola ai ragazzi. Bene, grazie. Grazie. Condividiamo un attimo lo schermo. Buongiorno a tutti. Siamo cinque alunni della quinta T e un alunno della quarta H di Rita Bramante Genga. L'azienda a parte della Wooden Houses RSRL ci ha commissionato un ponte in legno che noi abbiamo voluto immaginare nella zona portuale di Pesaro. Adesso vi farò una breve introduzione dell'area di intervento e un breve anticipo dell'obiettivo del progetto. Come già pronunciato, possiamo vedere in alto a sinistra l'area di intervento delimitata in rosso. Qui abbiamo voluto collocare il nostro ponte. In basso a sinistra possiamo vedere un'immagine fatta con un drone della zona. Qui ci troviamo alla fosse del fiume Foglia e il nostro ponte avrà come obiettivo quello di collegare la zona portuale con la spiaggia. L'idea di realizzazione di questo ponte in legno, che sia sia pedonale che ciclabile, nasce proprio dalla volontà di collegare tale percorso alle piste ciclabili già esistenti nelle reti e centi. Come infatti possiamo vedere la bicicletta del Comune di Pesaro e la vastità delle ciclabili che Pesaro vanta. Molto importante, che però ha denominato la città delle biciclette. Però molto più importante è la ciclabile in verde, come possiamo vedere nella zona oggetto di intervento, che percorre tutto il fiume Foglia fino ad arrivare all'interno della città. Sarà il principale collegamento con il ponte. Abbiamo voluto anche implementare un servizio che già da parecchi anni esiste a Pesaro, cioè il bike sharing, che si troverà subito dopo il ponte, cioè il noleggio di bici. Adesso vi farò vedere una breve introduzione. Allora, cliccavo lì, credo c'è. Farò vedere una breve introduzione, un video introduttivo. Grazie. 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 Ci hanno riferito che l'audio, mi sa, non si sente. In quest'altro video, come farò vedere, possiamo osservare invece il luogo che è stato oggetto di intervento. Questo video è stato realizzato tramite l'utilizzo del drone. Questo rilievo è stato svolto tramite l'utilizzo di un'adeguata strumentazione che è stata appunto fornita dal nostro istituto. La strumentazione utilizzata, come ho già detto, è il drone e la stazione totale. Il luogo è stato scelto perché la distanza tra le due sponde era la distanza più corta rispetto lungo il fiume Foglia. E in questo video, come è già stato detto in precedenza, possiamo quindi osservare la spiaggia e la zona portuale. A sua volta possiamo anche dire che per procedere quindi ad un'adeguata progettazione del nostro ponte si è rilevato tutta la zona. E dopo aver rilevato la zona, i dati sono stati inseriti all'interno di una tabella che in seguito vi farò vedere. E questa tabella identifica infatti tutte le distanze, quindi le distanze orizzontali, verticali e i vari dislivelli e le relative quote dei punti a punte che abbiamo battuto. Invece in alto a destra possiamo osservare la restituzione grafica del nostro rilievo con anche l'inserimento del nostro progetto del ponte. Invece a basso a destra possiamo osservare la vista satellitare del nostro posizionamento del nostro ponte. Il ponte consiste in tre percorsi, due laterali che sono ciclabili e uno invece in mezzeria che invece è pedonale. Agli estremi abbiamo un totale di 16 box charge bike e delle panchine e in totale anche quattro paleolite. Attraverso il prospetto e la planimetria possiamo apprezzare questa forma particolare e in planimetria soprattutto questi percorsi laterali curvilini. Attraverso questo video riusciremo a capire meglio questa forma che è particolare, non semplice e in mezzeria nel percorso quindi in centrale abbiamo una scalinata che ci permette di avere una visuale panoramica di 360 gradi su tutto l'ambiente circostante. I percorsi laterali sono praticabili non solo in bicicletta ma anche attraverso le sedie a rotelle e noi infatti volevamo che questo ponte non fosse una semplice rampa di ognuno tra due limiti di terra ma che diventasse simbolo di una città sempre più ecosostenibile e a proposito di inglobare sui quanti. Per quanto riguarda invece la relazione di calcolo abbiamo utilizzato il PM del 17 gennaio del 2018 che appunto ci fornisce uno schema di carico della folla compatta pari a 5 kg di m2 e abbiamo utilizzato un materiale di legno che è il GL32H per tutta la struttura. Per quanto riguarda appunto la struttura abbiamo utilizzato per apista ciclabile delle travi portanti con una sezione 0,20 per 0,60 con interasse di 2 metri che svolgono sia la funzione di parapetto che la funzione portante per quanto riguarda un tavolato di 6 cm e un tappeto di usura di 2 cm. Invece per quanto riguarda la zona più importante di tutta la struttura che è l'arco a tre cerniere abbiamo utilizzato delle travi con interasse di 2 metri e ogni travi di queste è formato da due travi con sezione 0,20 per 2 metri. Queste travi appunto hanno anche la funzione di sostenere l'altro tavolato di 6 cm e il tappeto di usura di 2 cm. In queste travi l'interosso di questo arco a tre cerniere sono collegate agli stralli di 16 e questi stralli diciamo che sostengono le travi trasversali che hanno un interasse di 2 metri e una lunghezza variabile con una sezione 0,20 per 0,40. Da qui possiamo apprezzare anche meglio la disposizione. Per quanto riguarda poi tutte le verifiche abbiamo fatto le verifiche per la pista ciclabile a flessione e taglio. Invece per quanto riguarda l'arco a tre cerniere abbiamo fatto sempre le versioni di taglio mentre le travi trasversali abbiamo verificato deformazione e presuppressione. Per quanto riguarda invece i particolari costruttivi abbiamo qua possiamo vedere le connessioni in acciaio e anche i particolari delle sezioni dei vari passaggi. Ovviamente come precedente anticipato il ponte dovrà essere ecosostenibile. A tale proposito è stata pensata la realizzazione di un impianto eolico che garantisse al ponte un'autosufficienza sia per quanto riguarda l'illumazione in quest'ultimo sia per alimentare il servizio di bike sharing che è stato proposto ai lati del ponte. Le quattro turbine che vediamo nell'immagine appunto che sono collocate nell'intradosso della trave principale forniscono mediamente all'anno appunto grazie a una processione efficace uno dei valori che vanno dai 1000 ai 1800 kilowattora annui. Ovviamente per alimentare tutto il ponte non solo le postazioni di carica delle biciclette quindi il box e il bike sharing è stato necessario anche progettare un'illuminazione che non fosse né invasiva e che non contribuisse a un inquinamento luminoso della città. A tale proposito appunto si è scelto di posizionare delle strisce a led nella parte inferiore sul piano di Calpestio dei percorsi sia acciclabili che pedonali e appunto questo ci garantisce una luce soffusa sul ponte che non va a costituire diciamo un danno e non costituisce di impatto ambientale sulla città. Essendo il ponte collocato in una posizione molto critica alla foce di un fiume è soggetto a un degrado dovuto all'intemperie principalmente e al degrado del sole ovviamente per la durabilità di quest'ultimo ponte si è scelto di intervenire prima impregnando le travi quindi mediante delle vernici chimiche e poi anche un piano di manutenzione che ci garantisse l'efficienza comunque del ponte nel corso degli anni. di manutenzione che dovrà avvenire tra i due dai due a tre anni e comunque ogni qualvolta ci sarà sintomo diciamo di degrado degli eventi strutturali del ponte. Il ponte è fruibile ovviamente in tutte le stazioni dell'anno quindi questa è una foto un po' provocatoria che serve appunto a dimostrare che il ponte è godibile durante tutto l'anno. Per gli elaborati grafici appunto è stato utilizzato il software AutoCAD mentre per i render in 3D il software che ho utilizzato è Archicad e invece per i render in real time abbiamo usato OpenMotion. Grazie ragazzi andiamo verso la chiusura perché abbiamo dei contretti. Abbiamo completato. Grazie. Un progetto molto interessante perché diciamo il ponte è stato già annunciato un paio di anni fa vedremo se arriverà a compimento ma anche questa volta abbiamo una classe che ha risposto a un'esegenza reale del territorio come appunto questo ponte al porto sul Foglia e benissimo grazie ancora del contributo. Ora vedo già il docente Alessandro Ambrogani della terza e sia Bramante Genga di Pesero che presenterà con la sua classe il progetto per la Betrotech SRL di un sito web e comunicazione e analisi contatti. Intanto chiedo alla terza FRIM del Bramante Genga di prepararsi perché il loro sarà l'intervento successivo. Prego Alessandro Arborgani, referente aziendale Davide Broccoli. Buongiorno, chiedo ferma se si sta. Ok, perfetto. Allora, noi abbiamo realizzato uno studio sui dati presi da Google Analytics cioè ci ha dato l'accesso il responsabile Davide Broccoli al sito web quindi abbiamo scaricato dei dati, ci siamo preoccupati di fare delle analisi anzi, no, ci sono preoccupati i ragazzi di fare delle analisi su questi dati per capire come è raggiunto il sito web se è raggiunto, visto che sappiamo che la Betrotech è un'azienda B2B cioè business to business, quindi il target a cui si propone sono altre aziende quindi diciamo lavoro con poterzi quindi avevamo delle aspettative del tipo se è contattata da altre aziende probabilmente diciamo avremmo avuto un accesso più che altro da ambienti desktop piuttosto che mobile altri tipi di informazioni che avevamo in qualche maniera preventivato e siamo andati a vedere su un'analisi vera dei dati se le nostre intuizioni fossero vere oppure smentite adesso ci saranno i ragazzi che sono stati divisi in gruppi uno di quali ha partecipato al studio, l'analisi di una parte di questi dati e vediamo, vi racconteranno cosa hanno trovato, cosa hanno scoperto benissimo, grazie, aspettiamo i ragazzi e ricordiamo sempre che ogni intervento deve essere di 10 minuti al massimo si si fai, fai quello tuo, va sotto c'è la presentazione se vuoi poi non so se si condivide lo schermo quindi si condivide lo schermo qua c'hai il zoom per tornare alla riunione e poi per condividere lo schermo non sono esperto di zoom ah, ora posso fare la presentazione ok, questo è il nostro progetto che abbiamo fatto come classe come ha già introdotto il nostro prof ci siamo impegnati per elaborare dei grafici dei dati utili per l'azienda e per la crescita anche della sua crescita il nostro progetto si è basato sull'elaborazione appunto come ho già detto dei dati, dati grazie a Google Analytics e li abbiamo esposti in dei fogli Excel in modo tale da fare dei grafici e da questi grafici poi fare delle conclusioni utili per l'azienda e anche per la sua crescita qui di seguito troverete i grafici che esporranno appunto i componenti della nostra classe buongiorno allora, questo è il grafico dell'andamento mensile delle visualizzazioni e nel grafico possiamo trovare lo studio delle visualizzazioni ossia il tempo in media in cui gli utenti permangono nel sito vediamo che appunto nel mese di ottobre il sito ha assistito a un picco che ha raggiunto una media di poco meno di 120 secondi quindi due minuti e un altro picco minore ma pur sempre importante per la crescita del sito e dell'azienda e invece quello di marzo qua come possiamo vedere qua esatto che arriva a circa una media di 110 minuti quindi 10 secondi che è un minuto e 50 secondi e poi abbiamo ho sbagliato tutto scusate abbiamo un picco negativo registrato ad aprile e poi subito dopo che è il picco di marzo il prossimo grafico l'abbiamo realizzato noi si tratta delle nuove utenze quindi delle utenze appunto che hanno fatto il loro primo accesso nel sito nel Retrotech qui si può vedere che abbiamo analizzato queste nuove utenze in base agli anni e possiamo notare un notevole incremento negli anni della pandemia 2019, 2020, 2021 e da questo abbiamo abbiamo un attimo concluso che specialmente in questi anni c'è stato un aumento della domanda di queste decorazioni di vetro che produce appunto la Retrotech e di questi prodotti di vetro e quindi un incremento della domanda e questi raggiungendo per esempio PIC come 2764 nuove utenti e quindi questi anni sono stati particolarmente produttivi sono stati praticamente molto molto produttivi ok quindi qui passiamo al prossimo grafico il prossimo grafico che abbiamo studiato il grafico il grafico della durata media della sessione ovvero il tempo di permanenza dei vari clienti all'interno del sito e ci siamo soffermati soprattutto in quello dei vari giorni della settimana e abbiamo concluso che i giorni con più visite sono il lunedì, il giovedì e il venerdì successivamente però abbiamo studiato anche la durata media della sessione nei vari mesi e abbiamo capito che le visite sono maggiori all'inizio dell'anno e poi un andamento decrescente fino ad arrivare a dicembre dove c'è un picco questo è una delle conclusioni generali che abbiamo capito ma poi abbiamo anche siamo andati più nello specifico e abbiamo studiato l'andamento nei diversi anni quindi dal 2017 al 2021 comunque l'andamento è sempre stato molto vario abbiamo avuto sempre un andamento crescente crescente all'inizio e alla fine di tutti gli anni buongiorno abbiamo analizzato anche gli aspetti grafici del sito infatti come possiamo vedere questo sito ha numerose immagini e video che spiegano il prodotto di cui si occupa l'azienda per un'azienda di tale dimensione però il sito potrebbe essere leggermente poco curato quindi potrebbe aggiungere più video che presentino meglio i prodotti e meno immagini e possiamo notare comunque che mostra bene il prodotto di Consasio con questo abbiamo finito abbiamo finito il nostro studio e speriamo che sia stato utile e possa aver aiutato l'azienda insomma aver portato un studio utile dell'azienda grazie mille allora ragazzi ancora complimenti per questa analisi dettagliata nel sito web della comunicazione aziendale chiederei a questo punto se si può collegare il prossimo il prossimo elaborato che è il bravante Genga terza Eferim con il referente Danilo Bajocchi della terza F li vedo in video vediamo se c'è anche l'audio mi date un cenno qualcuno dei ragazzi vedo che si alza e che sta per collegarsi intanto chiedo al liceo scientifico Laura Nabalde di Urbino di iniziare a prepararsi per la terza LES per il progetto successivo vediamo se la terza F RIM del bravante Genga è con noi stanno facendo professor Bajocchi è con noi professore intanto chiediamo alla terza LES del liceo scientifico Laura Nabalde di Urbino se può prepararsi e se fosse pronta di aprire l'audio ecco vedo la terza F ci siete? buongiorno allora vi presento voi siete la terza F RIM del bravante Genga di Pesaro e avete realizzato un elaborato di un sito web per la Petrotec con il referente aziendale Davide Brocchi prego alla presentazione del vostro elaborato e ricordo alla terza LES di Urbino di prepararsi ci siete ragazzi? vi ricordo che l'appuntamento conclusivo di questa edizione sarà il 30 maggio alle ore 10 la cerimonia finale di premiazione con l'assognazione di tutti i premi il premio al finalista e in quel contesto ci sarà una testimonianza di Paolo Manocchi che è coce formatore comportamentale che collabora con realtà come quella della Lamborghini e delle frecce tricolori lo ricorderemo ancora durante questa mattinata di lavori la finale del 30 maggio alle ore 10 la terza F è con noi altrimenti proviamo ad andare oltre con il liceo scientifico Laura Namaldi di Urbino al quale comunque chiedo di prepararsi per la presentazione alla prof Rosaria Pratarelli noi non riusciamo a presentare la nostra presentazione perché in questo momento c'è l'account del prof e possiamo presentarlo semplicemente noi a voce però non abbiamo la presentazione sotto quello è il problema magari potete provare ad uscire ed entrare con il vostro account nel frattempo noi andiamo avanti con il gruppo successivo cercate di fare ecco veloci in modo che rispettiamo poi la scaletta nella speranza che il gruppo successivo che era in calendario diciamo per l'orario tutto dopo l'economico sociale sia collegato sia pronto visto l'anticipo della presentazione c'è la docente Rosaria Pratarelli per la terza LES di Urbino del ceo scientifico Laura Namaldi buongiorno buongiorno eccoci allora andiamo subito con voi siete pronti? siamo pronti abbiamo i nostri sei gruppi che sono desiderosi di presentare i loro lavori bene allora vi presento avete realizzato un progetto di creazione di imprese dell'agricurismo di Pavignano per l'azienda BP Cube SRL con i referenti i docenti aziendali che sono Enrico Battistelli Paolo Tafini Emanuela Cepetelli prego con il vostro progetto il secondo solo approfitto per salutare la preside che vedo in collegamento la preside Guidi buongiorno ringrazio molto di questa opportunità di nuovo noi questo progetto ecco questa mattinata l'abbiamo dedicata proprio volevamo che i ragazzi si cimentassero nell'esposizione è un momento formativo proprio in stile learning by doing quindi diciamo non abbiamo fatto fare quanti interventi o altre cose anche a referente aziendale o quant'altro proprio per diciamo dare spazio a loro bene ecco grazie già vediamo l'anteprima dell'agriturismo di Pavignano prego ragazzi il turismo questo è il logo dell'impresa l'impresa nasce in Sicilia nell'anno 2020 grazie alla redizione di Alessia Sareb emanate cresciute nelle campagne della Sicilia innamorate del loro territorio l'agriturismo di Pavignano è caratterizzato dall'amore per la natura e il desiderio di accogliere i clienti in un posto in cui possano rilassarsi e rilassarsi dalla vita di città la nostra impresa è stata creata con l'obiettivo di portare serenità benessere un stato di relax e il staccamento di pensieri negativi gli obiettivi futuri dell'impresa sono un'impresa più allargata anche verso l'estero e più agibile per i corsi di cittadina con etica lo slogan è esplora il benessere le offerte sono cibo a volontà offriamo ai clienti la prima colazione che è un pasto a scelta attività green bambini adulti ed anziani sono invitati a svolgere attività legate alla scoperta della natura e all'allavamento degli animali fibra anche qui la nostra impresa mette proprio la nostra impresa in sicilia vale alcantara per mangiare il numero 16 la scelta del luogo legata alle nostre origini siciliane i punti forza dell'impresa sono agriturismo adottati dalle gole dell'alcantara con lo suo interno un parco botanico escursione a piacere presenza di stala privata con diversi tipi di animali con cui i bambini possono divertirsi le debolezze dell'impresa sono lontanze dalla spiaggia problema risolvibile con la costruzione della piscina mancanza di un mediatore linguistico per la comunicazione con i clienti stranieri problema risolvibile con l'assunzione di un dipendente con buone competenze linguistiche è il nostro desiderio che anche le future generazioni continuino l'attività cercando sempre di migliorare l'impresa allora il progetto è quello dell'attivismo di Paglignano allora io sono Sara questa esperienza di PCTO ci ha messo in gioco come gruppo classe e grazie all'aiuto dell'azienda di PCCube abbiamo creato questo start up per promuovere il turismo che è un settore che può offrire lavoro anche a noi giovani sono Alessia e grazie a questo progetto in massivo ci siamo messi in gioco per costruire grazie a tutti grazie a tutti quindi questo primo gruppo ha presentato e terminato la sua presentazione sono aperte a delle domande se ci dovessero essere grazie allora del contributo no direi di passare direttamente al secondo gruppo della vostra classe con la creazione d'impresa del progetto Sampaz sempre per BP Cube con i referenti aziendali che sono Enrico Battistelli Paolo Caffini Emanuela Ceppetelli e se quando siete pronti noi vi ascoltiamo con grande interesse come è stato per tutti i gruppi per tutte le classi che abbiamo ascoltato fino ad ora con progetti veramente interessanti e soprattutto concreti di realizzazione di siti di aziende di progetti di ponti quindi siamo veramente calati nel territorio con tutte le sue peculiarità e tutte le sue esigenze i suoi bisogni prego allora al secondo gruppo salve siamo Filippo De Luca Caminaghi Simone Alessandro Rossi e progetto di impresa Sampaz e e ah sì il powerpoint devo un attimo presentare il powerpoint questo sì un attimo si vede vero? sì ora lo vediamo grazie allora il nostro progetto tratta della produzione musicale in modo privato quindi che tutti possono produrre musica tramite un'applicazione che in primo momento sarà cioè è gratuita il download sarà gratuito e anche l'uso all'interno dell'app è gratuito e diciamo come ho detto prima serve per produrre la musica e anche per far conoscere la musica in tutti i suoi aspetti quindi un'educazione per la musica il nostro slogan è Sampaz notte del tuo spartito che riprende il vecchio proverbio farina del tuo sacco diciamo e quindi abbiamo diciamo unito l'innovazione con la tradizione ci è venuto in mente di creare un mock-up ovvero un'idea di merchandising online perché sarebbe bello che tutti possano indossare ad un prezzo molto accessibile dei capi come il nostro loro sia per pubblicità e per dare a tutti le stesse opportunità e l'applicazione riguarda la produzione di musica sia come professionista ma soprattutto anche come principiante per iniziare e in più ha uno scopo di far conoscere la musica in tutti i suoi aspetti quindi soprattutto uno scopo culturale la nostra mission è quella di rendere l'app accessibile di allargare il mercato e di effettuare alleanze oppure distruggere le altre applicazioni rivali sono Simone i nostri punti di forza sono che il download dell'applicazione e l'uso sono sempre gratuiti l'applicazione serve per conoscere tutti i generi musicali sarà intuitivo nell'utilizzo e interattivo e sarà in grado di creare musica propria sia con scopo lavorativo sia per divertimento siccome risiediamo nelle marche vorremmo partire con la diffusione dell'applicazione nella regione in futuro anche in varie altre regioni italiane e magari un giorno gestiremo anche a toccare l'Europa e il nostro powerpoint è molto sintetico però semplicemente grazie alla nostra forza per la comunicazione e vorremmo ringraziare soprattutto il supporto che ci ha fornito l'azienda BBQ e se hai qualche domanda ci siamo risposti quindi è un'app sostanzialmente che potrebbe andare sul mercato e sarà scaricabile su tutte le piattaforme diciamo principalmente per una questione di mobile molto più applicazione mobile che software per computer perché ce ne sono professionali quindi noi puntiamo più sul fatto della produzione propria più a un fatto di far conoscere la musica perché non è sempre scontato che qualcuno sappia cos'è bene allora grazie ragazzi speriamo di vedere attiva questa app torniamo da voi fra poco ma prima dobbiamo ridare la parola alla terza F RIM del Bramante Genga che mi ha detto essere pronta con il loro progetto di sito comunicazione e web reputation per la Vetrotech referente e il prof Danilo Baiocchi mentre referente aziendale è Davide Broccoli terza F siete con noi questa volta? Sì ci siamo benissimo allora spiegateci che cosa avete fatto qual è stato il vostro percorso per arrivare a questo elaborato un attimo che presentatemi lo schermo vi vediamo ma avete disattivato l'audio ecco ora risentiamo prego allora l'azienda scelta era la Vetrotech un'azienda del pesarese si occupa di progettazioni con il vetro e per altre aziende quindi non vende a insomma privati ma ad altre aziende appunto il nostro compito era quello di analizzare il sito dell'azienda e appunto segnare eventuali problemi o mancanze in questo sito e quello che abbiamo trovato che abbiamo riscontrato appunto analizzando il sito è la mancanza delle lingue straniere quindi magari è dovuto il fatto che l'azienda ha solo un mercato a livello italiano non internazionale però comunque dal nostro punto di vista almeno l'inglese dovrebbe essere presente nel sito la possibilità di avere il sito in inglese e un altro problema già più importante secondo noi è la mancanza di Instagram i social network ormai più utilizzati anche più di Facebook e in generale la scarsa attività su tutti i social per Instagram e Facebook abbiamo pensato un piano editoriale e in generale un post a settimana per la sponsorizzazione delle produzioni particolari quindi magari non generale come presentazione dell'azienda ma più come particolari e cose diciamo peculiarità dell'azienda e un post una storia settimana per la comunicazione della presenza dell'azienda a eventi o chi era comunque legate al settore dell'azienda e quando è necessario se c'è magari bisogno per l'azienda di un nuovo personale esplicitare queste richieste anche nei social soprattutto su Instagram perché ovviamente è utilizzato dai giovani e infine per Pinterest quindi social diciamo diverso rispetto a Facebook e Instagram e abbiamo pensato sempre un impegno da parte dell'azienda nella realizzazione delle foto e video di alta qualità sempre per prodotti particolari quindi non in generale dell'azienda ma per delle particolarità legate all'azienda e anche magari video e foto del personale per acquisire visibilità sul social per quanto riguarda questo tipo di produzione quindi per prendersi diciamo questa fetta di social di Pinterest e questo è tutto quello che abbiamo riscontrato all'inizio abbiamo trovato un problema dal punto di vista della protezione informatica del sito ma è stato risolto da pochi giorni bene ragazzi è importante la comunicazione per un'azienda sicuramente molto ovviamente bisogna anche capire diciamo che tipo di comunicazione per esempio per un'azienda sicuramente LinkedIn è più importante che magari TikTok comunque in generale quello che abbiamo pensato vedendo l'azienda è che insomma il social su cui sono più attivi è Facebook e appunto questa mancanza di Instagram che secondo noi appunto è una grave mancanza perché appunto ormai è diventato il social più utilizzato quindi per adattarsi ai tempi dovrebbero colmare questa nuova secondo noi grazie ancora vediamo se la VetroTech recepirà la vostra istanza e ora ritorniamo di nuovo alla terza less del liceo scientifico Laurana Balti con il progetto della creazione di impresa XS con i ragazzi Cristina Macri Ilaria Santi Erida Camema Nicole Moreira se siete collegate vi vedo già vi chiedo di presentare il progetto sempre per l'azienda BB Cube Enrico Battistelli Paolo Taffini Manuela Cepetelli prego ragazzi un attimo come si vede no? un attimo abbiamo un problemino tecno però come si vede questo questo come si toglie è portato la potenza sopra tranquilli fa parte del gioco come ho detto prima è il bello della diretta questo e siamo tra l'altro siamo nei tempi quindi ecco qua ci siamo bello della diretta siamo riusciti tutto bravissime bravissime salve noi siamo Ilaria Erida noi frequentiamo liceo delle scienze umane così abbiamo pensato a creare un progetto che si occupi del sociale l'applicazione XX vale a dire sex abbiamo giocato con le parole dal momento che il discorso è inerente alla sessualità è ancora un tabù per molti giovani e l'obiettivo a cui vogliamo arrivare è combattere i pregiudizi e l'idea che era stata creata negli anni passati un altro obiettivo è limitare il più possibile la diffusione di fake news allora il punto di forza di questa app è che i ragazzi potranno utilizzarla senza disagio perché sanno che dall'altra parte ci saranno solo esperti la nostra app vorrebbe collaborare con le scuole per far sì che si conosca bene questo argomento affinché i giovani siano più consapevoli di fronte alla vita questa app è disponibile su Play Store e App Store in modo gratuito così per renderla disponibile a tutti grazie per questa opportunità grazie a voi ragazze grazie di questo è un argomento delicato appunto nella fase adolescenziale e questa app potrebbe davvero contribuire a come avete detto voi essere più consapevoli nell'affrontare questa tematica se non avete altro da aggiungere io passerei sempre nella vostra classe al progetto di creazione d'impresa il viaggio del risparmio con i ragazzi Linda Occhineri Gaia Montanari Sofia Pazzaglia Benedetta Sacchi Anna Mameli sempre il progetto della terza less dell'iceo scientifico Laura Navaldi per la BPQ se ci siete siamo pronti ad ascoltarvi ci siamo ecco buongiorno allora noi siamo Gaia Montanari Linda Occhineri Benedetta Sacchi Sofia Pazzaglia e Anna Mameli non c'è oggi e abbiamo creato una presentazione sul turismo e grazie alla formazione offerta dall'azienda BPQ abbiamo voluto creare una start-up che promuovesse un settore il settore del turismo che è stato fortemente in crisi negli ultimi due anni e quindi pensiamo che rilanciare questo settore siano delle nuove opportunità di lavoro per noi giovani abbiamo capito anche l'importanza del lavoro di gruppo in quanto le responsabilità sono divise e affrontare un argomento nuovo come questo ci ha permesso anche di metterci in gioco contribuendo ognuna con le sue competenze e sensibilità e non vi nascondiamo che ci sono state anche delle difficoltà ma insieme le abbiamo superate e abbiamo creato una videopresentazione il dato del risparmio come organizzata i componenti dell'azienda sono Indocchineri Gaia Montanari Benedetto Sacchi Anna Mamili e Sofia Pazzaglia idee di base dell'impresa viaggi comodi sicuri e soprattutto economici dare borse di studio aiutare persone con problemi economici il nostro slogan è il viaggio del risparmio la nostra agenzia è un'agenzia di turismo composta da una società di persone nella prossima slide parlerò della compagina sociale i saci di questa azienda sono Gaia Montanari che è la responsabile finanziaria Sofia Pazzaglia è la referente clienti Occhineri Linda è la detta delle produzioni Mamili Anna è la responsabile professionale e Sacchi Benedetta è la referente con il tuo operato come saci abbiamo deciso da prima una partenza che si trova all'anno in 0 e cattolica per permettere ai suoi soggetti di sposti a risufruire agli altri i punti di forza dell'impresa sono maggiore flessibilità e velocità delle risposte all'agenzia servizio personalizzato ampiamente target di clienti invece i punti di levolezza sono scomodi collegamenti aria all'italia servizi turistici adeguati e prezzi alti di servizio come aree verranno scelte le metri gettonate dagli accurenti come gran parte dell'Europa e gli Stati Uniti il successo dell'azienda si baserà sul fatto delle poche disponibilità di agenzie con il tempo oggi sia Covid e guerra le borse di studio accessibili solamente acquistandole per poca carenza economica dello Stato e le poche possibilità di riceverle appunto gratis invece le minacce sono da concorrenza con altre catene di agenzie e poi le rimaste l'aumento dei prezzi in questo periodo appunto con Covid e guerre grazie per averci ascoltato e speriamo che sia piaciuto il viaggio del risparmio com'è organizzata i componenti dell'azienda sono è ripartito volete concludere diciamo volete dire qualcosa riguardo appunto questa particolarità in cui il prezzo fa sostanzialmente la differenza ma non solo che vogliamo appunto offrire alle persone anche con la situazione di adesso una possibilità di poter viaggiare nonostante i problemi economici di tutti comunque sia dello Stato che insomma personali quindi ci impegniamo per questo ecco bene grazie sappiamo che il turismo rappresenta il 13% del PIL nazionale e questa è un'idea di questi ragazzi anche per svegliare un po' gli arrivi le presenze sul territorio e ora passerei sempre nella vostra classe al progetto della creazione di impresa BioCat con i ragazzi Giulia Ridolfi Alice Patarchi Romina Cirlig Veronica Sideri e Sofia Giorgini il progetto sempre per liceo scientifico Laura Nabaldi per PPQ ragazzi che cosa avete realizzato qual è il vostro elaborato e che cos'è BioCat che impresa è buongiorno la nostra impresa che si chiama BioCat rimasta dentro BioCat che tratta della produzione del cibo per pelini è nata come una nuova attività e questo è il nostro logo dell'impresa che è stato fatto a mano da noi il nostro slogan è il Lovit che traduzione italiana sarebbe nomerà nel senso che il pelino amerà i nostri prodotti l'idea dell'impresa è quella di fornire il cibo di qualità per i gatti che garantiranno una buona e saluta l'alimentazione l'obiettivo di fondo è produrre produrre alimenti otterrini con prodotti nel nostro territorio così da rassicurare il padrone dell'assenza di coloranti conservati e gli obiettivi che ci poniamo sono di raggiungere l'espansione della venta dei nostri prodotti a buona parte dei negozi italiani e la nostra attività è l'attività alimentare ed è una società dei capitali SRL la nostra imprese si trova a Ferminano nella zona di destrare abbiamo scelto Ferminano perché è il paese in cui viviamo abbiamo scelto la tua ministra di Ferminano perché abbiamo un po' di esperimenti per le imprese siccome siamo cinque soci abbiamo dato un ruolo a Sospiro ad esempio l'agenzia è la venditrice c'è di domina del territorio dei prodotti nei produttori Viteri Veronica ha detto a fare comerci Vitorio e Giulia ha detto imbaratrice e invece con l'antelice produttrice i prodotti che vogliamo offrire sono crocchette carne e crocchio i croccantini sono del cibo secco adatto a fucce dei cattolini di polvo o manzo la carne invece è una carne ingerata adatto a tutti i cattoli e il cattolino di patente del cibo secco e il cibo secco infine gli snack sono snack croccanti con il fine premoso al gusto di polvo o manzo i prodotti sono disponibili a internet e scritti nelle palle publie e nei negozi i nostri prodotti vengono comprati perché sono originali e di buona qualità e i nostri punti di forza sono la qualità dei prodotti l'ecosostenibilità l'appoggio dell'associazione nazionale dei medici e i veterinari degli altri le nostre tebolezze sono che nel mercato presento molta concorrenza ma possiamo combattere la grazia a nostri prodotti di forza le minacce presenti sul mercato del pet food sono la concorrenza tra le varie aziende che producono i nostri prodotti e per il ritardo dovremmo soddisfare le evidenze che vengono richieste ed è tutto il problema siamo stati finanzati dall'unità del cliente in tutta l'area che è stata disponibile a sponsorizzare il nostro marchio abbiamo stimato un target del 75% e intorno al terzo anno vorremmo arrivare al minimo al 68% e per disponere il nostro progetto dovremmo disponere un valentino e non ci pubblicitari del nostro paese e anche portare all'interno delle case con catarmi con offerte e in un futuro non troppo lontano vorremmo operare il nostro messaggio costituente giocato di con plastica riciclata e riciclata per rimanere ecosistemi più per i costumi metodi ragazzi e altro abbiamo pensato di resitare questo tipo di impesa perché il mondo è il risultato di nuovo di poco lavoro questo può rappresentare una grande opportunità lavorativa rimanendo radicati nel nostro territorio delle masche bene ragazzi se ho capito bene c'è anche un discorso di tracciabilità dei prodotti perché oggi è un tema chiave non solo per l'industria alimentare umana ma anche per il pet food giusto? sì quindi saranno prodotti diciamo in cui c'è tutta una catena una filiera alimentare che viene diciamo descritta nell'etichetta bene allora grazie del vostro contributo e passiamo subito al prossimo gruppo per la creazione di impresa psico online con le studentesse Laura Cosmai Letizia Canti Elisa Elia Ceccarini Veronica Mazzanti e Chiara Brutti sempre del liceo scientifico Laurana Bardi della terza LES e per l'azienda PPQ ragazzi che cosa avete realizzato e che cos'è psico online il nome può darci dei suggerimenti ma vogliamo sentirlo da voi allora buongiorno noi siamo Veronica Laura Letizia Lare Delia e ora vi presenteremo il nostro progetto di impresa allora la nostra impresa si chiama psico online ed è un'applicazione che mette a disposizione dei consulti con dei psicologi specializzati a tutti coloro che ne hanno bisogno in qualsiasi momento dato che è un'app facilmente scaricabile nel telefono allora abbiamo avuto questa idea perché secondo noi è un'applicazione molto utile soprattutto per le persone che hanno ospedità ad andare dallo psicologo questo è il nostro logo il nostro slogan è per risolvere i guai e basta un click e su psico online in questo slide abbiamo sintetizzato quello che noi otteniamo il servizio di psicologi online è disponibile per tutte le età e in ogni momento della giornata garantiamo che i nostri psicologi sono professionisti e garantiamo un servizio accessibile a tutti dal punto di vista economico in questa tabella abbiamo riassunto tutti uguali dei nostri soci come ubicazione abbiamo scelto la zona delle marche perché è un luogo facilmente raggiungibile da tutti i componenti del nostro team poi il nostro obiettivo in futuro è anche quello di espanderci in altre zone d'Italia i nostri punti di forza sono la comodità perché ha portato di mano e il prezzo che sarà accettibile a tutti in modo che possano avere accesso a questo servizio però come in tutte le imprese ci sono anche dei punti di debolezza come il tabù dello psicologo che è uno degli obiettivi principali della nostra impresa ed è cercare di abbatterlo e la concorrenza con gli altri psicologi e il fatto di non avere l'incontro real life allora la fascia di età a cui ci rivolgiamo va dai 14 ai 70 anni per il nostro futuro abbiamo grandi margini di miglioramento se dovessimo vedere che le persone sono interessate del nostro lavoro ci spenderemo creando magari anche gruppi terapia o terapia di cocca come abbiamo detto prima il nostro obiettivo principale è quello di eliminare il tabù dello psicologo che è ancora diffuso nella nostra società in modo che chiunque possa sentirsi libero di esprimersi e avvrirsi senza sentirsi educato con questa applicazione cercheremo di dare alle persone la possibilità di risolvere i loro problemi e farli acquisire la frequenza al liceo delle scienze umane ci ha permesso di scoprire l'importanza nel mondo sociale e grazie a questo progetto noi ci siamo messi in gioco grazie ragazze vi chiedo a questo punto come funziona operativamente io ho un dubbio diciamo mettiamo che ho un problema di stress contatto all'applicazione e voi mi mettete tramite l'applicazione in contatto con uno psicologo professionista? sì quindi diciamo che non ci sono delle facche in cui ci sono delle risposte è una cosa interattiva diciamo giusto? quindi si farà su una rete di psicologi diciamo iscritti all'albo quindi sarà tutto trasparente da questo punto di vista bene grazie ragazzi a questo punto chiediamo intanto di prepararsi la terza A del liceo scientifico Marconi e visto che siete stati tantissimi in questa in questa terza LES non so se la docente referente vuole raccontarci qualcosa di come ha coordinato i gruppi in attesa che il liceo scientifico Marconi si prepari e ci dia l'ok per partire con la presentazione dunque Rosaria Pradarelli Rosaria Pradarelli è ancora con noi le chiedevo avete coordinato tanti gruppi probabilmente tutta la classe divisa in sei o cinque sei gruppi come è stato per i ragazzi confrontarsi con le esigenze reali di aziende del territorio o comunque di bisogni che hanno le imprese per i ragazzi è stata un'esperienza formativa molto importante anche perché molti di loro non hanno proprio avuto esperienze ancora dirette con il fondo del lavoro e quindi essendo stati seguiti anche dall'azienda BB Cube che è un'azienda che favorisce le start up dalla produzione dell'idea all'attivazione dell'azienda per i nostri ragazzi è stato molto importante confrontarsi lavorare in gruppo cosa non sempre facile molte aziende inizialmente sono fallite perché alcuni componenti si defilavano e quindi hanno dovuto saper gestire anche questa caratteristica di lavorare in un gruppo quindi in una futura azienda per cui si sono messi in gioco e alla fine ne sono usciti dei bei lavori e delle belle idee perché l'importante è che questi giovani iniziano con la loro creatività a pensare al loro domani un domani in cui la complessità la fa da padroni ma se loro con le loro risorse le loro capacità e lo spirito di squadra riescono a costruire il loro futuro per noi come scuola è una forza è la nostra carta vincente grazie a voi per questa opportunità che ci avete offerto grazie a voi sappiamo che i giovani sono dei nativi digitali infatti tutti i progetti o quasi vertevano su delle applicazioni quindi diciamo non hanno ostacoli da un punto di vista tecnico certo in questo sono stati loro a gestire l'attività nel senso che il lavoro è stato prevalentemente diretto da ogni gruppo poi dopo i colleghi del consiglio di classe li hanno supportati ma fondamentalmente sono stati loro i protagonisti e avendo la tecnologia loro in mano e parlando il linguaggio dei giovani conoscendo quindi le esigenze che hanno i giovani hanno creato anche questi sportelli di supporto psicologico o amando anche i gatti di produzione di alimenti per gatti e hanno preso la cosa che mi è piaciuta è che hanno preso vari settori dal turismo all'alimentazione all'ecosostenibilità al settore informatico digitale nel quale loro vivono bene grazie ancora allora liceo scientifico Laura Nabaldi chiediamo al liceo scientifico Marconi andiamo di liceo in liceo per capire se sono collegati con noi la terza A con il docente la terza C scusate con la docente Cecilia Misitano siete con noi vedo una classe non è collegato l'audio terza C altrimenti passiamo alla terza A sempre del liceo scientifico che vedo vedo i ragazzi eccoli c'è l'audio sì sì salve allora vi presento voi siete della terza A liceo scientifico Marconi per la creazione di impresa Street Shoes sempre per il docente Iacchini Massimo per la BP Cube che cosa avete realizzato qual è il vostro elaborato e che i vostri shoes presento subito il powerpoint comunque noi abbiamo pensato attento condividi ok mi fa bene a posto ti vedete tutto ci sento più là noi vi vediamo vi sentiamo benissimo e aspettiamo il vostro elaborato la presentazione allora la nostra idea si vada appunto sulle scarpe allora in questo periodo è facile trovare molti appassionati appunto di scarpe però i prezzi sono saliti abbastanza quindi possiamo arrivare anche a trovare scarpe da 300 euro se non di più quindi non tutti possono permettersele facilmente per questo il nostro progetto si basa sulla ristrutturazione di queste scarpe perché poter utilizzare una scarpe che magari già si era comprata in precedenza quindi che magari è vecchia noi la possiamo rimettere a nuovo quindi pulirla ripararla oppure anche modificarla con il progetto di customizzazione qui abbiamo fatto alcuni esempi appunto di scarpe come possono essere trasformate magari da modelli vecchi a cose che comunque possono neanche ritornare più belle anche alla vista quindi questo era un po' una nostra locandina per descrivere un po' quello che facciamo quello che siamo abbiamo deciso di stirare un percorso che percorre il cliente cioè il cliente quando arriva il negozio perché ti basso su un negozio fisico e entra nel negozio e inizia tutto deve parlare con un professionista che lo aiuta a scegliere che tipo di progetto fare innanzitutto sceglie ovviamente se vuole fare una pulizia una riparazione oppure una personalizzazione se si decide per esempio di fare una personalizzazione prima si bisogna creare un progetto idealizzato magari con un disegno comunque per capire come si vuole cioè come verrà poi realizzato sulla scarpa quindi si parla col designer il designer realizza il progetto del cliente e poi se questo progetto piace lo si può creare sulla scarpa se no si riparte da capo e si ricomincia a fare tutto questo processo per decidere i materiali i colori che utilizzano sulle scarpe comunque non tutti i materiali vanno bene perché ogni scarpa è fatta in modo diverso i colori possono anche presentarsi in modo diverso magari su una scarpa un colore rende diciamo in un modo oppure per esempio un verde può rendere più scuro più chiaro un certo materiale quindi abbiamo un consuletto apposta che decide questi materiali per scegliere qual è il migliore da utilizzare con un certo tipo di scarpa poi nel web vorremmo organizzare varie pagine social per pubblicizzarci per mettere tutte le nostre informazioni e dato che il nostro negozio sarà nella provincia di Pesaro la pubblicità sarà finalizzata nella località di Pesaro quindi magari o con influencer locali oppure sulle pubblicità per esempio di Instagram che vengono utilizzate soltanto da coloro che sono in questo momento a Pesaro per appunto perché se la pubblicità arriva magari uno che è di Milano non può comunque intufrire del nostro servizio perché è tra poco lontano e quindi i nostri prodotti sono la pulizia che sta sui 15 euro la riparazione che può variare a seconda sia dei materiali e sia a livello della scarpa perché diciamo se è lì realmente rotta comunque ha pochi problemi andrà a costare di meno rispetto a una scarpa che ha più problemi invece la modificazione e quindi la personalizzazione varia a seconda di quello che si vuole diciamo dal progetto che si vuole eseguire il nostro obiettivo ovviamente è quello di aprire più filiali in giro per l'Italia e quindi diciamo espanderci un po' in tutta Italia questi sono i ruoli e tutti diciamo tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto prima l'abbiamo finito questo era poi entra più una presentazione generale poi ovviamente ci sono vari aspetti tra cui i costi che sono i costi dell'azienda sarebbero ovviamente il negozio se un affitto comunque se è acquistato tutti i vari costi poi i costi dei materiali poi siamo tutti soci quindi non ci sono stipendi veri e propri ma ci spartiamo i guadagni fra noi ragazzi allora vi chiedo visto che tra virgolette si può parlare anche di un progetto che allunga il ciclo di vita di un oggetto se c'è anche appunto l'idea di economia circolare anche in questo senso e i materiali prodotti se vi affiderete dalle aziende sul territorio oppure saranno diciamo già in dote all'azienda vostra non ho capito l'ultima frase mi scusi dicevo se i materiali che andrete a usare per la customizzazione saranno vi affiderete a delle aziende del territorio o avete già dei prodotti in dote per customizzare le vostre schede principalmente aziende del territorio anche per supportare un po' l'economia locale diciamo perfetto se io vi ringrazio se la terza c del liceo scientifico Marconi è pronta darei la parola a loro altrimenti andiamo avanti visto che siamo già nella terza A con il progetto di creazione d'impresa ESCAN sempre per la BP Cube il docente Massimo Iacchini è il referente del progetto e andiamo a sentire allora i ragazzi che sono Stefano Esposito Jacopo Pirini Alice Mainardi Malena Lucia Mondo Giacomo Giacomo Spadoni Edoardo Raffaelle Nicola Surbinati e Daniel Tenti se ci siete noi aspettiamo di capire che cos'è ESCAN e soprattutto a chi vi rivolgete non sento l'audio vi prego di attivare l'audio eccoci vi vediamo e vi sentiamo ok prego buongiorno a tutti buongiorno a tutti noi siamo gli alunni della terza e ora le presenteremo il nostro progetto allora prima di tutto pensiamo proprio in un'impresa in cui si basa tutto sul nostro negozio che proprio come dice la parola ESCAN vuol dire easy scan perché al nostro negozio ci sarà proprio uno guardi uno un bagaggio ok al nostro negozio ci sarà proprio uno scanner che grazie a questo si possono creare proprio un avatar in cui ci saranno comunque tutte le nostre cioè misure e che servirà proprio no che servirà anche ad altri utilizzi che dopo il mio compagno di classe gli rivedrà e in più oltre nel nostro negozio non ci sarà solo l'idea di creare un avatar ma anche proprio di creare vestiti ossia felpe magliette pantaloni personalizzati in cui proprio il cliente può personalizzare o i propri vestiti o anche comunque magliette e felpe che mettiamo a nostra disposizione e saranno proprio anche aiutati da uno stylist e uno stilista che anche questo gli spiegheranno per bene i loro ruoli e proprio a rendere i propri capi dei clienti più unici esemplare e comunque fare un lavoro bello anche visivamente ecco gli avatar saranno presi con le misure realizzate grazie allo scanner e saranno disponibili per i clienti sia in forma con un foglio che nel sito online e questi avatar saranno molto utili ai clienti per una rappresentazione grafica di come gli staranno i vestiti a dorso come prima ha detto la mia compagna abbiamo avuto un'idea cioè quella di inserire in ogni nostro punto vendita uno stylist uno stilista che hanno compiti differenti ma entrambi aiutano a scegliere il proprio stile a creare i propri vestiti e a renderli unici esemplari lo stilista disegna progetta e crea i vestiti che ovviamente tramite la consulenza che ha con il cliente andranno a creare assieme e invece lo stylist mette insieme quello che hanno creato il cliente e lo stilista così da creare uno stile come ho detto prima unico noi appunto in questa in questa slide non sono le offerte nel senso di sconti ma sono offerte che proponiamo al cliente infatti noi nel nostro negozio offriamo sia uno scan uno scan del corpo appunto con creazione dell'avatar ma anche appunto un capo di abbigliamento creato dal cliente e si vuole anche un aiuto nel creare questo questo abito di appunto dei professionisti che saranno all'interno di questo negozio e che aiuteranno appunto il cliente a creare questo questo abito per quanto riguarda le sedi il nostro obiettivo era aprire la prima sede in una grande città italiana in cui potremmo contare su un alto numero di abitanti e quindi avere un maggior mercato e per poi se il progetto dovesse andare in porto e comunque avere una grandissima richiesta potremmo anche pensare di aprire inizialmente in altre città italiane e poi espandersi anche in Europa questo è il nostro progetto e spero che le sia piaciuto grazie ragazzi allora vi chiedo in questa sartoria 4.0 in cui il digitale l'avatar la fanno da padrona i clienti tipo quali sono? sono giovani? sono sì giovani più o meno in realtà quasi tutte le età perché anche se l'oggetto comunque è un bambino bisognerebbe farlo scanno comunque più volte perché inizia a crescere cambia no fisicamente è più concentrato anche sui giovani ma anche e per le persone più adulte perché forse anche loro hanno comunque difficoltà a comprare capi di abbigliamento online perciò pensavamo che poteva anche semplificare proprio questo cioè proprio comprare online certo e avete pensato per la promozione di rivolgersi a degli influencer che possono appunto mandare questo messaggio rispondi perché appunto beh sì per diciamo per avviare questa attività per promuoverla potrebbe esserci sì diciamo una promozione sui social su per appunto arrivare anche ai giovani perché comunque sì è di tutte le età ma principalmente sui giovani siccome comunque i giovani di oggi comprano molto online e trovare le taglie online è difficile appunto con questo avatar si potrebbero trovare le taglie molto più facilmente che che come si fa oggi che appunto magari molti capi vengono presi poi rimandati indietro senza invece doverli rimandare indietro perché appunto con questo avatar si prendono le misure giuste e non serve appunto più rimandare i capi indietro sì e forse anche fare non so un progetto con proprio un un influencer e aiutarlo comunque a fare i suoi vestiti i suoi capi d'abbigliamento no? da vendere poi grazie mille ragazzi allora con questo avatar andremo a eliminare tutto il reso ma restiamo sempre nella terza A del liceo scientifico perché vogliamo capire che cos'è Relog SRL diciamo la creazione d'impresa di questa società sempre per BP Cube lo sentiamo dai ragazzi Tommaso Cresti Lorenzo Sparacca Marco Tolosa Massimiliano Santini Matteo Crespi Federico Ceccolini Filippo Guidi Emanuele Arduini ragazzi se ci siete vi vedo attivate il microfono e spiegateci che cos'è Relog non vi sentiamo attivate il microfono la spunta in basso a sinistra si sente? ecco sì ora sì prego ragazzi allora Relog come scritto in questo slide da un mare di plastica a un mare di energia allora il nostro progetto è nato dalla nostra un attimo un attimo non vediamo la presentazione vedete la presentazione no interrompi così visione mi sa interrompi con di visione ok ripresenta mi discreo vai 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 vedete? ora sì ok prego come si è scritto nella slide appunto da un mare di plastica a un mare di energia Relog è nato da un'osservazione della realtà dei nostri dintorni appunto pesaresi e soprattutto dal mare perché del mare perché abbiamo notato che quando noi ragazzi andiamo al mare ci sono sempre un sacco di rifiuti tipo legno plastica e quindi abbiamo detto perché non fare qualcosa con questi rifiuti così diamo una mano anche appunto alla globalità e allora abbiamo deciso di ecoscandagliare diciamo la la situazione dei rifiuti appunto marini e la situazione appunto è questa nella slide successiva allora sappiamo che inizialmente perché si chiama Relog la nostra impresa perché inizialmente abbiamo preso da Reload in inglese cioè ricaricare appunto l'ambiente marino tutto l'ecosistema che ci circonda e appunto è una parola composta perché Log vuol dire legno perché noi tronco inizialmente noi eravamo partiti dal dal riciclo del legno dal riciclo del legno perché la nostra prima idea era sostanzialmente dal legno produrre per esempio i pellet quelle per le stufe i stuzzicadenti però in base a ricerche e osservazioni abbiamo osservato e notato che in realtà la produzione di pellet e stuzzicadenti in grande scala poteva essere più difficoltoso e portarci meno anche perché abbiamo fatto una ricerca e il legno rappresenta solo l'1% della totalità dei rifiuti marini e poi un'altra cosa noi recuperando i rifiuti direttamente dal mare la materia prima da cui poter avere una produzione più ampia sarebbe più limitata in qualche modo perché ci sarebbero comunque aziende molto più grandi che sfruttano la deforestazione avendo una materia prima in questione di legno molto più ampia quindi abbiamo successivamente optato per la plastica che è molto più abbondante come vediamo nel grafico a sinistra di tutti gli altri materiali anche perché la plastica è sempre più usata da noi e quindi inevitabilmente purtroppo i mari sono sempre più inquinati e vengono riversate queste tonnellate di plastica nel mare appunto qui abbiamo una diciamo produzione di plastica annuale nel mondo nel 2015 380 milioni di tonnellate quindi una quantità esorbitante che poi una parte andranno riversate proprio nel mare e quindi abbiamo detto ma perché non prendere diciamo come si dice due piccioni con una fava cioè fare la nostra idea appunto come vediamo nella slide successiva sono delle tegole fotovoltaiche perché abbiamo deciso di fare le tegole in plastica riciclata con silicio amorfo che dopo tutta la scheda tecnica la vediamo successivamente e poi fare un appunto mettersi sopra dei pannelli solari integrati modulari quindi saranno delle tegole modulari che si potranno mettere proprio nel tetto di casa e che appunto contribueranno allo stesso scopo in due modi cioè uno riciclare la plastica appunto con le tegole e il secondo dare fronte all'enorme costo dell'energia all'enorme richiesta di energia che proprio c'è in questi periodi appunto purtroppo le cause terribili della guerra e quindi abbiamo deciso di optare per un unico scopo solo in due modi in maniera anche sostenibile esatto in maniera anche sostenibile qui vediamo alcuni esempi di tegole in plastica reciclata però appunto il nostro diciamo i nostri consumatori possono scegliere come vediamo in questa slide tra sfumature perché appunto la plastica come sappiamo può essere colorata molto facilmente e quindi si possono scegliere sfumature colori appunto per adattarli proprio al tetto di casa propria sì appunto anche di forma infatti abbiamo diversi stampi perché perché magari se un contadino oppure diciamo in una zona di campagna volessero rimodernare un po' il costo dell'energia la richiesta dell'energia nella propria abitazione magari qualcuno vorrebbe anche mantenere la tradizionalità magari della zona rustica quindi noi che cosa abbiamo pensato abbiamo pensato anche di fare diversi stampi appunto per mantenere la tradizionalità e anche la richiesta dell'utile dell'innovazione esatto dell'innovazione qui abbiamo messo un paio di motivi per scegliere il nostro prodotto innanzitutto come abbiamo già detto utilizziamo materiali provenienti dal recupero di rifiuti marini abbattiamo i costi dell'energia elettrica e termica della tua abitazione appunto grazie alle tegole fotovoltaiche produciamo energia pulita ad impatto ambientale zero grazie alla produzione di tegole in plastica come abbiamo già precedentemente detto con le batterie di accumulo potrai usare l'energia anche quando l'impianto non produce appunto come già succede negli impianti fotovoltaici però perché il nostro progetto è diverso innanzitutto dobbiamo diciamo per par condicio mettere anche delle non solo dei pro ma anche dei contro infatti le tegole come sappiamo non sono lisce quindi la superficie su cui il sole andrebbe su cui effettivamente il sole andrebbe a produrre energia non è omogenea per tutta la tegole in quanto sono curve e quindi non è se questo non diciamo non scoraggia i nostri consumatori noi lo mettiamo comunque per coerenza in base anche ai pro poi come abbiamo già detto le tegole sono personalizzabili e la plastica che costituisce il prodotto è leggera ma allo stesso tempo solida e resistente allora andiamo avanti con la presentazione comunque una cosa in relazione a quello che diciamo assimiliano sul fatto che la formula delle tegole è rustica essendo ondulata come detto potrebbe che la produzione di energia da quella tegola arrivando la luce in maniera differente ovviamente in relazione dove si trova il sole ovviamente si può durare energia in modo diverso offrendo noi diversi stampi quindi diverse forme di tegole ovviamente in relazione alla forma della tegola si può anche avere una produzione energetica differente ovviamente come detto se si abita in campagna dove comunque la produzione di energia è minore magari i contadini apprezzano più la tradizionalità rustica della tegola si può optare anche per una tegola ondulata dove la produzione di energia è minore ma se si abita per esempio non so in città o anche in collina dove comunque si vuole modernizzare in qualche modo la casa essendo una casa moderna si può optare anche per tegole in forma piatta che comunque la produzione energetica è sempre elevata in quanto la luce pur trovandosi il sole in diverse posizioni durante il giorno la luce arriva sempre in lo stesso maniere essendo la tegola piatta in tutto ecco così sostanzialmente allora abbiamo deciso anche di appunto far seguire il nostro percorso produttivo la prima cosa che ovviamente si fa per appunto produrre le tegole è la raccolta degli rifiuti marini appunto ripollendo come si è scritto nelle spiagge di mare contribuiamo alla salvaguarda dell'ambiente marino come abbiamo già precedentemente detto poi la seconda fase è la produzione di una nuova materia infatti produciamo plastica da plastica reciclata ma produciamo plastica polimerizzata quindi diciamo una plastica resistente ma allo stesso tempo grazie ai numerosi polimeri contenuti dentro questo nuovo prodotto che noi facciamo è anche molto resistente perché uno potrebbe pensare magari col vento vola via una cosa di plastica sul tetto invece appunto informandosi abbiamo scoperto che i prodotti polimerizzati sono molto resistenti e anche impilati appunto nel modo giusto perché comunque la tecnica di diciamo mettere su installazione bravo sul tetto i nostri prodotti è importante per garantire la solidità appunto dell'insieme allora l'aspetto più tecnico diciamo della produzione è la realizzazione della tegola integrata con silicio amorfo perché il silicio amorfo è molto importante nella nostra nelle nostre tegole allora intanto qui vediamo esempi di stampi esempi di colorazioni che appunto abbiamo già detto il silicio amorfo appunto informandoci con la nostra propria chimica è un silicio molto particolare in quanto fa parte di sostanze chimiche allotropiche cioè che esistono in più forme solo che sono dello stesso elemento quindi non cambiano come per esempio la graffite può essere sia diamante che cioè il carbonio può essere sia diamante che graffite ecco sostanzialmente è una sì dello stesso tipo e soprattutto una cosa molto importante che serve al nostro scopo è che il silicio amorfo forma legami tetraedici con gli altri silici a lui confinanti quindi questo qualcosa consente consente di creare un legame che permette di favorire la superficie per un film sottile per un film sottile che poi sarà appunto il fotovoltaico e quindi questo incrementa appunto la solidità la compattezza e la modularità del prodotto esatto questo è l'aspetto un po' più tecnico della nostra silicio si può adattare proprio per questo ad ogni forma di tegola in relazione allo stampo esatto allora andiamo avanti con la nostra presentazione sì ragazzi ultimi due minuti al massimo perché siamo scusi siamo andati a voluti sì esatto abbiamo spiegato adesso cioè polimero interamente riciclato rinforzato per garantire resistenza meccanica all'usura infatti questi sono chip diciamo di polimeri riciclati rinforzati mentre magari spesso le tegole fatte in cotto si rompono facilmente soprattutto nelle case vecchie allora volevamo aggiungere un richiamo alla nostra assistenza nel caso ci dovrebbero essere problemi cioè un team di esperto sarà sempre disponibile per rispondere alle richieste di eventuali dubbi come noi abbiamo presentato a voi nella nostra idea le nostre installazioni sono garantite per 20 anni nel nostro investimento sono comprese anche le manutazioni ordinarie perché noi utilizziamo un metodo di crowdfunding cioè noi proponiamo l'idea partiamo con un budget iniziale se poi arrivano fondi investitori esatto gli investitori la nostra idea davanti se non arrivano invece purtroppo dovremmo rinunciare al nostro progetto e in caso di richieste i nostri tecnici arriveranno entro 48 ore dalla segnalazione speriamo che il nostro progetto sia interessante vi sia piaciuto e vi ringraziamo per l'attenzione grazie ragazzi è stato interessantissimo capire come il ciclo di vita di un materiale possa non finire nel mare ma soprattutto grazie a questo recupero diventare altro e diventare altro all'interno di un'economia circolare e di produzione di energia di cui oggi abbiamo davvero bisogno grazie ancora e restiamo però sempre nella terza A del liceo scientifico Marconi perché adesso dobbiamo parlare di JDM Garage cercheremo di capire di che azienda si tratti con William Muller Matteo Gresta Federico Cicchini Andrea Quintedamo Pietro Salvi Giovanni Schida sempre per Bibi Cube e il docente Massimo Iacchini ragazzi io vi vedo vedo che vi state preparando cerchiamo di capire che cos'è spiegateci che cos'è la vostra azienda JDM Garage un attimo che c'è il nome potrebbe già dirci qualcosa ma aspettiamo conferme direttamente da voi ancora non vediamo la presentazione un attimo sì i vostri compagni sono stati molto esaustivi nella loro presentazione di questo riciclo della plastica abbiamo visto anche la foto del Seabin che è quella geggio chiamiamolo così che troviamo al porto di Pesero che aspira tutta la plastica e consente appunto di eliminare questo prodotto altamente inquinante dal nostro mare dal nostro porto eccola qua la vediamo in presentazione vi vediamo vi sentiamo a questo punto non vediamo l'ora di ascoltarvi va bene allora il nostro progetto è innanzitutto io sono William Muller abbiamo qua che non si vede abbiamo Shida Shida Giovanni noi abbiamo Federico Ceccolini e Matteo Gresta poi gli altri due oggi mancano quindi siamo solo noi a presentare il nostro progetto di azienda e il nostro progetto di impresa è questa ufficina che abbiamo denominata JDM Garage JDM perché Japanese District Market che è famosa in Giappone però appunto per vendere auto che sono tunate cioè vuol dire praticamente modifiche a queste auto sia a livello estetico sia a livello di prestazioni auto d'epoca comunque del circa del 1900 a fine del 1900 e così allora la nostra nostra ufficina che alla fine è un'ufficina la nostra azienda e praticamente cos'è cos'è che fa principalmente si basa sul tuning di auto come ho spiegato ovvero la modifica dell'aspetto e delle prestazioni dell'auto ma anche del restauro magari di qualche veicolo d'epoca come per appunto auto d'epoca che si vogliono riportare in vita tra virgolette sì esatto che poi troviamo che il nostro obiettivo sarebbe quello di investire su questo settore che qua in Italia è poco sviluppato anche se possiamo dire che motor racing qua il nostro paese è molto ambito infatti abbiamo zone come Misano Imola Monza che comunque tengono diversi campionati automobilistici e moto mondiali e così via essendo che questo settore è poco sviluppato qua in Italia siamo proposti di introdurci di farci conoscere poi le nostre offerte sono tre principalmente prima offerta è quella a livello estetico questa pacchetta include comunque persone che magari hanno l'auto che funzioni se per sé non vogliono più potenza però non gli piace tanto il livello estetico della propria auto e quindi noi ci proporiamo che grazie a per esempio installazioni di spoiler minigonne white body e così via di modificare l'aspetto di queste auto poi abbiamo il pacchetto velocità che alla fine è quello per le prestazioni quindi l'aggiunta magari di modifiche al motore come per esempio installazioni di turbo di magari nuovi motori se proprio si vuole ammortizzatori e così via e poi abbiamo il pacchetto competizione per quelli che vogliono scendere e far vedere chi sono magari scendere pure in pista e godersi il proprio veicolo poi abbiamo deciso che la nostra locazione è quella di Imola perché comunque Imola come ho detto in precedenza è molto ambita come sede per l'automobilismo per le competizioni e poi abbiamo pensato di espanderci così in questa zona delle marche dell'Emilia Romagna per poi magari espanderci in tutta Italia poi sì le nostre strategie praticamente per far funzionare questo business comunque ci servono diversi meccanici specializzati che per esempio dei meccanici di precisione che sono questi meccanici che riescono a creare pezzi unici per le nostre auto per poi andarle a montare però anche di magari anche di influencer che possano sponsorizzare il nostro brand come per esempio già influencer affermati nel mondo del campo dell'automobilismo come potrebbe essere Alberto Nasca o Luca Salvadori sono due nomi che comunque sono importanti in questo mondo poi abbiamo diversi punti di forza come per esempio che siamo gli unici praticamente in Italia a farlo come abbiamo detto una cliente appassionata del motorsport e magari avevamo pensato che per rincominciare potremmo già vendere delle auto magari comprare delle auto usate e già iniziarle a customizzarle per poi venderle a persone che vogliono subito qualcosa persone interessate poi abbiamo punti di debolezza potrebbero essere che magari per l'installazione di questi pezzi questi componenti comunque bisogna prenderli bisogna portarli dall'estero e questo magari può aumentare sia i costi che i tempi di spedizione però magari grazie a diversi contatti potremmo agevolare questa situazione per i nostri clienti e un altro problema si potrebbe presentare quanto vai a restaurare le auto d'epoca che devi trovare i pezzi originali che comunque è molto difficile per auto vecchie però tanta ricerca tanta pazienza poi abbiamo pensato pure a un sito web che veramente abbiamo pensato a questo sito web che permette al cliente già di visualizzare l'auto dei suoi sogni quindi va sul sito magari ci sono già dei layout già preimpostati di diverse auto famose e questo permette facilmente in questo modellatore 3D di mettere tutto quello che vuole nella propria auto e questo per poi facciamo vedere perfetto ragazzi grazie mille della vostra presentazione siamo nella provincia di Pesaro è nato anche il progetto terra delle moto e dei motori quindi la vostra idea potrebbe essere funzionale anche a questo segmento noi ringraziamo allora la terza A del liceo scientifico Marconi chiediamo alla terza C sempre del liceo scientifico Marconi di collegarsi con noi per la loro presentazione tutti i gruppi di lavoro della terza A li ringraziamo sono stati molto esaustivi molto le loro idee saranno apprezzate sicuramente vediamo se la terza C è con noi ci siamo visitano ci siete allora vado a presentare il vostro progetto che è la creazione di impresa di Green World per la BpCube la terza C ci illustrerà di cosa si tratta già la parola è in inglese ma cerchiamo abbiamo già un'idea però vogliamo sentirlo da voi non vediamo non vi vediamo abbiamo solo l'audio aspetti un secondo se attivano anche il video riusciamo anche a vederli e ad ascoltarli con attenzione per questo progetto di Green World un secondo solo sì avete tolto l'audio eccoci ci dovremmo essere ci siamo non vi vediamo vi sentiamo ma non vi vediamo ecco forse ora 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 vi vediamo perfetto grazie di esserci e sentiamo subito dalle vostre voci di che cosa si tratta prego allora noi abbiamo pensato a questa diciamo abbiamo avuto quest'idea guardandoci un po' intorno e cercando di trovare una soluzione al fenomeno del fast fashion che sta prendendo molto piede in questo periodo cioè di queste grandi catene che fanno pagare pochissimo vestiti che hanno una qualità pessima e che nel giro di poco vengono buttati perché appunto si rovinano molto facilmente e noi abbiamo pensato come risolvere questa cosa abbiamo pensato che a noi giovani soprattutto in questo periodo sta ritornando molto di moda per esempio il vintage abbiamo pensato magari di fare di organizzare questo punto di raccolta nella nostra scuola dove raccogliere vestiti usati come per esempio pantaloni o magliette e vari capi di abbigliamento e rimodernizzarli quindi o per esempio usando i tessuti di questi di questi appunto capi crearne altri e magari fornire a chi ci porta un tessuto o un capo da rimodernizzare uno sconto sul prodotto finale oppure semplicemente rivendendo prodotti usati diciamo puliti quindi rimessi a posto e rivenderli come tra virgolette un prezzo accessibile a tutti per poterli rimettere in vita per non doverli gettare Avete delle slide di presentazione? No Ok allora vi chiedo diciamo fisicamente voi avrete un punto di raccolta nella scuola poi a chi vi rivolgerete per riutilizzare questi capi ci saranno delle sartorie? No no pensavamo appunto per anche diminuire i costi di produzione di lavorare noi magari con la nostra professoressa di arte che comunque ha studiato moda quindi sarebbe in grado di aiutarci su questa cosa di proprio nel punto di raccolta fare anche vedere la produzione il processo di modernazione anche come pubblicità diciamo in modo tale da far vedere il processo intero totale Ok quindi diciamo che il prodotto finale poi viene venduto diciamo da voi viene ideato e venduto non è il cliente che chiede No no ok quindi una seconda vita anche per voi un'economia circolare che ritorna se non ci sono altre spiegazioni da darci su questo progetto noi ringraziamo la terza C e a questo punto chiudiamo questa prima parte della trasmissione con gli studenti dei licei e delle scuole superiori abbiamo cinque minuti di pausa e poi torniamo subito con gli elaborati dell'università degli studenti dell'università d'Urbino per questa seconda parte del programma Learning by 2 di Confindustria allora cinque minuti di orologio e torniamo subito in diretta grazie e a presto grazie 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 Un minuto e riprendiamo l'incontro, aspettando che i tecnici colleghino il tutto, anche per far ripartire lo streaming. Quando abbiamo il Via Libera noi partiremo. Un minuto e riprendiamo l'incontro. Un minuto e riprendiamo l'incontro, aspettando che i tecnici colleghino il tutto, anche per far riprendere lo streaming. Un minuto e riprendiamo l'incontro che si sono confrontate con i ragazzi, proprio per capire in base ai loro bisogni e alle loro esigenze, come si potevano risolvere delle tematiche e avviare dei progetti. Con il mondo dell'università dobbiamo anche chiarire che ovviamente si può trattare di un rapporto ovviamente da ambo le parti, perché come le aziende cercano di risolvere alcune problematiche, alcuni progetti, dall'altra parte l'università è fonte primaria di ricerca e di innovazione. Quindi uno scambio reciproco che andremo ad ascoltare sin da subito con la relazione, vediamo se sono collegati dall'Università d'Urbino, con gli studenti Ruggero Corcella e Mirka Ventura. Se ci siete partiremo con l'acquisizione della normativa ISO 14001 2015, è un progetto del corso di studio della docente Giulia Maliani per la Lisa Group, il cantiere Rossini, il cantiere di Pesaro, il referente dell'azienda è Alfonso Postorino. Vediamo se ci siete, vedo che l'audio è collegato di Ruggero Corcella, l'ascoltiamo e vi vediamo. Quindi diteci che cosa avete fatto e qual è stata la vostra idea per questa acquisizione della normativa. Ok, buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Benelli per la parola data, vado alla condivisione. Perfetto, allora buongiorno a tutti. Un attimo, c'è anche collegata Alexandra William, sempre della Lisa Group, che vediamo in video, la salutiamo e con noi sentiamo intanto i ragazzi cosa hanno da dirci. Perfetto, allora, il progetto è concentrato principalmente sull'acquisizione della normativa UNIENISO 14001 2015. Quindi la ISO 14001 è riconosciuta appunto a livello internazionale come lo standard di riferimento per i sistemi di gestione ambientale ed è applicabile appunto alle organizzazioni di ogni dimensione e settore. Quindi questa normativa fornisce in primis la riduzione del consumo di energia e risorse, quindi perseguendo la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento. Le organizzazioni certificate ISO 14001 dimostrano il loro impegno al miglioramento continuo delle proprie appunto prestazioni ambientali e per la propria attenzione alle politiche di sostenibilità ambientale. Quindi, sì, puoi procedere. Ok, perfetto. Come dicevo, diciamo, l'azienda Lisa Group Cantina Rossini si trova all'interno del porto di Pesaro ed è delimitata a ovest dal fiume Foglia. L'area su cui viene svolta l'attività aziendale è un piazzale di circa 15.000 metri quadrati con due capannoni destinati alla pitturazione, all'ufficina, ci sono dei magazzini e una palazzina con uffici ubicati appunto al primo piano. Quindi, la direzione aziendale si impegna mettendo a disposizione, diciamo, delle risorse umane, strumenti ed economiche per appunto seguire degli input, diciamo. Quindi, per quanto riguarda principalmente per l'impatto ambientale, si assicura appunto che tutti i lavoratori, ad esempio, e le parti interessate, diciamo, siano formati, informati e siano sensibilizzati per svolgere appunto il loro compito nel rispetto dell'ambiente circostante. Diciamo che, obiettivamente parlando, i consumatori stanno diventando sempre più consapevoli delle problematiche ambientali che ecologiche e quindi quella certificazione aiuta sia i marchi come, ad esempio, Lisa Group e Cantina Rossini a distinguersi come fornitura ambientale con determinate responsabilità. Qui, appunto, si vedono i punti fondatori, diciamo, che si imposta l'azienda, come un ulteriore esempio, appunto, l'informazione sugli aspetti e gli impatti ambientali di tutti i lavoratori e parti interessate. Quindi, diciamo, la formazione degli stessi che si è effettuata e aggiornata con lo specifico riferimento all'avanzione svolta. Passo alla parola alla mia collega. Allora, noi durante le visite in Cantina Rossini abbiamo potuto sgruppare questi punti per la certificazione ISO 14001-2015. Per quanto riguarda gli scarichi idrici, questi scarichi vanno in delle canalette interrate che passano poi per degli impianti di isoleatori prima di poter finire in mare. Per quanto riguarda il consumo di acqua, l'approvvigionamento idrico comunque deriva dall'acquedotto comunale e il consumo è pari a 2400 metri cubi. Mentre per quanto riguarda l'inquinamento del suolo, il piazzale è fatto interamente di cemento, quindi l'unico rischio potenziale potrebbe essere l'inquinamento delle acque portuali. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, non sono stati riscontrati presenti. Mentre per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, appunto, le emissioni rientrano negli indicatori AWA, che sono appunto indicatori di autorizzazione unica ambientale. Mentre per quanto riguarda il consumo di risorse energetiche, l'azienda ha un consumo anno di circa 1.300.000 kilowatt e tutte le risorse provengono o comunque da fonti rinnovabili o da parti interne con l'uso di pannelli fotovoltaici. Per quanto riguarda il smaltimento di rifiuti e appunto la raccolta differenziata, noi sappiamo che tutti i rifiuti sono per lo più urbani, quindi vengono raccolti tramite la raccolta differenziata. Mentre per i rifiuti speciali ci sono appunto delle aree destinate all'interno del cantiere, come ad esempio le aree presenti per lo smaltimento delle batterie al giumbo. Mentre per quanto riguarda la gestione delle sostanze dei prodotti, tutti i prodotti possiedono delle schede di sicurezza che sono appunto a disposizione di tutti i dipendenti e sono archiviati per tipologia di utilizzo. Noi per la metodologia di lavoro appunto nel mese di gennaio e febbraio abbiamo fatto degli incontri in cantiere Rossini e in questi incontri, oltre a stipulare questi punti insieme al signor Alfonso Postorino e alle parti interessate appunto per l'acquisizione della ISO 14001, abbiamo fatto un sopralluogo all'interno del cantiere dove abbiamo potuto riscontrare se tutti questi punti venissero rispettati correttamente. Infatti vengono rispettati l'unico problema che appunto abbiamo trovato all'interno del cantiere, lo smaltimento degli aniti di zinco, che purtroppo ad oggi in Italia non è stato trovato un metodo per poterli smaltire e per cui ancora questo rimane un problema. Nonostante ciò il cantiere di Isa Gruppo Rossini non possiede nessuna non conformità, una sola potenzialità di miglioramento e per questo ha potuto ottenere la certificazione ISO 14001. Grazie per l'attenzione. Grazie ragazzi, un progetto molto tecnico che siete riusciti a spiegare in maniera molto dinamica e anche facile da capire per chi non è della materia, quindi complimenti ancora. A questo punto passerei al progetto successivo, sempre dall'Università degli Studi di Urbino, un progetto del Dipartimento di Marketing e Comunicazione per le aziende, con il corso di studio di Federica Murmura, per l'azienda Imar. I referenti aziendali sono Michele Casoli e Michele Ceccaloni e in questo caso parliamo di certificazione UNI-ISO 9001-2015. Gli studenti che relazioneranno il progetto sono Alessia Naboniello, Anna Lombardi, Diletta Mosconi, Elisa Baiocchi, Gianmarco Ulandi, Ilaria Pasqualini e Marco Andreano. Se ci sono, gli darei subito la parola. Vediamo se sono collegati audio-video. Mi pareva di aver visto. Allora, in attesa del collegamento proviamo a collegarci con il progetto di Francesca Cappelle Gaia Giustosti della Semar, l'azienda referente della Semar, con Mara Benocci. Il dipartimento dell'Università degli Studi di Urbino è Economia e Management della docente Mara Del Paldo. A questo punto il progetto si chiama... ci siete? Vi vedo. Ok, ora non vi sento ancora, se potete attivare l'audio. Ok. Perfetto, il vostro progetto si intitola Verso il bilancio sociale e la rendicontazione di sostenibilità. Che cosa significa e cosa avete fatto per la Semar? Ok, allora presentiamo... si vede? Si vede benissimo e vi sentiamo. Ok. Allora, buongiorno a tutti, siamo Francesca Cappelle e Gaia Giustozzi dell'Università di Urbino Carlo Bo. Per questo progetto Learning by Doing University abbiamo collaborato con l'azienda Semar, con la supervisione della professoressa Del Baldo e grazie all'esperienza e al contributo del responsabile d'ufficio, Mara Benocci. Il nostro elaborato è intitolato Verso il bilancio sociale. La parola Verso sta ad indicare che il nostro elaborato è soltanto una prima vozza e un primo approccio a questo nuovo modo di rendicontazione e che in futuro l'azienda potrà diventare un vero e proprio bilancio sociale completo. Essendo noi studentesse nuove a questo tipo di lavoro, il nostro primo passo è stato appunto l'incontro con la professoressa Del Baldo e con la riferente d'azienda e loro ci hanno indirizzato verso l'inizio del progetto. La professoressa ci ha fornito il materiale necessario e abbiamo preso spunto in particolare da alcuni bilanci sociali di altre aziende e abbiamo consultato le linee guida del GBS. Il materiale e le indicazioni della professoressa ci hanno permesso di individuare alcune informazioni, ad esempio sociali, ambientali, etiche e di governance, che anche grazie alle informazioni e ai dati forniteci dalla referente d'azienda ci hanno permesso di avviare la vozza di quello che è poi diventato l'indice del nostro elaborato. Il successivo step è stato quello della compilazione dei vari indicatori presenti nel nostro indice, resa possibile sia dalle informazioni già presenti online sia accessibile a tutti gli interessati. Il nostro indice è strutturato in tre parti principali, precedute dalla lettera d'apertura, nella quale sono introdotti in generale i valori, la governance e gli obiettivi dell'azienda. Poi abbiamo l'approccio metodologico, dove è introdotto lo scenario mutevole e complesso della diffusione degli strumenti di accountability e l'impegno di Semer di avviare il percorso di implementazione del bilancio sociale. E infine abbiamo gli highlights, che sono i valori relativi al lavoro nell'azienda e dell'azienda, ad esempio abbiamo il numero di addetti, l'età media del personale, i prezzi, i pezzi prodotti annualmente, ma ancora più nello specifico possiamo trovare i dati come la taratura, la conformità, i macchinari utilizzati oppure la precisione in millimetri. La prima parte dell'indice è intitolata l'identità aziendale, proprio perché è utile a conoscere l'azienda con i suoi valori, la sua mission e anche il fattore umano, il personale. Inizia con la storia di Semer e la spiegazione del suo lavoro ed entra in seguito nel dettaglio delle sue politiche, del codice etico, dei suoi valori aziendali, degli stakeholder e del team thinking e si conclude con un tema particolarmente rilevante a nostro parere, cioè quello delle donne nell'azienda. Abbiamo voluto dedicare quest'ultima parte a loro perché anche confrontandoci con la responsabile dell'ufficio marketing, Mala Venocci, abbiamo ritenuto opportuno sottolineare che, pure occupandosi della produzione di componenti meccanici di precisione, le donne trovano un ampio spazio nell'azienda, non solo nell'ambito amministrativo, ma anche nei riparti di montaggio. Infatti Semer sogna le donne inserite nella meccanica. La sezione successiva, quella di sostenibilità sociale e ambientale, è una descrizione quali quantitativa dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti sugli stakeholder. È una serie ordinate di informazioni che fanno riferimento a quanto è stato già detto sull'identità aziendale, oltre che agli stakeholder individuati. Questa seconda parte si apre con la dimensione sociale dei dipendenti e dei collaboratori, continuando con la presentazione delle infrastrutture tecnologiche che formano il capitale strutturale dell'azienda, perciò la ricerca e l'innovazione di Semer, anche con i suoi progetti di miglioramento. Infine, tratta un tema alquanto attuale, cioè quello dell'emergenza Covid e dei provvedimenti che Semer ha dovuto attuare. In questi ultimi anni molti settori economici e industriali hanno risentito dell'emergenza, ma Semer, rispettando le linee guida nazionali sulle misure sanitarie necessarie per fronteggiare l'emergenza, è riuscita a diminuire le probabilità di contagi e quindi di danni e rischi sia di salute sia economici per l'azienda stessa. L'ultima parte è la sezione di sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale, riguarda il bilancio di esercizio dell'azienda e tutti i documenti obbligatori per legge che ogni azienda deve redigere alla fine di ogni esercizio. In questa sezione abbiamo inserito per ora solamente un prospetto di determinazione del valore aggiunto e alcuni esempi, ma sarà completata successivamente traendo i dati dell'azienda dell'anno di esercizio. Il nostro elaborato si conclude con le prospettive future dell'azienda che si impegna a continuare nello sviluppo del documento in modo tale da potersi raccontare ancora una volta in modo nuovo, portare l'attenzione di stakeholder sulla sua proposta di valore e rafforzare l'interazione con tutti gli interlocutori. Prima di terminare la nostra presentazione vorremmo ringraziare l'azienda Semar per la collaborazione e in particolare la responsabile d'ufficio marketing Mara Benocci, la professoressa Mara Delbaldo per il supporto e l'aiuto e infine Confindustria per averci dato la possibilità di metterci in gioco e approcciarci a una realtà nuova. Grazie ragazze. Allora il bilancio sociale, dicevate una volta si faceva solo il bilancio aziendale, adesso questo nuovo paradigma è sempre più richiesto dall'azienda. Diciamo anche Semar ve l'ho chiesto e secondo voi questo bilancio sociale va fatto? Dove porterai? Quali sono i nuovi obiettivi? Insomma non solo per la Semar ma in generale per tutte le aziende che richiederanno questo bilancio? No scusa stavo rilevando la presentazione. No dicevo sempre più aziende chiedono questo tipo di bilancio. Secondo voi perché e verso chi è rivolto? Perché non è solo un bilancio economico ma appunto come avete detto voi un bilancio sociale è un bilancio che guarda altri altri schemi insomma non solo l'economia. E il bilancio sociale è rivolto un po' tutti agli stakeholder sia i clienti, i fornitori, il personale proprio in modo che l'azienda possa raccontarsi e far dimostrare agli stakeholder di cosa si occupa e in che modo lo fa. Perfetto allora ringraziamo le due studentesse grazie del progetto. Vi invitiamo insomma a continuare a seguirci se potete. Vedo ovviamente la scaletta è un po' cambiata anche per via dei vari collegamenti che si stanno susseguendo. So che con noi c'è Elisa Cinotti giusto? Se c'è prego di aprire l'auto. Io sono. Eccoci perfetto. Se sei d'accordo procederei all'illustrazione del tuo progetto è un progetto dell'Università Politecnica delle Marche con il corso di Dipartimento di Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, il corso di studio della docente Katia Pieroni e l'azienda diciamo referente la Scavolini Spa con il Francesco Piersanti referente per l'azienda. Il progetto si intitola Ergonomia in linea, riprogettazione, postazioni di lavoro. Capiamo un po' dal titolo di cosa si tratta ma proviamo ad andare a fondo con Elisa Cinotti che ci racconterà qual è il lavoro che ha fatto la progettazione a riguardo. Grazie. Grazie a te. Provo a condividervi lo schermo. Mi dai un feedback? Si vede? Si vede e si sente quindi aspettiamo di ascoltarti. Perfetto. Benissimo. Un attimo. Ok. Allora, come già detto, il mio progetto Ergonomia in linea rivede la riprogettazione di alcune postazioni di lavoro all'interno di Scavolini che colgo per l'opportunità di ringraziare, per l'opportunità che mi ha dato. Andiamo a vedere, questo progetto si pone nell'obiettivo. Due obiettivi principali da parte dell'azienda c'è quello di ridurre lo stress psicofisico dei suoi lavoratori al fine di prevenire le patologie muscoloscheletriche e inoltre ridurre gli sprechi di tempo e ottimizzare quindi il ciclo di lavoro. Mentre dal punto di vista didattico l'obiettivo dello studente è quello di applicare le conoscenze teoriche che ha preso durante il corso di studi e applicarle a livello pratico in questo progetto. In un secondo luogo questo progetto l'ho anche presentato agli studenti del secondo anno che quindi hanno potuto incrementare le loro capacità di valutare il rischio appunto legato a questa movimentazione manuale dei carichi. Per comprendere meglio questo progetto vi do la definizione di Ergonomia. L'Ergonomia è la scienza multidisciplinare che studia le interazioni del sistema uomo-macchina in ambiente di lavoro. Questo significa che l'Ergonomia si pone l'obiettivo di adattare il lavoro all'uomo e non viceversa. In particolare ho applicato l'Ergonomia fisica nei luoghi di lavoro e questa mi ha permesso di ridurre in linea con l'obiettivo aziendale i disturbi muscoloscheletrici. L'Ergonomia e la movimentazione manuale dei carichi inoltre sono normati dal decreto legislativo 81 del 2008 pertanto sono degli obblighi fondamentali da parte che vigono nei riguardi del datore di lavoro. Il datore di lavoro infatti è obbligato a valutare tutti i rischi presenti nella sua azienda al fine di ridurre o eliminare questi rischi. Inoltre l'Ergonomia è normata da delle norme tecniche a livello internazionale, le norme ISO. In questo progetto come detto ho analizzato alcune postazioni di lavoro attraverso un'attenta osservazione del ciclo di lavoro e un'intervista con i lavoratori stessi. Questo mi ha permesso appunto di ottimizzare a livello ergonomico e strutturale queste postazioni e di andare quindi a ottimizzare gli spazi e dotare anche di nuove attrezzature il lavoratore stesso. Questa è la prima postazione di lavoro che ho analizzato, l'operatore, non so se vedete il mio cursore? Sì, lo vediamo. Ok. Il lavoratore si trova, quindi quando svolge questa attività, qua al centro di fronte al nostro trasportatore dove gli arriva il pezzo. Su questo pezzo lui monta la ferramenta che ritrova sul piano di lavoro e anche della ferramenta che prelieva da questo carrello le sue spalle e anche da questo carrello lateralmente. Quindi la problematica a livello ergonomico e quindi di movimentazione manuale dei carichi e di movimenti ripetitivi era quella che il lavoratore ogni volta che prelevava la ferramenta doveva effettuare una torsione del busto e ricordiamo che la torsione del busto comunque va a imprimere una maggior pressione a livello di dischi intervertebrali. Per risolvere e ovviare a questo problema ho proposto questo carrello ergonomico che va a sfruttare questo spazio che troviamo qui in questo riquadro giallo e questo carrello è stato, questo disegno è stato fornito a un fornitore di fiducia al quale ha provveduto a realizzare questo carrello. Quindi questa è la postazione in cui si trova le condizioni della postazione oggi. Quindi l'operatore qua in mezzo preleva la sua ferramenta senza effettuare una totale rotazione del busto ma è solamente 90 gradi. Un'ulteriore miglioria è stato questo tappeto che vedete qua sotto che non è un omare tappeto ma è un tappeto antifatica realizzato di un materiale speciale, di una gomma speciale che ti permette di ridurre il rischio da posture statiche. Quindi scarica il peso sulla colonna e va a migliorare quella che è la circolazione degli arti inferiori. Inoltre abbiamo spostato la pistola a porta silicone che anche questa qui causava nell'operatore una torsione del busto ogni volta che la utilizzava e abbiamo sostituito qua a destra la pistola a dosattirice di colla in quanto quella precedente prevedeva un comando mantenuto per tutto il dosaggio della colla. Pertanto vi era un utilizzo prolungato della forza. Anche questo è un fattore di rischio per quanto riguarda le patologie del polso quindi tonner carpale o questo tipo di patologie. Un'ulteriore modifica è stata quella del banco porta ferramenta che è stato realizzato con un'inclinatura maggiore della precedente e questo per favorire il prelievo della ferramenta e anche sempre a livello di polso avere una postura ottimale. Inoltre è stato inserito anche questo abitatore elettropneumatico associato a questo braccio reazionato che permette e evita all'operatore di imprimere la forza al momento dell'abitatura e lo protegge inoltre anche dalle vibrazioni fra un ulteriore fattore di rischio sempre per le patologie del manobraccio. Inoltre anche se non possiamo vedere da questa foto, questo banco è scorrevole e su guide, quindi è scorrevole in profondità in modo tale da avvicinarsi lo più possibile all'operatore al momento della ricarica della ferramenta. Questa modifica è stata effettuata anche sulle seguenti postazioni di lavoro pertanto non la prenderò in considerazione successivamente. Un'ulteriore modifica comune a tutte le postazioni è quella della riorganizzazione della ferramenta che ho provveduto a riorganizzare in un senso logico di ciclo di lavoro e la grandezza delle scatole che ho dedicato a ogni tipo di ferramenta è data dalla quantità e dall'utilizzo della ferramenta stessa. Questa è un'ulteriore postazione di lavoro su cui ho effettuato delle modifiche. Il lavoratore si trovava sempre qui al centro, effettuava la medesima operazione che vi ho spiegato precedentemente, ovvero prelevava la ferramenta da questo ripiano e anche da questo tavolo qui a lato. Ulteriore ferramenta veniva prelevata da questo carrello che era posizionato molto in basso pertanto l'operatore doveva flettere i busti in avanti e doveva piegarsi ogni volta per prelevare questa ferramenta. Anche in questo caso ho proposto questo carrello ergonomico con un piano inclinato ed è stato realizzato nel giro di circa tre settimane e qui lo vediamo posizionato il più vicino possibile all'operatore. Inoltre su questo tavolo abbiamo acquistato anche un usatore di scotch automatico infatti questo ti permette sia di risparmiare molto tempo per ogni pezzo pensiamo al tempo che hai impiegato per strappare ogni pezzo di scotch e alla forza utilizzata per questo. Quindi qui ogni volta che tu prelevi lo scotch ti viene ridato un pezzo subito dopo. Qui ho riposizionato anche la ferramenta che era posta sul tavolo precedente e sopra il piano inclinato. Un'ulteriore postazione di lavoro modificata è quella dove venivano montate le guide di scorrimento dei cassetti. Qui vediamo che gli spazi sono un po' ridotti ed è probabile che c'è un alto rischio in ciampo. Pertanto ho anche in questo caso disegnato un carrello di una misura tale da poter contenere tutte le scatole della ferramenta, delle guide e con un semplice nastro giallo ho realizzato uno spazio dove riporre il carrello portaferramenta quando non viene utilizzato. Così abbiamo quindi ottimizzato il rischio in ciampo e ottimizzato gli spazi. Inoltre su questo lato era assente il blocco dei pulsanti per l'avanzamento del pezzo e per l'arresto di emergenza. Infatti l'operatore doveva sempre sporgersi sull'altro lato per avviare il pulsante ma questo è importante anche ai fini della sicurezza che è ciò che studia e che mi occupo in quanto l'operatore deve avere il più vicino possibile il pulsante di sicurezza in caso di emergenza. Ultima postazione che ho analizzato è questa qua dove anche in questa si effettua il montaggio delle guide di scorrimento. Come vediamo i principali rischi di questa postazione erano il fatto che il pulsante di avviamento dei pezzi di emergenza era posto molto in basso e questo causava nell'operatore un'estensione laterale del busto. Quindi l'operatore si doveva sempre piegare di lato per avviare. La postazione non versava in delle condizioni ottimali anche questo qui è un fattore di conforto a livello ergonomico inoltre c'era un rischio in ciampo dovuto ai tubi della colla e dell'aria. Per avviare tutti questi problemi il pulsante è stato alzato, la postazione è stata riverniciata, il tubo della colla è stato fatto partire dall'alto con una carrucola e è stato sostituito il tubo dell'aria con uno di tipo spiralato. In questo modo abbiamo evitato tutti i rischi che vi ho appena detto. Un ulteriore fattore che è ancora in fase di studio e stiamo valutando l'acquisto di una piattaforma che si autolivella in quanto anche qui l'operatore al momento del prelievo delle ultime guile sulle ultime scatole doveva flettere il busto. Mentre con l'aiuto di questa piattaforma man mano che si consumano le scatole verranno mantenute a sempre uno stesso livello. Infine questa piattaforma l'ho già proposta e acquistata e fatta installare in un'altra situazione, in un'altra linea e qua la possiamo vedere già installata. Un'ulteriore attrezzatura che va a migliorare la movimentazione manuale dei carichi è questo sollevatore e trasportatore che permette di trasportare scatole e oggetti fino a 150 kg e con solo i 6 cm di questa piattaforma ho potuto migliorare la postazione di lavoro di una lavoratrice particolarmente bassa che si trovava a lavorare in un tavolo standard e ottimo per tutti i lavoratori però in questo caso la lavoratrice essendo molto bassa si ritrovava a lavorare con il gomito praticamente sempre a un altietto superiore alla spalla e questo è un fattore di rischio sempre per la postura mantenuta per un certo periodo di tempo e già la lavoratrice dopo solo una settimana ha riscontrato dei miglioramenti a livello articolare mi ha proprio fermata e mi ha ringraziato di questo. Ultimo ma non per importanza in questo lavoro ho provveduto a creare un evento informativo per tutti i lavoratori che sono stati coinvolti nelle modifiche al fine di rammendare loro quali fossero le posture corrette da mantenere nel proprio spazio di lavoro e quali invece sono quelle a rischio le posture a rischio da non effettuare assolutamente perché mettono in pericolo la loro salute non nell'immediato ma a livello di patologie e malattie professionali successive questo progetto è tutto oggi in continuo miglioramento in continuo sviluppo ma già da queste prime modifiche ho ricevuto dei feedback positivi sia da parte dell'azienda che da parte dei lavoratori coinvolti in termini ergonomici ma anche in termini di miglioramento del ciclo produttivo vi lascio con questa frase dicevo vi lascio con questa frase e vi ringrazio per l'attenzione Erisa ti chiedo una cosa abbiamo visto in tutta la tua presentazione il prima e il dopo quindi sostanzialmente tutto è già stato realizzato e questo va proprio nella direzione del problem solving che vuole essere appunto il progetto di Confindustria Giovani proprio per il learning by doing in questo caso l'azienda ha già recepito le tue modifiche le tue istanze hai già avuto degli effetti di feedback positivi che cosa significa per te aver fatto aver proposto queste modifiche vederle accettate esatto da parte dell'azienda ma soprattutto da parte del delegato alla sicurezza che è Francesco Persanti che ringrazio soprattutto anche lui per la fiducia che mi ha dato in queste modifiche che ho proposto e che sono sempre state accettate sempre state realizzate e ad oggi ripeto ho proposto anche altre cose che sono ad oggi per tempi di realizzazione ancora in fase di realizzazione comunque anche col discorso della difficoltà dell'approvvigionamento delle materie prime i fornitori stanno hanno i loro tempi diciamo quindi sono tutto in fase ancora di stiamo procedendo comunque anche con altre modifiche sono molto contenta del ripeto della fiducia che mi ha dato e di vedere applicate le nozioni che ho imparato durante il corso di studi durante comunque questi tre anni di università e con il mio piccolo diciamo bagaglio ancora oggi da arricchire ho comunque potuto già con queste nozioni proporre e vederle messe in pratica e riscontrare dei benefici proprio a livello a livello fisico che è quello che si propone di prevenire in toto e preservare la salute è quello che si propone la mia figura di tecnico della prevenzione che in pochi conoscono magari ecco grazie mille allora lasciaci con la frase perché ormai ci hai lasciato con questo dubbio qual è? dincela, raccontacela e poi passiamo al prossimo progetto questa frase non so se la vedete è quella di Confucio giusto? sì esatto e se ascolto dimentico se scrivo capisco e se scrivo ricordo ma se faccio comprendo sì bene sì e che a me era proprio quella rappresentativa più rappresentativa del learning by doing secondo me perfetto grazie ancora Elisa Cinotti della Politecnica delle Marche e ora passiamo alle ragazze alle studentesse Alessia Rossi e Alice Mencarini chiedo se sono con noi buongiorno bene vi vediamo vi sentiamo vado a presentare il vostro progetto che è del Dipartimento di Ingegneria Biomedica dell'Università Politecnica delle Marche il corso di studio del docente Valerio D'Alessandro l'azienda è la Comesser Spa con il referente aziendale Alessandro Brunetti e allora il progetto è quello di un incubatore Alessia Rossi e Alice Mencarini siamo qui per ascoltarvi vi sentiamo vi vediamo prego grazie grazie buongiorno a tutti mi sono Alessia Rossi e ho collaborato a questo progetto insieme ad Alice Mencarini affascinati dall'ambito della termofluidodinamica e grazie alla disponibilità dell'azienda Comicer abbiamo sviluppato insieme al loro team R&D un incubatore che potesse soddisfare tutte le richieste del cliente e avesse delle prestazioni migliori rispetto a quelle standard mostro il video di presentazione che abbiamo fatto non sento noi vediamo per ora una condivisione dello schermo ma non vediamo il video sì ok audio Grazie a tutti. Passo la parola ad Alice Mencarini, così puoi spiegare di preciso il progetto e l'obiettivo e tutti i test effettuati sull'incubatore. Grazie. Allora, quindi l'oggetto del progetto era appunto l'incubatore da integrare all'interno di un isolatore per la manipolazione di colture cellulari. Abbiamo avuto la possibilità di entrare in azienda e abbiamo collaborato nella pratica col team R&D e abbiamo seguito una fase con tre step principali. Il primo è stato quello di osservare l'oggetto, quindi l'incubatore, e il secondo è stato quello di analizzare i punti critici e vedere quali fossero magari i parametri che potessero subire miglioramenti, quali valori fossero ideali, quali componenti potessero essere spostate per migliorare il processo. Il terzo step è stato quello appunto di fare test di verifica con i quali siamo giunti a portare migliorie nella componentistica e a trovare veri e propri valori ideali per i vari parametri, tra cui i termoigrometri e miglioramenti per quanto riguarda l'immissione e emissione di umidità, e anidride carbonica e quindi al di là del progetto stesso che è stato molto importante per aver collaborato appunto con un'azienda è stato significativo il fatto di aver visto per la prima volta nella pratica quello che noi abbiamo portato agli esami come studi e come corsi in linea solo teorica. Alice Alessia, quindi diciamo il vostro incubatore, l'avete pensato e visto poi diciamo dal vivo e se potete raccontarci ancora qualcosina di questo progetto, in due parole giusto per andare a chiudere e farci capire ancora meglio cosa avete fatto. Sì, allora il responsabile che ci ha seguito ci ha mostrato quali fossero magari i problemi principali come l'umidità che rimaneva all'interno di alcuni incubatori che potevano avere problemi perché si accumulavano batteri e quindi non era un vero e proprio processo pulito, potevano avere la mentire dei clienti e poi c'erano materiali più o meno costosi che potevano essere utilizzati dove era meglio utilizzare il vetro, dove era meglio utilizzare il metallo e l'acciaio inox e quindi abbiamo avuto un confronto con quello che è l'incubatore standard e quello che può essere un miglioramento dell'incubatore però sempre rispettando prezzi e convenienza e efficienza e quindi abbiamo fatto vari esperimenti utilizzando anche un circuito che avevamo messo nel video e dove abbiamo deciso quali parametri dei vari valori che venivano immessi e emessi e dovessero esserci per poter capire quale fosse l'effetto migliore con che valori dei parametri e quindi ancora è un progetto non concluso che stanno continuando a migliorare e finir di elaborare, però già alcuni valori dell'umidità, delle energie carboniche, materiali e dello sportello da utilizzare sono stati migliorati rispetto a quello standard che si vede in commercio. Molto bene, grazie. Quindi anche in questo caso il problem solving va verso appunto una soluzione concreta e pratica per l'esigenza dell'azienda. Ringraziamo allora Alice Mencarini e Alessia Rossi della Politecnica delle Marche e ora torniamo a Urbino, all'Università degli Studi di Urbino, con il progetto del Dipartimento di Marketing e Comunicazione per l'Azienda. Non so se ci sono già tutte le ragazze collegate, Alessia Naponiello, Anna Lombardi, Iletta Mosconi, Lise Baiocchi, Gianmarco Ulandi, Ilaria Pasqualini, Marco Andreano. Il loro progetto è la certificazione UNI-EN ISO 9001 del 2015, il corso di studio è della docente Federica Murmura e l'azienda per cui hanno lavorato, insomma è la Imar SRL con i referenti aziendali che sono Michele Casoli e Michele Ceccaloni. Se ci siete vi prego di attivare l'audio e il microfono e avviare insomma la vostra presentazione del vostro elaborato. Grazie, vi vedo tutti e tutte e prego. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti, ci presentiamo, siamo appunto un gruppo di studenti del corso di laurea magistrale in Marketing e Comunicazione per le aziende presso l'Università di Urbino e grazie alla professoressa Murmura del corso di gestione della qualità totale abbiamo appunto deciso di partecipare al Learning by Doing portando un caso concreto di stesura del manuale per la qualità per la certificazione UNI-EN ISO 9001 del 2015 che va a descrivere i processi aziendali e il sistema organizzativo dell'azienda con la quale abbiamo collaborato che è Imar SRL di Canavaccio che si occupa di fabbricazioni di strutture metalliche e parte assemblate dal 1955. Tali processi infatti devono seguire dei requisiti ben precisi per l'ottenimento della certificazione di cui vi parleranno in seguito poi i miei colleghi. L'obiettivo principale aziendale è uno solo ovvero ottenere la certificazione UNI-EN ISO 9001 del 2015 questo comporterebbe Imar a raggiungere diversi obiettivi come ad esempio l'ampliamento dei propri mercati oltre a quelli in cui già opera, l'aumento e l'ampliamento della customer satisfaction e infine una differenziazione maggiore rispetto ai suoi principali competitor. In questo momento Imar, l'azienda, sta lavorando sul miglioramento di alcuni processi aziendali cercando così di raggiungere piccoli obiettivi interni all'azienda che fanno parte di un più grande progetto aziendale. Tutto questo poi porterà a conseguire più velocemente e in modo più rapido la certificazione. Grazie alla professoressa Murmura che ci ha coinvolti in questo progetto abbiamo avuto la possibilità di applicare ad un caso aziendale le nozioni teoriche acquisite durante tutto il corso di gestione della qualità totale nozioni come l'applicazione della certificazione ISO 9001 del 2015 in particolar modo i principi e i modelli dell'organizzazione aziendale implementati in un sistema di gestione per la qualità. Da un punto di vista didattico è stata un'esperienza che ci ha permesso di conoscere e comprendere le sfide concrete del mondo del lavoro in modo da poter comprendere le dinamiche aziendali ed il modo in cui affrontare i cambiamenti, i rinnovamenti e gli ostacoli. Ci ha inoltre aiutato a sviluppare competenze lavorative come il lavoro di gruppo, la creatività e il problem solving. L'elaborato che abbiamo redatto per questo progetto contiene un'analisi dell'azienda e dei suoi processi avente come riferimento le linee guida del manuale di qualità. Attraverso le informazioni interscambiate tempestivamente con i responsabili aziendali e le visite in loco abbiamo potuto stilare il manuale di qualità concentrandoci in particolare su alcuni punti principali i quali sono il contesto, quindi come si posiziona l'azienda la leadership, la pianificazione aziendale analizzando i sistemi di programmazione e controllo attraverso i quali l'azienda definisce i suoi obiettivi analizzandone la fattibilità e le strategie più adatte a realizzarli. Di seguito sono state anche analizzate le attività di supporto le attività operative e la valutazione delle prestazioni soprattutto anche il miglioramento continuo perché è un obiettivo strategico aziendale che consente l'inserimento di piccoli cambiamenti nei flussi di produzione o nei circuiti organizzativi con lo scopo di ottenere un aumento costante del livello di qualità aziendale. Il lavoro è stato suddiviso in due parti principali nella prima parte c'è stato uno scambio di informazioni tra gli studenti e gli amministratori dell'azienda successivamente ci siamo regati anche in azienda per vedere i vari processi aziendali dopo esserci confrontati anche con l'amministratore delegato e l'ingegnere gestionale abbiamo analizzato i vari processi delle varie macchine e stendendo una SWOT analysis abbiamo trovato dei processi dei miglioramenti per migliorare il lavoro delle macchine dopo quando abbiamo acquisito i dati in un periodo che va dal 5 novembre fino a maggio 2022 per un totale di 50 ore complessive una volta acquisiti i dati abbiamo provveduto alla stesura del manuale. Per quanto riguarda gli obiettivi che abbiamo raggiunto partecipando a questo progetto possiamo dire che sono stati degli obiettivi soddisfacenti sia da un punto di vista aziendale che da un punto di vista didattico. Da un punto di vista aziendale il macro obiettivo dell'azienda come abbiamo già detto era ottenere la certificazione di qualità ISO 9001 per motivazioni interne tal obiettivo è stato posticipato dai vertici aziendali a 2023 dunque ad oggi nonostante comunque sia nei piani futuri l'azienda non ha ancora raggiunto tal obiettivo di certificarsi. Comunque il nostro supporto il supporto che abbiamo fornito all'azienda ha permesso di raggiungere degli obiettivi intermedi in termini di miglioramento dei processi aziendali sia interni che esterni in particolare durante i confronti con l'amministratore delegato e con l'ingegnere gestionale abbiamo fornito dei punti di vista delle opinioni che hanno permesso di raggiungere degli obiettivi soprattutto in relazione alla qualità e allo snellimento delle procedure operative. Per quanto riguarda invece l'obiettivo didattico possiamo dire che questo è stato ampiamente raggiunto dal momento che il confronto con i vertici aziendali ma soprattutto le visite in loco ci hanno permesso di comprendere al meglio le dinamiche aziendali e di applicare ad un caso concreto quanto studiato durante il corso di gestione della qualità totale tenuto dalla professoressa Murmora e soprattutto di dare un senso pratico a tutte le informazioni teoriche acquisite. Questa esperienza è stata sicuramente utile per affacciarsi in primis sul mondo del lavoro e per capire anche qual è la metodologia e tutti i vari passaggi da seguire meticolosamente quando ci si vuole occupare di qualità in un'azienda e in particolare appunto quando si decide di lavorare sulla certificazione UNIENISO 9001 di 2015. Questo è stato vantaggioso per noi studenti anche in vista di un futuro lavoro in questo ambito in quanto abbiamo applicato le nozioni teoriche apprese durante l'anno ci ha permesso di capire dinamiche interne ad un'azienda di imparare a lavorare in squadra condividendo opinioni e conoscenze diverse. Ci teniamo a ringraziare la professoressa Federica Murmora e con lei tutta l'Università di Urbino l'azienda Imar SRL e Confindustria Marche per averci dato questa possibilità di crescita a livello universitario ma anche personale. In conclusione questa esperienza è stata sicuramente educativa e fondamentale per comprendere che la qualità non deve essere vista come un costo ma come un investimento. grazie a tutti. Grazie ragazzi e ragazze complimenti a tutti voi ma complimenti anche ai docenti perché abbiamo già visto come certificazioni oppure idee che sono diventate poi realtà sono appunto entrate in azienda e quindi ci fa capire come l'Università possa lavorare in osmosi con le imprese del territorio possa recepirne i bisogni ma soprattutto possa far alzare anche l'asticella come dicevate voi della qualità e dell'innovazione quindi complimenti sia ai ragazzi che ai docenti e restiamo ancora a Urbino perché passiamo al prossimo progetto con vediamo se sono collegati Paolo Palladino, Matteo Pelella, Edoardo Faneggi Antonello Tutta Festa se ci siete io vado a presentare quello che avete fatto il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Urbino con il corso di studio della docente Mara Del Baldo per l'azienda Sinergia EPC SRL con il referente aziendale Massimiliano Londei il titolo del progetto è Approfondimento Metrica Ambientale, Economiche e Sociali Applicazione degli Standard GRI agli ESC di che cosa si tratta? forse lo capiamo già dalla sigla ESG ma lo sentiamo direttamente dai ragazzi quindi prego di aprire il video e l'audio e di illustrare il vostro percorso e il vostro lavoro ok, posso condividere lo schermo? assolutamente sì, devi perfetto, lo vediamo e ti sentiamo vai pure ok, grazie innanzitutto per l'introduzione noi siamo quattro ragazzi appunto dell'Università di Urbino Carlo Bond del Dipartimento di Economia e Management del secondo anno noi ci siamo concentrati il nostro lavoro si è concentrato principalmente su quelle che sono l'approfondimento delle metri ambientali economiche e sociali con l'applicazione dei Standard GRI Global Report Initiative agli ESG prima di incominciare vorrei ringraziare in primis l'Ateneo di Urbino quindi la nostra professoressa Mara del Baldo che ci ha permesso di venire a conoscenza di questo progetto che ci ha permesso ringraziando ovviamente l'azienda Sinergia e PCSRL quindi ringraziando principalmente il signor Massimiliano che è stato il nostro referente dell'azienda insomma ci hanno permesso di poter mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato e stiamo attualmente imparando cercando di trovare un po' di praticità applicando il tutto e come ho detto appunto il nostro progetto si è basato su quello che è il risultato dell'analisi dei GRI presi in considerazione facendo in modo di applicare gli ESG ovvero a quelli che sono indicatori di performance ambientali sociali e di governance e questi sono i GRI totali, generici noi ci siamo concentrati sul GRI 202 la serie 300 il GRI 404 il GRI 418 il nostro lavoro è stato relativamente semplice nel senso che grazie all'organizzazione che ci siamo dati siamo riusciti a collaborare fra di noi sia noi studenti insieme a Sinergia che ci ha permesso di ricevere tutte le informazioni necessarie per poter rendicontare quelle che sono le informazioni principali basandosi appunto sui standard GRI il primo che è presente il GRI 202 l'obiettivo di questo standard semplicemente era quello di rendicontare quella che è la remunerazione dei lavoratori soffermando semplicemente nello specificare se coloro che vengono attribuiti vengono attribuiti con un salario superiore al salario minimo se c'è una ricondazione per genere o per le sedi operative specificando poi ovviamente tutte quelle che possono essere le opportunità salariali che l'azienda può offrire non solo ai propri dipendenti ma anche alle new entry dopodiché il GRI passa sul soffermarsi sul senior manager dando la definizione o meglio specificando la definizione che ne dà l'azienda nonché quelle che sono le sue responsabilità le sue mansioni e la percentuale presenti al suo interno il GRI serie 300 invece è un altro che è un GRI che serve a rendicontare o meglio serve a dimostrare i vantaggi della rendicontazione non finanziaria come report della sostenibilità tema attuale e soprattutto molto importante che dal mio punto di vista ogni azienda ogni impresa deve tenere in considerazione nonché dare una certa importanza il lavoro è stato svolto ponendo soprattutto l'attenzione sul divario quelle che sono tra le piccole medie e grandi imprese quindi dandone tutte quelle che sono le differenze quelli che possono essere punti di forza e debolezza di ogni tipo di impresa specificando soffermandosi su quello che è l'impronta lasciata sul mercato dando alcune sia definizioni ma anche suggerimenti miglioramenti di azioni da svolgere che possono permettere un miglioramento continuo della impresa specificando soprattutto le piccole e medie imprese che si trovano all'interno del nostro territorio il GRI 400 è un GRI che si è che si vuole soffermare sull'approfondimento degli aspetti relativi alla formazione aziendale come questa possa contribuire ad accrescere la competitività sul mercato si è notato che sono diverse le aziende che a volte non danno la giusta importanza ci si è voluto soffermare specialmente su questo tema per fare in modo di vedere quella che è la realtà che si sta affrontando in questo periodo soprattutto distinguendo quella che è la realtà delle piccole delle medie e delle grandi imprese dando ovviamente tutte quelle che possono essere fonti di ispirazione al miglioramento dopodiché il GRI si concentra su come appunto si può migliorare la gestione della formazione del personale dove appunto sono stati proposti degli esempi pratici e portando anche un'analisi attinente ad organizzazioni multinazionali Accenture e Carer Industries che appartengono a due settori differenti quindi abbiamo cercato di spaziare sia a livello di grandezza delle imprese sia a livello del settore in cui esse operano il GRI 418 invece si è focalizzato per generare un valore aggiunto per l'azienda sfruttando la customer privacy anche questo argomento molto importante data appunto la globalizzazione cui stiamo vivendo internet social network comunque tutte le piattaforme online sono una fonte molto importante fonte di reattività praticamente essenziale per chiunque al giorno d'oggi infatti la nostra ricerca si è focalizzata su quelle che sono le problematiche e le sanzioni legate alle carenze e gap nella privacy policy molto spesso lasciate tra virgolette trascurate quindi ci siamo appunto focalizzati su quella che è la privacy policy e fare in modo di mostrare quelli che possono essere i punti di forza e quali strumenti ci possono ci permettono di raggiungere in modo diretto dei potenziali clienti grazie a tutti per l'ascolto ci teniamo ancora una volta a ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di intraprendere questo progetto così da poter verificare o meglio mettere in pratica tutte quelle che sono state le nostre conoscenze che abbiamo imparato e stiamo imparando scusate posso intervenire velocemente del Valdomara ringrazio Matteo velocissime tutti i partecipanti e vorrei di nuovo ringraziare l'azienda sinergia ricordando lo scritto sulla chat anche Olesia che c'è stata vicina e insieme a Massimiliano Londei ha seguito un po' tutte le tappe di questo progetto mi dispiace per i colleghi che mi hanno preceduto e i ragazzi che mi hanno preceduto non ce l'ho fatta con l'anticipo a seguire tutto dall'inizio grazie allo stesso Luigi per tutto quello che state facendo ok grazie a voi grazie di nuovo e grazie agli studenti appunto del suo corso ora passiamo alla prossima presentazione cerchiamo di capire se il progetto Super Cup Working in Green è presente con i ragazzi relatori del progetto se ci sono buongiorno sì ci siamo perfetto allora vado a presentarvi è un corso di comunicazione e pubblicità per le organizzazioni dell'università degli studi Carlo Bo di Urbino i referenti docenti sono Marco Cioppi e Andrea Longhi l'azienda la Super Cup SRL con referenza aziendale e l'onora dell'A andiamo allora a capire di cosa si tratta questo Super Cup in Green ce lo spiegano direttamente i ragazzi vedo che hanno già avviato la presentazione l'audio c'è vi ascoltiamo buongiorno sono Grazia Sigismondo e presento il nome del mio gruppo che è costituito da Cristian Falcone Cristian Nespoli Elia Passalacqua e Anita Sfara abbiamo lavorato per Super Cup gli obiettivi declinati dal brief erano quelli di aumentare la rintracciabilità della community di Super Cup per quanto riguarda i suoi profili LinkedIn e Instagram quello di creare un rapporto più solido con i possibili lead interessati al settore e quello di aumentare la notorietà del brand sia nel mercato business to business che in quello business to consumer per approcciarci al lavoro naturalmente abbiamo studiato l'azienda cercando di capire il suo posizionamento si tratta di un'azienda di tappi di design una sua caratteristica fondamentale è quella di permettere la personalizzazione del prodotto ciò avviene già all'interno del sito quindi il cliente riesce a farsi velocemente un'idea di come potrebbe essere il suo prodotto finale da non dimenticare è il possesso della certificazione BRC la certificazione del beverage che la contraddistingue rispetto ai suoi competitor non da ultimo una certa attenzione alla sostenibilità che emerge sia dal suo lavoro naturalmente sia dall'incontro e che è stato uno spunto su cui abbiamo lavorato come si vedrà a brevissimo abbiamo analizzato le buyer personas includendo all'interno di queste i product designer imprenditori e imprenditrici i product manager e come ci veniva suggerito durante l'incontro abbiamo pensato anche meglio come coinvolgere i responsabili acquisti della grande distribuzione e i designer sono stati individuati tramite LinkedIn Sales Navigator 296 leads ci sembra opportuno sottolineare che più di 100 di questi sono imprenditori e imprenditrici crediamo che questo possa essere interessante per l'azienda abbiamo poi effettuato un'analisi Google attraverso SEMrush ciò che emerge è questo chi visita il dominio conosce già Supercap perché effettivamente ricerca il suo nome non ci sono molti link che portano questo dominio quindi crediamo che una campagna di content marketing possa creare dei contenuti di valore che gli utenti andranno a ricercare portando più traffico al sito ci sembra anche necessario sottolineare che purtroppo a differenza di come succede per alcuni dei competitor non emergono i designer con cui Supercap collabora e questo potrebbe essere invece utile per aumentare l'awareness del brand abbiamo abbiamo poi infine notato che Supercap non si posiziona né per keyword generiche né per keyword specifiche relative al suo posizionamento abbiamo quindi ideato due campagne di internet marketing per cercare di rispondere agli obiettivi delineati dall'azienda una per il B2B l'altra per il B2C la campagna vede come luogo verso la quale è indirizzata all'Italia la campagna per il B2C si rivolge in particolare a due nicchie che noi crediamo particolarmente sensibili nei confronti delle tematiche ecologiche e questi sono i collezionisti dei tappi chiamanti del riciclo creativo questa campagna verrà denominata Supercap Green per il B2B d'altro canto crediamo di doverci attivare su LinkedIn e di dover abbiamo pensato di proporre un webinar attraverso il quale portare avanti l'immagine di Supercap in qualità di leader di settore allo stesso tempo educando gli utenti offrendo loro un contenuto di valore e questa sarà la nostra Supercap Academy la nicchia degli amanti del riciclo creativo è particolarmente interessante perché riconosciamo delle pratiche significative che già inglobano il prodotto dell'azienda già vengono utilizzati effettivamente tappi all'interno di creazioni di riciclo creativo come vediamo in questa screen di un lavoro di Creative Mami che il gruppo propone come advocate quindi si potrebbe creare una solida collaborazione tra Supercap e Creative Mami in alternativa proponiamo Elisa Nicoli green influencer che si occupa anche di autoproduzione Supercap inoltre potrebbe pubblicare i brevi video che già pubblica su YouTube anche sui social in modo da diffondere questi contenuti inerenti all'ecologia anche a pubblici diversi cercando quindi di intercettare anche utenti potenzialmente interessati anche i collezionisti di tappi sono una nicchia particolarmente interessante perché innanzitutto l'interesse proprio sul tappo va da sé ma anche perché riconosciamo questa pratica della collezione dei tappi in dei raccoglitori spesso gli utenti si scambiano suggerimenti su come crearli e quindi crediamo che un contest di riciclo creativo per esempio pubblicizzato da Creative Mami che quindi è incentrato sulla creazione di un raccoglitore ecologico potrebbe essere anche una buona idea per unire queste due nicchie e per incentivarle in qualche modo a ibridarsi cercando di creare una community che si aggrega attorno proprio a Supercap abbiamo sviluppato delle ipotesi di costi e durata delle due campagne anche grazie all'aiuto del nostro tutor e del professore che ci hanno indirizzato verso l'ipotesi di un budget che potesse restituire anche economicamente gli sforzi dell'azienda per il B2B si ipotizza un budget di 4.000 euro totali una parte del budget viene indirizzato alla creazione di una sponsorizzata di prova che può essere manipolata per capire come può essere performante il contenuto la restante parte per la sponsorizzazione dei post su Facebook e Instagram questi post roteranno quindi attorno agli interessi delle due nicchie per esempio dove trovare tappi rarie quali possono essere modi di utilizzare i tappi in maniera creativa in modo da rispecchiare anche gli interessi di queste nicchie con un budget del genere i risultati ci sembrano piuttosto performanti quindi una copertura che va tra i 16 e i 19 milioni di persone raggiunte e un numero di click per post significativo quindi tra i 247 e i 715 per quanto riguarda la super cap Academy crediamo che l'azienda possa parlare di tematiche sulle quali è fortemente innovativa in modo da poter anche istruire i suoi leads offrire un contenuto che sia utile per queste persone e solo indirettamente mostrare la sua competenza nel campo per esempio potrebbe parlare di materiali innovativi potrebbe parlare della certificazione del beverage e potrebbe rendere più note le collaborazioni con i designer in modo da soffrire a quella comunque mancanza che individuavamo nella fase di analisi potrebbe essere utilizzata GetResponse come piattaforma per ospitare il webinar o in alternativa a Zoom crediamo che il webinar possa durare se incontri possa avere la durata di una lezione potrebbe essere un momento in live ma anche successivamente registrato e reso disponibile anche con i sottotitoli per incentivare la diffondibilità anche presso un pubblico non italiano per questa campagna ipotizzavamo invece un costo di 20.000 euro circa in modo da poter sponsorizzare il webinar per un anno e di poterlo ospitare su GetResponse per un periodo di sei mesi siamo fiduciosi che questa campagna possa rispondere agli obiettivi dell'azienda perché come dimostra la letteratura in materia il content marketing efficace per l'aumento della brand awareness ma naturalmente affinché ciò avvenga è necessario che l'orientamento sia al cliente attraverso la creazione di contenuti interessanti coinvolgenti interattivi e rappresentativi dell'azienda è necessario che siano raccolti dei feedback così che l'azienda possa riorientare il suo lavoro e possa cercare di offrire contenuti sempre più preziosi per gli utenti ringraziamo tutti e tutte per l'attenzione Confindustria naturalmente il nostro professore Marco Cioppi il nostro tutor Andrea Longhi e la dottoressa Eleonora Delà per averci aiutato in questo lavoro grazie mille grazie del vostro contributo molto interessante anche in questo caso restiamo ancora una volta a Urbino all'Università degli Studi Carlo Bo questa volta nel Dipartimento di Lingue Straniere e Studi Interculturali per capire se abbiamo in collegamento i ragazzi per il progetto a crescere la brand awareness dei social media di interesse anche in questo caso per l'azienda Supercap ci siete? sì ci siamo perfetto allora il vostro progetto è appunto legato all'azienda Supercap con il referente Eleonora Delà i vostri docenti sono Marco Cioppi e Andrea Longhi e andiamo a capire allora cosa avete fatto sul campo dei social media e di questa internet marketing strategy perché sappiamo che oggi ovviamente i clienti sono l'internazionalizzazione l'internazionalizzazione è un elemento importantissimo per le aziende e allora spieghiamo e andiamo nel vivo del vostro progetto prego vi sentiamo la presentazione già in condivisione vi ascoltiamo grazie mille allora buongiorno a tutti io sono Pieri Maria Silvia referente del gruppo A per il progetto Supercap con Learning by Doing l'obiettivo del nostro progetto è accrescere la brand awareness dell'azienda e il nocciolo della questione è molto semplice abbiamo bisogno di aumentare una brand awareness quindi abbiamo bisogno di avere una community per avere una community abbiamo bisogno di nove persone quindi l'obiettivo è ampliare il target per ampliare il target siamo partiti innanzitutto da un'analisi sia di posizionamento dell'azienda sul web sia un'analisi aziendale e poi delle buyer persona per quanto riguarda un'analisi del posizionamento seppur l'azienda mostra una crescita rilevante abbiamo una saturazione delle keywords e questo limita molto il potere diciamo nel su Google dell'azienda mentre per quanto riguarda la la buyer persona tipica abbiamo deciso di ampliare questo orizzonte e per fare ciò ci siamo avvalsi delle collaborazioni degli influencer soprattutto in un B2C su Instagram perché secondo noi investire su questo tipo di comunicazione potrebbe portare dei grandi vantaggi all'azienda per questo abbiamo elaborato un post simile di quello che potrebbe essere pubblicato da un'ipotetica influencer come cucina botanica abbiamo preso come spunto cucina botanica perché vanta molti follower e un target abbastanza ampio un pubblico abbastanza ampio che tratta sia giovani sia persone un po' più adulte diciamo e mentre su LinkedIn abbiamo sviluppato questa Super Cup Academy per incentivare possibili collaborazioni con con futuri partner anche se la sponsorizzazione su LinkedIn è un tema un po' più complesso perché va ad asta e quindi era veramente difficile calcolare dei dei costi anche per dare soltanto un'idea mentre per la campagna Instagram siamo riusciti ad avere delle delle stime puntando come budget di sponsorizzazione 200.000 euro annui che sarebbero poi suddivisi in autosponsorizzazioni per 200 euro al giorno per 5 mesi e quindi avremmo 30.000 euro mentre una parte una gran parte dedicata ai post di influencer che potrebbe essere cucina botanica come anche Giallo Zafferano o Benedetta Rossi per un costo stimato di un post di 10.000 euro quindi abbiamo optato per tre post al mese per 5 mesi che andrebbero a 150.000 euro ovviamente il costo stimato è annuo quindi il budget iniziale 200.000 euro ma la campagna secondo noi dovrebbe varare più su un periodo più limitato di 6 mesi che andrebbe da maggio quindi ottobre periodo nonché anche di vendemmie che potrebbe veramente aiutare l'azienda per sponsorizzare questi tappi niente questa era la nostra semplice idea che però adesso c'è un progetto a medio lungo termine non possiamo vederne ore i benefici dovremmo aspettare un riscontro aziendale nella speranza che possa veramente aiutare l'azienda grazie mille per l'attenzione e un ringraziamento speciale al dottor Longhi e al professor Marco Cioppi grazie mille Sì andiamo a citare allora anche le tue compagne di viaggio di questo progetto che sono appunto Francesca Sabatini Sara Mancini Giulia Cadeche e Giuseppe Desario grazie allora per l'esposizione speriamo insomma che questa campagna di comunicazione possa penetrare i social e il mercato e possa far propendere l'azienda appunto per questa quest'idea andiamo allora ancora al prossimo progetto il progetto sempre dall'Università degli Studi di Urbino questa volta con il Dipartimento di Lingue Moderne e Interculturalità chiedo ai referenti Rita Chiovitti Lucia Lucchetti se ci sono se sono già in collegamento Sì sì ci siamo perfetto allora vado a presentarvi strategie digitali applicate al settore compositi Rita Chiovotti Lucia Lucchetti Arianna Mancini Gaia Marinacci Michela Polisciano Sara Ricci per il Dipartimento di Lingue Moderne e Interculturalità il referente è il docente Marco Cioppi l'azienda è la GFIM SRL con il referente aziendale Vanessa Mancini andiamo allora ad ascoltare le vostre strategie digitali di che cosa si tratta vedo già che siete pronte con la presentazione che è già stata condivisa audio aperto ci siamo siamo qui ad ascoltarvi buongiorno a tutti sono Arianna Mancini ed insieme alle mie colleghe che sono state appena citate ho preso parte al progetto strategie digitali applicate al settore compositi dove abbiamo avuto l'occasione di esaminare il caso aziendale GFIM SRL GFIM è un'azienda della provincia di Pesaro e Urbino e si occupa appunto del settore compositi in particolar modo i principali elementi di analisi sono stati l'e-commerce e la social media strategia aziendale in termini di obiettivi il punto di vista l'obiettivo aziendale era quello di individuare nuove modalità per accrescere la visibilità e i contatti con i mercati esteri mentre invece dal punto di vista didattico lo scopo era quello di sviluppare conoscenze e strumenti digitali di comunicazione per accrescere la competitività internazionale invece in primo luogo è stata effettuata un'analisi di punti di forza e di debolezza dell'e-commerce aziendale Advanced Composite Materials in seguito sono stati poi forniti degli spunti di implementazione per quanto riguarda l'efficienza e il rendimento dell'e-commerce stesso e in seguito sono state poi suggerite delle possibili strategie perseguibili partendo dallo studio dei concorrenti diretti dell'azienda a questo punto lascerei la parola alla mia compagna Lucia io vi vado a presentare quello che è stata la nostra metodologia di lavoro quindi gli strumenti che abbiamo utilizzato siamo partiti da una raccolta di informazioni generali attraverso un postionario che abbiamo direttamente sottoposto all'azienda attraverso il quale abbiamo delineato il profilo del cliente ideale di Jeffing quindi della nostra buyer persona che abbiamo inquadrato in una persona comunque appassionata del del file a te del bricolage e che ama l'avventura successivamente siamo andati a fare un'analisi approfondita delle keywords per verificare la visibilità dell'e-commerce e quali erano le parole chiave diciamo più utilizzate per appunto trovare l'e-commerce nei principali motori di ricerca e questo ci ha permesso anche di verificare qual era il posizionamento dell'azienda rispetto ai principali competitors diciamo che queste due fasi di ricerca sono proseguite di pari passo perché una comunque aiutava lo sviluppo dell'altra successivamente come terzo strumento abbiamo utilizzato la tecnica del benchmark quindi l'individuazione di diversi best in class per diversi motivi che potevano fornire esempi pratici di applicazione di un e-commerce ben strutturato e che comunque può diventare una risorsa economicamente rilevante per l'azienda in seguito per quanto riguarda i risultati ottenuti possiamo girare slide si è bloccato intanto ve li annuncio allora i risultati ottenuti diciamo noi non abbiamo ottenuto a differenza di altri gruppi dei risultati pratici perché comunque il nostro progetto si basa su uno sviluppo di lungo termine che richiede una certa pianificazione quello che abbiamo fatto è stato individuare dei possibili percorsi e strumenti che potessero fornire delle soluzioni per far pronto diciamo alla richiesta che ci è stata fatta dall'azienda quindi noi abbiamo individuato degli strumenti che possono essere utilizzati dei modelli e delle strutture e abbiamo elaborato quello che è un prospetto posti per individuare quello che potrebbe essere l'investimento iniziale di sviluppo e implementazione per quanto riguarda l'e-commerce e i social media successivamente sono stati individuati alcune problematiche ricorrenti all'interno appunto dello studio dell'e-commerce e dei social media la prima è stata quella di verificare la volontà di mantenere indipendente il mercato B2C da quello B2B comunque costituisce un problema fondamentale perché un cliente finale fatica a trovare l'e-commerce di Gessim e quindi è molto difficile degli strumenti di ricerca poter individuare l'e-commerce proprio il secondo problema della scatta di visibilità dell'e-commerce è data dalla piattaforma utilizzata per costruire il sito e poi come si vedrà nel nostro elaborato noi abbiamo consigliato di utilizzare la piattaforma WordPress che renderebbe già l'e-commerce molto più visibile nei principali motori di ricerca rispetto alla piattaforma utilizzata dall'azienda e per quanto riguarda i social abbiamo visto che c'è una sostanziale mancanza di una strategia di lungo periodo e quindi è necessario strutturare un piano editoriale per la pubblicazione dei contenuti che preveda comunque l'utilizzo e la pianificazione di contenuti orari e cose da pubblicare all'interno delle pagine social in cui l'azienda è presente o eventualmente di sviluppare nuovi canali per ingaggiare nuove fasce di clienti ci tenevo a ringraziare tutte le mie compagne che hanno partecipato con me a questo progetto e soprattutto ai nostri tutor quindi la prima il professore Marco Cioppi che ci ha introdotto questo progetto Vanista che ci ha dato la possibilità di collaborare con Gessim e Daniel Casarin che ci ha fornito il supporto necessario per i vari stress pratici essendo proprio diciamo tecnico in materia e vi ringrazio per l'attenzione grazie a voi anche questo è un progetto molto interessante che delinea il fatto di come i media i social media siano determinanti e quindi anche la campagna di promozione digitale sia importante per far raggiungere i vari mercati alle aziende andiamo allora a presentare il prossimo progetto se i ragazzi Sara Notarangelo Chiara Dibelle Maria Elisabetta Savi ci sono chiedo di attivare audio e microfono già le vedo il progetto si intitola progetto social media advanced compositive materials ed è un progetto per la Jeffim l'azienda Jeffim la cui referente Vanessa Mancini il corso è quello di comunicazione e pubblicità per le organizzazioni dell'università degli studi di Carlo Po di Urbino e docente referente Marco Cioppi vi vedo vedo anche che l'audio è attivo sono curioso di ascoltarvi e di capire su che cosa avete lavorato va bene allora condivido lo schermo buongiorno a tutti io sono Sara Notarangelo e parlo anche a nome delle mie colleghe di Bella Chiara e Sabi Maria Elisabetta il nostro progetto si sviluppa intorno alla realizzazione di quella che è una campagna di comunicazione sui social network per advancing composite materials di commerce dell'azienda di materiali compositi Jeffim per svolgere il nostro lavoro prima di tutto abbiamo individuato quelli che sono i nostri obiettivi dai quali partire obiettivi di due tipologie abbiamo quelli aziendali che riguardano principalmente l'avvicinamento agli utilizzatori finali dei prodotti attraverso la ricerca dei settori di nicchia su cui si è sviluppata la campagna e poi abbiamo gli obiettivi didattici relativi allo sviluppo di conoscenze applicative dei principali strumenti di comunicazione digitale il nostro lavoro ha seguito una scaletta ben precisa come potete notare anche dalla slide che adesso andrò ad analizzare e a presentarvi in maniera più proponitita prima di tutto abbiamo effettuato un'analisi interna dell'e-commerce CM che vende i prodotti della divisione Composite Jeffing la cui mission è quella di diventare fornitore al dettaglio proponendo i migliori tessuti film, adesivi e tanto altro successivamente è stata eseguita un'analisi del sito seguendo dei parametri che permettono di individuare la presenza o l'assenza delle opzioni utili e necessarie per incrementare la comunicazione con i pubblici di riferimento questi parametri poi sono stati divisi in tre categorie in base al customer journey indicando quali sono gli strumenti utili nelle diverse fasi di contatto valutazione e post acquisto infine abbiamo potuto osservare che al momento non si effettuano vere e proprie attività di comunicazione sui canali social passando poi a quella che è l'analisi esterna abbiamo approfondito quali possono essere i settori di applicazione dei materiali compositi abbiamo effettuato un'analisi dei competitor verificando quelle che sono le attività da loro svolte anche attraverso quella che è un'analisi di benchmarking per quanto riguarda invece l'analisi del pubblico di riferimento tra quelli proposti dall'azienda abbiamo individuato principalmente due community uniti entrambe dalla caratteristica di compiere lavori e riparazioni in maniera di tutta autonoma e parliamo della community del fai-da-te e la community dei bellisti la metodologia utilizzata è consistita nella somministrazione di due questionari anonimi uno per ogni gruppo per ogni community all'interno dei gruppi facebook i quali sono stati poi osservati in modo da poter capire bene quali sono i comportamenti gli atteggiamenti e i linguaggi utilizzati dai loro membri da quest'analisi ne è emerso che il pubblico di riferimento più adatto alla nostra campagna di comunicazione è riferimento alla comunità dei bellisti che presentano delle caratteristiche ovvero è avvertito un forte senso di comunità una grande passione per la navigazione e una certa diffidenza nei confronti degli esperti il che li porta ad affidarsi principalmente a quelle che sono le proprie capacità per effettuare tutte quelle operazioni di riparazioni delle imbarcazioni prima di arrivare però alla strategia di comunicazione per e proprio è importante fare una premessa ovvero noi ci siamo focalizzate sull'esigenza di creare le fondamenta per impostare poi quella che è la struttura dell'impresa stessa quindi consigliamo prima di tutto di realizzare un business plan di investire negli investimenti di business design e di eseguire una strategia di inbound marketing il che vuol dire allineare i contenuti di comunicazione e le scelte di business con i desideri del pubblico di riferimento in modo da affiancare un ampliamento del catalogo dei prodotti per compiere le scelte di comunicazione però è necessario prima di tutto capire cosa e come lo si vuole comunicare quindi vogliamo proporre prima di tutto quelli che sono i tratti identitari di ACM che permetteranno di posizionare e quindi differenziare l'e-commerce rispetto ai competitors e quindi successivamente permetteranno di creare relazioni utilizzando lo stesso linguaggio del pubblico individuato possiamo affermare infatti che ACM alla mano è affidabile tant'è che possiamo considerarlo il tuo amichevole compagno di community ACM inoltre è avventuriero perché partecipa alle regate ed è creativo perché dimostra che con i laminati si possono fare tante cose una volta fatta questa premessa possiamo arrivare alla strategia di comunicazione che abbiamo pensato di effettuare la quale sarà distribuita su tre anni sugli open paid e online media per i quali abbiamo calcolato anche un budget ipodetico durante il primo anno ci si concentrerà sugli open media e partendo da quello che è un upgrade del sito web attraverso operazioni relative agli strumenti di comunicazione come il blog alle attività di indicizzazione come la SEO e alle attività di direct marketing per quanto riguarda invece la campagna di comunicazione che abbiamo pensato di realizzare su Facebook è importante prima di tutto dire che questo social si è dimostrato essere il più in linea con il pubblico di riferimento individuato ed è anche quello più adatto per la creazione di conversazioni di gruppo per questo consigliamo di realizzare delle rubriche per conoscere meglio i prodotti e le loro tecniche di utilizzo ma proponiamo anche altre attività indirizzate all'avvicinamento dei clienti reali e potenziali come ad esempio la creazione di un gruppo privato in cui sarà possibile scambiare pareri e consigli passando poi alla campagna di comunicazione su Instagram proponiamo anche qui la realizzazione di rubriche che però avranno come obiettivo quello di narrare il brand anche attraverso varie collaborazioni infatti suggeriamo di rendere Independent Sailing Team che è già sponsor di Jeffim come il primo sponsor anche di ACM poiché questo permetterebbe di raggiungere un pubblico più giovane inoltre proponiamo anche di effettuare rubriche nelle stories di Instagram che saranno legate alla costruzione di un rapporto più diretto con il pubblico per quanto riguarda invece la comunicazione da effettuare su YouTube possiamo dire che YouTube è la piattaforma migliore per creare diciamo per la formazione quindi quello che proponiamo tra le altre cose è quello di realizzare dei video tutorial e di creare di formare anche qui delle attività di collaborazione spostandoci sui pay media i quali saranno sviluppati a partire dal secondo anno vogliamo proporre delle attività contenenti non solo le classiche sponsorizzazioni da svolgere attraverso i link inserzioni pubblicitarie pubblicazioni di articoli ma soprattutto vogliamo proporre attività che possano creare una narrazione attorno al brand quindi vogliamo puntare molto sul digital PR dal terzo anno in poi si potranno intraprendere attività per stimolare la partecipazione attiva sui social attraverso l'utilizzo degli hashtag delle recensioni e dei tag di ACM nei continui social condivisi e inoltre proponiamo attività di comunicazione integrata che permettono quindi ad ACM di essere presenti alle eventi di regate collaborando anche con alcuni partner come ad esempio Marevivo e Plastic Free l'ultima fase della nostra strategia riguarda la misurazione dell'efficacia della campagna che sarà possibile diciamo effettuare in maniera molto semplice considerando anche che questo è un primo approccio a questo settore quindi proponiamo un'analisi dei contenuti in termini di consumo coinvolgimento fedeltà condivisione e tanto altro seguendo questa strategia supponiamo che in futuro sarà possibile arricchire ulteriormente la comunicazione avvicinandosi ad altre comunità di interesse incrementando quindi i contenuti su altre piattaforme come possono essere Twitter e Pinterest per arrivare a queste a queste conclusioni abbiamo inoltre fatto diciamo degli analisi relativi al mercato ai social trends 2022 e abbiamo individuato quelli che possono essere dei possibili partner in termini di riviste canali tv e sponsor vari in conclusione possiamo affermare che la nostra ricerca non è stata esente da problematiche che sono state relative in particolare a una mancata collaborazione da parte di alcuni gruppi Facebook i quali non si sono sottoposti diciamo ai questionari quindi li hanno rifiutati abbiamo poi individuato un'impossibilità di collegare l'e-commerce all'azienda e un'assenza di una brand history e un business plan del cm ed infine abbiamo notato un catalogo prodotti poco esteso elemento che è emerso dai questionari stessi infatti alcuni intervistati hanno dichiarato di aver notato questa pecca diciamo dell'azienda dell'e-commerce e quindi quello che proponiamo è di ampliare questo catalogo magari anche attraverso delle attività di dropshipping prima di concludere la presentazione volevo ringraziare il professor Cioppi la dottoressa Mancini e il dottor Casarini per questa opportunità in quanto ci ha permesso di mettere in pratica quelle che sono le nostre conoscenze teoriche e quindi di toccare con mano quello che vuol dire cercare di di creare proprio un piano comunicativo per per un'impresa e per un'azienda grazie per l'attenzione grazie a voi una presentazione molto dettagliata grazie ancora e passiamo all'ultimo lavoro di questa sessione appunto di lavori con il progetto Alibaba vediamo se sono collegati con noi Valeria Ritella Carla Frasca Cristina Campanile se ci siete provate ad aprire l'audio e il video Giuseppe Almerazzo Hilde Debellis c'è qualcuno per questo ultimo progetto Alibaba ancora non li vediamo però vedo collegato con noi il docente Marco Cioppi che ha curato e ha seguito i ragazzi in questo percorso didattico e non solo vorrei chiedere appunto come è stato questo affrontare con i ragazzi questo percorso e come stanno cambiando le esigenze dell'azienda e cosa può fare l'università per lavorare in osmosi con quelle che sono le esigenze delle imprese del territorio diciamo intanto grazie a tutti e dello splendido diciamo evento e progetto che ogni anno diciamo Confindustria sviluppa perché è un'importante attività che io seguo da tanti anni e che offro ai miei studenti perché ritengo un elemento fondamentale quello dell'incontro tra il mondo tra le aziende e gli studenti per affrontare tematiche molto legate ad attività pragmatiche e operative sicuramente un'esperienza formativa importante stressante per noi docenti ma soprattutto anche per i ragazzi perché al di là di quelle che sono i prodotti del loro lavoro c'è tutta una componente gestionale organizzativa di incontri di diciamo come vedo alcun imprenditore adesso vedo Vanessa collegata di incontri e di continue interazioni che comunque rendono anche l'idea di quelli che sono anche gli aspetti poi relazionali legati a queste attività al di là dello sviluppo del progetto e della sua messa a terra quindi affrontano i ragazzi anche quelle che sono le diciamo difficoltà tra virgolette del del dover gestire le relazioni con più soggetti e soprattutto incastrare quelle che sono tempistiche dinamiche anche molto spesso lavorative e che sono importanti per capire come come ci si approccia oggi al mondo del lavoro sicuramente le tematiche che noi abbiamo affrontato sono delle tematiche molto attuali quelle della comunicazione digitale della transizione digitale che sono aspetti ormai diciamo che conosciamo tutti e quindi c'è un aspetto di grande interesse da parte delle aziende che ringrazio infinitamente dall'altra parte degli studenti a poter in qualche modo mettere in pratica delle conoscenze che gli derivano ahimè anche al di là del mio corso perché ormai gli studenti sono molto schillati su queste competenze alcune volte entro in aula e mi chiedo spero di saperne e per quanto riguarda poi i lavori fatti veramente ho trovato degli imprenditori ultra disponibili e molto aperti anche a capire quali sono i loro errori e credo che sia anche questo un po' la formula di questo di questo progetto di learning by doing cioè il fatto che gli imprenditori gli studenti si aprino si aprono alle loro diciamo ai loro dubbi alle loro problematiche e affrontino le loro incertezze con uno spirito anche di riconoscimento di umiltà che poi è importante perché come abbiamo visto da molti lavori il mondo tecnologico fa dei salti impressionanti in pochi giorni in pochi mesi quindi davvero ringrazio tantissimo i miei ragazzi perché sempre con la passione ragazze perché sempre con la passione che ci mettono danno anche a me una carica per andare avanti e soprattutto per capire che questi lavori non hanno delle ricompense in termini di esami ma sono stati fatti tutti a livello proprio facoltativo di approccio alla volontà di mettersi in gioco e questo oggi è una cosa diciamo fondamentale un ringraziamento lo voglio fare a Paola Marchetti perché anche lei diciamo è stata testimonia anche di quanto sia difficile coordinare un po' i tempi l'attività tutto quanto gli aspetti legati un po' a questi progetti e ogni anno cerca di mettersi sempre a disposizione sempre di più a migliorare questo progetto quindi ecco questo è un po' il mio riscontro che non può essere che positivo perché credo che sono 13 anni da quando è nato il progetto che io vi partecipo quindi l'entusiasmo è evidente grazie della sua testimonianza dottoressa Del Baldo quindi l'università si grazie ringrazio intanto Marco che ha anticipato parte delle cose che volevo dire mi sento di diciamo come referente scientifico di questo progetto Marco diceva 13 anni i miei sono ancora di più perché questo progetto era partito ancora prima con un nome diverso era imparare con le aziende e quindi siamo anche oltre diciamo i 15 anni di collaborazione con la nostra scuola mi sento di ringraziare fortemente tutti gli imprenditori Confindustria in primis ma tutti gli imprenditori che sono associati tutti gli studenti che hanno partecipato e i colleghi un ringraziamento particolare ai colleghi oltre a Marco che ho già citato va anche a Giulia Magliani perché quest'anno abbiamo avuto anche un'apertura ad altri dipartimenti quindi Giulia Magliani che ha lavorato per il Dipartimento di Scienze Biomolecolari ma anche ai colleghi del Dipartimento di Giur quindi ai professori Edoardo Rossi e Lucia Angeli che insieme a noi diciamo la componente storica dell'Ateneo di Urbino in particolare il Dipartimento di Economia e Società Politica quindi con la Scuola di Economia Federica Murmura e Marco Cioppia anche se Marco diciamo due cappelli hai cominciato a collaborare con questo progetto quando era ancora nell'altro dipartimento cioè nel nostro dipartimento e ora con il tuo dipartimento che ti vede insomma protagonista lì io ringrazio i colleghi perché come diceva Marco quando si tratta di inserire questo progetto che ha un valore potente e ha tutti gli effetti di terza missione ci mette insieme a ragionare intorno alle problematiche e alle prospettive aziendali docenti e studenti organizzazioni e associazioni come appunto Confindustria diventa importante l'effetto squadra l'effetto sinergia perché poi nella pratica i problemi richiedono il coinvolgimento di più forze di più menti e anche di più sentire però non è facile perché si inserisce nella vita aziendale che è oltremodo complessa in quella anche universitaria nostra i docenti che devono coordinarsi io stessa oggi ho avuto un attimo di difficoltà perché già la mezz'ora non faceva l'anticipo fa saltare ci sono tutta una serie molto programmate di attività a cui noi siamo tenuti però ecco l'avere invece aderito anche quest'anno con forza con un allargamento a dei dipartimenti ulteriori dell'Ateneo d'Urbino è un segnale molto importante che ribadisce la validità di questa iniziativa io ho avuto i risconti dagli imprenditori con cui abbiamo lavorato con i miei gruppi dagli studenti che sono stati tutti molto positivi al di là delle incertette delle difficoltà ce la farò non ce la farò avrò tempo non avrò tempo ecco si vale sempre la pena insisto fortemente sul valore di questa proposta che spero possa anche il prossimo anno essere ripetuta con rinnovato vigore quindi con un allargamento noi abbiamo diversi dipartimenti dell'Ateneo d'Urbino ma parlo anche ai colleghi delle altre delle altre Atenei ecco coinvolgerli mano a mano con un gioco a cerchi concentrici e tirarli dentro tutti perché sicuramente le aziende soft skill hard skill hanno bisogno di competenze diverse di apporti interdisciplinari e quindi sicuramente abbiamo una popolazione di studenti in Urbino come le altre Atenei che possono essere di servizio e ricevere e dare al mondo delle imprese a Confindustria quindi grazie grazie anche Luigi per l'ottima condizione grazie mille non abbiamo finito tutti i referenti storici diciamo del progetto grazie non abbiamo finito perché dobbiamo ascoltare gli ultimi due progetti questa volta andiamo in giurisprudenza se i ragazzi ci sono Lisa che li ha un po' anticipati è bene ci siete ragazzi da giurisprudenza Gianluca Marcantonini Paola Lucia Marcucci Pinoli Miriam Milito Sara Penaglia ci siete? Benedetta Elisa se non ci siete torniamo al progetto Alibaba con Valeria Ritella Carla Frasca sempre della comunicazione intercontolare di impresa ci siete voi? sì noi ci siamo perfetto allora vado a presentarvi il progetto si chiama appunto progetto Alibaba dell'università degli studi di Urbino comunicazione interculturale di impresa docente referente Marco Cioppi sempre per la GEFIM e la referente aziendale Vanessa Mancini prego vi ascoltiamo vi sentiamo vi vediamo aspettiamo ok un attimo che condividi lo schermo riuscite a velarlo? sì lo vediamo benissimo raccontateci ok buongiorno a tutti io sono Ritella Valeria del referente del gruppo Alibaba progetto GEFIM e questo è il nostro team allora per quanto concerne il progetto che si è stato assegnato dall'appunto l'azienda GEFIM riguardava principalmente due obiettivi principali nonché appunto guadagnare delle quote di mercato in Cina e anche in Asia e aumentare il fatturato estero del 50% nei prossimi due anni e al fine di raggiungere questi obiettivi il lavoro svolto è stato il seguente nonché analisi delle keywords dei prodotti GEFIM su Alibaba ricerca e analisi di aziende competitor comparazione dei prezzi dei prodotti delle aziende competitor le strategie per aumentare la visibilità e attraverso l'ampliamento del catalogo e advertising e lo studio delle buyer persona su Alibaba e una proposta infine di WeChat da parte nostra per quanto concerne appunto il lavoro delle keywords utilizzando Google come motore di ricerca abbiamo appunto effettuato questo lavoro con l'obiettivo di valutare il posizionamento dei prodotti di GEFIM sulla piattaforma Alibaba fornita quindi dall'azienda stessa sono state inserite direttamente nella barra di ricerca di Alibaba e per ognuno abbiamo fornito un commento un feedback sulla posizione del prodotto della pagina risultati tenendo comunque sempre un po' in considerazione quello che è il posizionamento sia nella pagina generale che in quella dei fornitori italiani il gruppo poi è proceduto con la ricerca dei competitor della comparazione dei vari prodotti è emerso dunque che i prezzi della GEFIM sono competitivi e levemente inferiori rispetto ai competitor europei mentre il quadro cambia un po' riferito ai prezzi dei competitor cinesi i quali sono inferiori rispetto a quelli della GEFIM si offre comunque un'ampia scelta oltre a diverse variabili dello stesso prodotto per quanto concerne invece il lavoro delle proiette personas si è cercato di individuare un po' quelli che sono i clienti ideali di GEFIM sia sulla piattaforma di Bava ponendo un questionario all'azienda l'obiettivo è appunto è che il brand o l'azienda abbia un'idea abbastanza precisa di quello che è il suo cliente tipo per poter dunque essere in grado di pianificare campagli di macro marketing più efficaci possibili dunque in breve per creare una braia una braia persona è necessario per capire al meglio i clienti attuali e quelli potenziali definire come creare prodotti e quali tipi di servizi possono soddisfare le esigenze dei clienti e creare e pianificare campagne e contenuti rilevati inoltre utilizzando Google come motore di ricerca sono stati analizzati i principali metodi offerti da Alibaba per migliorare la presenza dei DJ film sulla piattaforma tra cui Big Friends e a nostro parere è uno strumento molto utile che se sfruttato al meglio può essere di grande aiuto per aiutare le imprese registrate sulla piattaforma ad analizzare le performance di vendita e comprendere al meglio il comportamento degli acquirenti e massimizzare il ritorno sugli investimenti infine si è proposto uno strumento efficace per il commercio con i clienti cinesi ovvero WeChat e nella relazione sono spiegate le varie funzioni della piattaforma e i diversi passaggi per aprire un account ufficiale in aggiunta di grafici che mostrano l'utente tipo di WeChat e questa proposta che si basa appunto sulla creazione di un account ufficiale ha come fine quello di raggiungere più consumatori possibili WeChat è infatti ancora oggi l'unico strumento per avere un collegamento diretto con un cliente cinese un account ufficiale di WeChat è molto simile a una pagina ufficiale di Facebook o Instagram però il suo contenuto è visibile solo dai profili che seguono la pagina e rimane vincolato comunque all'interno dell'ecosistema di WeChat si avrà dunque un modo di comunicare più one to one che one to many come Facebook attraverso le diverse analisi svolte nel corso del progetto quindi sono stati definiti alcuni punti di forza e di debolezza della Gephim di Gephim sulla piattaforma Alibaba per raggiungere l'obiettivo di posizionamento nel mercato asiatico in modo puntuale ed efficace grazie per la vostra attenzione grazie a voi grazie di questa presentazione che ci ha fatto capire come l'azienda potrebbe entrare ancora meglio nei mercati cinesi sappiamo che oggi l'internazionalizzazione è molto importante per un bilancio di un'impresa ancora una volta un progetto che risponda delle esigenze reali e concrete di un'azienda del territorio vediamo se a questo punto i ragazzi e le ragazze della facoltà di giurisprudenza sono collegati con noi se ci sono prego di aprire l'audio per Lisa Baldelli Saradini Gianluca Marcantonini Paola Marcucci Pinoli Miriam Milito Sara Tenaglia Benedetta Vicari se ci siete provate ad aprire l'audio in modo tale che andiamo con la vostra presentazione che è anche l'ultima per questa sessione di lavori del Learning by 2 di Confindustria non vi sento ne approfitto allora aspettando che il vostro collegamento ne approfitto per chiedere di nuovo un parere ai docenti in questo caso torno da Cioppi abuso della sua pazienza però vedo che ha coordinato tantissimi ragazzi oggi un tema chiave è quello della formazione perché ascoltiamo tanti imprenditori che dicono ci mancano ci manca personale specializzato qualificato la formazione si fa nelle università e non solo quindi tutto questo progetto risponde a un'esigenza poi di mercato insomma sì sì assolutamente nel senso che io lo vedo proprio come come le ha detto nel senso che il il progetto learning by doing io almeno lo vedo anche molto come un modo per in qualche modo di passaggio no verso dal mondo no dello studio al mondo del lavoro nel senso che dovrebbe essere secondo me anche un modo con cui le stesse aziende conoscono un po' la realtà del mondo della dell'accademia così come degli istituti superiori e in qualche modo si rendono conto anche quali possono essere persone che possono essere in un futuro oggetto di un potenziale inserimento all'interno delle loro realtà cioè come dire conoscere anche un po' prima quello che poi posso fare dopo ecco in questo processo diciamo di dialogo perché perché già le aziende che arrivano in questo progetto hanno le idee chiare dall'altra parte gli studenti si confrontano non su quelli che noi facciamo come business games ma si confrontano sulla base di progetti davvero operativi reali effettivi e quindi questo è un terreno molto fertile per poi far sì che queste relazioni possono essere proficue per entrambe e possono in qualche modo permettere alle aziende di capire quelle che potrebbero essere delle persone giuste in un futuro da poter inserire e dall'altra parte quello di apprendere delle tematiche che spesso sono anche un po' lontane dal nostro modo di fare azienda e di pensare alla comunicazione perché appunto questi settori viaggiano alla velocità della luce nello stesso tempo è per noi diciamo importante far sì di capire come le aziende ragionano come intendo come docenti come formatori e dall'altra parte far sì che un po' gli studenti fungano un po' da ponte tra virgolette non me ne voglia nessuno anche per culturare un po' gli imprenditori gli uomini di azienda di fronte a tematiche che sono spesso diciamo difficili da capire o comunque da valorizzare per un imprenditore non si tratta di comprare un prodotto tangibile ma si tratta di comprare conoscenza diciamo di entrare in rapporto con la conoscenza e questo non è sempre facile vedo che si sono collegati dal digiur vedo che si sono collegati dal giurisprudenza e chiedo solo un flash velocissimo bellissimo del baldo un flash proprio veramente uno spot sostanzialmente l'università fa alzare l'asticella anche delle imprese e delle aziende in innovazione e ricerca allora l'università potrebbe alzare l'asticella intanto aumentandola in qualche modo stiamo cercando di potenziare anche la visibilità nel senso di creare in maniera strutturata sul nostro sito dell'Ateneo un link un rimando che raccolga anche diciamo una fotogallery con il materiale di tutte le edizioni precedenti perché per molti nostri studenti ogni anno quando si va a presentare l'iniziativa lo si divulga non per tutti anche che non sono matricole magari non è noto a tutti quindi c'è bisogno purtroppo siamo nel mondo della cultura ma noi sappiamo che cambiare la cultura è forse la cosa più difficile del mondo e quindi c'è bisogno di lavorare di più sulla conoscenza e la divulgazione e questo anche tramite una politica di comunicazione che viaggia Marco ci insegna queste cose sul sito in una maniera strutturale in cui si trova rimando tutte le edizioni precedenti le dirette streaming chi ha partecipato e quindi su questo sicuramente poi l'altro è ecco stimolare ancora di più le ardiende anche nella con confidusa lavorando sulle tematiche cercando di tirare laddove non si è tirati dalle ardiende su delle problematiche che per loro sono o delle tematiche di prima diciamo di urgenza necessarie importanti però ecco crescere nella fiducia reciproca con le ardiende per magari quando l'università ha io penso le tematiche relative alla sostenibilità sono delle tematiche che non sono di oggi perché adesso le banche l'EBA parla di ESG ma sono tematiche maturate già 10-15 anni fa a livello universitario allora dove c'è un'intuizione che viene magari dall'università su quello che potrebbe essere l'alerta su certe tematiche collaborare ancora di più con Confindustria per raccogliere prontamente perché poi il tempo per coltivarle con gli studenti insomma inserirle in maniera non sistematica nei moduli e a volte insomma ci vuole un po' di tempo ecco grazie passo subito la parola ai colleghi e agli studenti e ai colleghi del digiore grazie allora andiamo direttamente a giurisprudenza con il progetto le garanzie nei contratti della grande distribuzione organizzata la facoltà appunto quella di giurisprudenza i referenti tra i docenti sono Edoardo Rossi e Lucia Angeli l'azienda è la Fab SRL con il suo referente Michele Zucca allora ragazzi vi vedo siete numerosissimi in classe vi vedo e spero di ascoltarvi vedo già che avete avviato la condivisione dello schermo siamo qua siamo pronti spiegateci di che cosa si tratta buongiorno a tutti allora noi in quanto studenti di giurisprudenza nell'ambito del progetto l'Hearing Bay Doing abbiamo lavorato ad una questione di contatoristica internazionale con un'impresa della nostra provincia in particolare abbiamo lavorato con l'impresa Fab Group che è un'impresa leader nella produzione di componenti per il settore d'arredo e in particolare al loro contratto di grande distribuzione organizzata che vanno concluso con un'altra impresa ossia Giga France in particolare l'oggetto del nostro progetto è una risposta su quesiti riguardanti le garantie le responsabilità del contratto e l'obiettivo che vogliamo garantire all'azienda è creare una maggior consapevolezza della definizione di clausole contrattuali con la valorizzazione della produzione e garantire quindi degli scambi e delle politiche e strutture commerciali più efficienti il nostro obiettivo personale era quello di riuscire ad applicare a un caso concreto e pratico le regole che stiamo studiando nel diritto internazionale per quanto riguarda invece la metodologia che abbiamo utilizzato abbiamo prima visitato l'azienda poi ci siamo divisi il lavoro in quattro sottogruppi e abbiamo studiato il contratto e tutte le risorse della biblioteca dell'università in particolare per il contratto lo studio è stato particolarmente lungo perché è stato un contratto abbastanza complesso lungo e formato a sua volta da vari contratti i risultati che vorremmo garantire all'azienda sono quelli di maggior chiarezza sui loro obblighi contrattuali e legali e delle organizzazioni più consapevoli oltre che una riformulazione se l'impresa ovviamente lo vuole più soddisfacente delle clausole pregiudiziali venendo quindi alla prima tematica di cui ci siamo occupati questa tratta dell'individuazione della legge statale applicabile al contratto questa operazione si rende necessaria per il semplice fatto che il contratto intercore tra una società italiana e una società francese di conseguenza occorre definire quale legge di quale stato regolerà il contratto contratto che si struttura in un framework agreement quindi un contratto quadro e come ha detto Paola in una serie di contratti allegati tra cui il QLA Quality and Logistics Agreement in cui ci siamo più specificamente occupati per riuscire a determinare la legge statale applicabile abbiamo applicato al contratto in questione il regolamento Roma 1 regolamento europeo che appunto definisce dei criteri di collegamento ossia dei criteri applicando i quali si riesce ad individuare la legge statale applicabile ciò che è importante da subito sottolineare però è l'importanza dell'individuazione della legge nazionale applicabile al contratto perché è chiaro che applicare la legge di uno stato piuttosto che la legge di un altro stato obbligherà sicuramente le parti a delle prestazioni a delle obbligazioni diverse questo potrebbe comportare un inaspettato gravio dei costi riguardo dall'operazione economica conclusa e di conseguenza una non adeguata programmazione della stessa e questo genera incertezza e un'impossibilità per l'azienda per lo punto di rendersi conto di quali poi saranno le sue obbligazioni circa l'operazione economica e quindi insomma un'incertezza imprenditoriale che è sempre meglio evitare venendo quindi più nello specifico regolamento l'articolo cardine e l'articolo 3 questo dispone che qualora le parti abbiano scelto una legge nazionale da applicare al contratto sarà ovviamente quest'ultima che lo regolerà GIGA e FAB hanno in effetti stipulato una clausola di scelta della legge e hanno sottoposto il contratto alla legislazione svizzera in subordine rispetto ai principi Unidro A cioè dei principi di diritto commerciale internazionale elaborati dall'organizzazione Unidro A ciò nonostante allo stesso tempo però il contratto è disseminato in vari suoi articoli di richiami alla legislazione francese qualora quindi si possa ritenere questa serie di richiami una scelta tacita fra le parti sulla legge appunto che dovrà regolare il contratto si pone un contrasto che va risolto quale fra le scelte prevale la scelta tacita sulla legge francese o la scelta espressa sulla legge svizzera quindi nel corso dell'elaborato abbiamo specificamente dato conto di questo aspetto e siamo pervenuti ad una probabile conclusione circa la prevalenza della scelta tacita francese su quella svizzera tuttavia è chiaro che c'è incertezza su quale sia la reale volontà delle parti per quanto riguarda la legge applicabile di conseguenza si è reso necessario analizzare l'articolo 4 del regolamento e applicarlo al caso concreto articolo 4 che individua criteri di collegamento applicando i quali si può pervenire all'individuazione della legislazione nazionale applicabile in mancanza di scelta quindi qualora si possa ritenere che in realtà le parti visto il contrasto che ho richiamato precedentemente non siano pervenute ad una reale scelta articolo 4 che poi si organizza in una serie di paragrafi che abbiamo applicato al caso concreto e che ognuno dei quali dà conto di una determinata soluzione circa la legislazione nazionale applicabile e che sarà ovviamente più facile approfondire nel corso dell'elaborato di conseguenza già a questo stadio possiamo dare delle prime conclusioni e un primo consiglio operativo per quanto riguarda le conclusioni abbiamo già detto come l'incertezza circa la legislazione nazionale applicabile potrebbe comportare un aggravio dei costi insomma la sussistenza di costi non preventivati all'inizio e una non adeguata programmazione dell'operazione economica un'incertezza imprenditoriale insomma dell'eteria per un'impresa e non si può negare che qualora questo rapporto giunga ad un potenzioso giurisdizionale l'alea quindi l'incertezza dei risultati è quanto mai elevata proprio per la tra virulette confusione diciamo che avvolge il contratto sotto questo punto di vista come consigli operativi quindi per il futuro abbiamo invitato FAB a prevedere delle clausole di scelta della legge applicabile chiare e coerenti poi con il testo contrattuale e qualora lo ritengano è ben possibile modificare anche il presente contratto ed introdurre una clausola di questo tipo c'è la parola alla mia collega che analizzerà il tema delle garanzie del contratto nelle analisi della tematica della garanzia e della sua possibile derogabilità è bene prima di tutto che si qualifichi il rapporto contrattuale in questione come già detto dei miei colleghi è un rapporto contrattuale molto complesso che vede il coinvolgimento di più soggetti prima di tutto FAB e GIGA e in secondo luogo il consumatore finale ma vanno anche ricordati But International e Conforama i quali interagiscono tanto con il consumatore finale quanto con GIGA il quale agisce anche in nome per punto loro e nell'approfondire la tematica della garanzia abbiamo sottolineato che esistono due tipi di garanzie una garanzia legale e una commerciale quella legale è prevista al paragrafo 4.2 1 del QLA e prevede una garanzia prevista per legge per la conformità del prodotto di una durata che sia di due anni dalla vendita al dettaglio del bene mentre una garanzia commerciale potrebbe essere prevista al paragrafo 5.1 sempre del QLA ma è una garanzia convenzionale facoltativa che da quello che ci risulta non è stata prevista con riferimento alle garanzie si deve anche specificare che tale garanzia è diversa qualora si tratti di un rapporto contrattuale business to business quindi che coinvolge Giga e France ovvero transazioni tra imprese oppure una garanzia business to consumer qualora si coinvolgano siano coinvolti venditore e consumatore dal momento appunto che Giga e France sono Giga e Fab sono due imprese il rapporto è qualificabile come business to business quindi abbiamo ritenuto prima di tutto importante approfondire la garanzia B2B prima di tutto ci siamo concentrati su quello che prevedono i principi unitro A perché come hanno scelto le parti all'articolo 23 del framework agreement la loro volontà era quella di indirizzare la risoluzione delle controverse a quanto disposta dai principi unitro A i quali però non contengono alcuna disposizione della garanzia e le parti hanno addirittura previsto che in subordine intervenga la disciplina nazionale svizzera la quale mediante una legge federale sulla garanzia ha previsto che la garanzia si stenda a due anni dalla consegna del bene è stata però analizzata anche la convenzione di vendi sulla vendita internazionale delle merci del 1980 poiché sia Francia Italia ma anche Svizzera hanno addirittura a tale convenzione nella stessa però si parla di un termine ragionevole e di una denuncia introdue anni dalla consegna per cui non è esattamente chiaro cosa si riferisca a cosa si intenda per termine ragionevole è importante sottolineare però che si prevede un principio di derogabilità di questa convenzione per cui a prevalere sarà la volontà delle parti e quindi la garanzia si estenderà a due anni dalla vendita al dettaglio è stato importante analizzare anche la disciplina nazionale francese e quella italiana poiché FAB e GIGA appartengono rispettivamente all'ordinamento giuridico italiano e quello francese infine abbiamo ritenuto importante sottolineare anche la garanzia nei rapporti B2C poiché è importante che anche il consumatore sia tutelato e il riferimento a questa a seguito della direttiva che è in vigore dal primo gennaio del 2022 Francia e Italia prevedono una garanzia legale di due anni dalla consegna del bene e la possibilità di una garanzia convenzionale qualora voglia essere prevista dalle parti allora nel caso in cui l'utilizzatore lamenti un danno dal prodotto di fatto ovviamente questa è in corretta responsabilità la responsabilità è in corretta a B2C può essere contrattuale questo significa che la responsabilità di FAB sospiste a prescindere dall'esistenza o meno di un contratto in ambito europeo vediamo che si applica il regolamento romantico in particolare all'articolo 5 si dispongono i criteri in base ai quali si prevede all'uribitazione della legge affidabile in materia ma sempre allo stesso articolo si prevede che qualora il prodotto venga messo in commercio in uno stato senza alcun senso del produttore allora si applicerà la legge dello stato in cui il produttore risiede attualmente questa è la cosiddetta claudola di prevedibilità date la localizzazione del rivenditore giga in ambito europeo subentrante la disciplina sostanziale della direttiva del 1985 la numero 364 dove questo addirittura all'articolo 1 specifica che immediatamente che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto si configura quindi una responsabilità oggettiva in capo al produttore questo significa che il FAB sarà responsabile a prescindere anche senza furba ne consegue che qualora il produttore debba liberarsi da questa responsabilità dovrà quindi fornire un onore della prova molto complesso ci siamo poi soffermati anche sull'individuazione dei giudici competenti e in questo caso emerge il regolamento dell'Unione Europea Bruxelles 1bis dove in particolare all'articolo 7.2 si fa riferimento alla commissione di leciti dolosi e colposi quando parliamo di giudici competenti è necessario sempre distinguere tra foro generale e foro speciale per foro generale si prevede che il giudice competente sia quello del luogo in cui il convenuto sia di cibiato tuttavia nello specifico caso in esame siamo in presenza di un foro speciale per cui in tutte le tipologie di leciti civili dolosi o colposi colui che ha subito il danno potrà scegliere se instaurare la controversia in alternativa o tra il foro generale oppure nel luogo in cui l'evento del danno si è verificato la corte di giustizia si è espressa in merito alla responsabilità del produttore aumentando ancora di più l'incertezza riguardo l'individuazione del giudice competente e si vede infatti che il danno potrà scegliere di instaurare la controversia venne di fronte a tre corti diversi quella del luogo di farba domicilio quella del luogo di fabbricazione del prodotto e quella del luogo in cui è stata tutta la lezione in definitiva questo genere di contratti sono molto diffusi nel nostro sistema venditoriale e molto complessi richiedono quindi un analisi molto accurato soprattutto per quanto riguarda la legge applicabile e nel nostro caso anche delle garanzie delle varie dotabilità e poi in merito l'individuazione del giudice competente quindi la relativa responsabilità extra-contrattuale del produttore colliamo l'occasione per ringraziare anche il professore Edoardo Rossi e l'advocatessa Lucia Angeli che insieme al referente azionale di San Eppucca ci hanno aiutato in questo progetto e grazie per l'attenzione grazie grazie a tutti voi grazie ancora per questa mattinata densa di lavori non so se Marchetti vuole aggiungere qualcosa io intanto vi do appuntamento al 30 maggio alle ore 10 per la cerimonia finale di premiazione con l'assimoniazione del premio al finalista che vedrà anche la testimonianza di Paolo Manocchi che è coach formatore comportamentale che collabora con realtà come quelle di Lamborghini e frecce tricolori buon bene grazie volevo solamente ecco dirvi che allora ringraziare veramente per il lavoro fatto ma non solo questa mattina ma durante tutto il percorso Mara sapere come referente il lavoro che c'è dietro insomma al progetto del Dere dei Benuti che parte noi a giugno partiamo con la pianificazione insomma delle attività per l'anno successivo con il contatto con le aziende per trovare la tematica poi da abbinare con cui fare il matching e tutto il lavoro insomma che prosegue e che ancora non è concluso e si concluderà appunto il 30 maggio abbiamo proprio un lasso un lasso di tempo proprio annuale ecco di lavoro di organizzazione di monitoraggio continuo e quindi volevo ringraziare tutti i docenti tutti i referenti aziendali e i ragazzi soprattutto che investono anche in questo tipo di lavoro per quanto noi e diciamo che ci danno fiducia perché noi diciamo loro non è tempo perso è proprio mettere un tassello per insomma sul proprio futuro fare delle esperienze che adesso si possono fare anche in modo diciamo è in dolore si può ci si approccia insomma e si conoscono le varie tematiche è un po' diciamo un discorso formativo ecco ed è una grossa opportunità alcuni riescono diciamo alcuni la colgono altri magari colgono altre opportunità o altri comunque chi partecipa al progetto sicuramente ci lavora molto insomma ci crede ci lavora molto domani mattina ci sarà un'altra sessione che non riguarda direttamente insomma coinvolte che hanno ovviamente che hanno esposto oggi perché come sapete il progetto è regionale a livello regionale abbiamo avuto solo per darvi dei numeri 44 elaborati di cui 20 sono quelli di provenienza diciamo universitaria e 24 da parte degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado quindi già oggi avevamo fatto un abbiamo compattato alcuni lavorati domani alle 9 e un quarto chi vuole seguire anche l'esposizione magari dei vostri colleghi sarà sempre sul canale youtube e facebook dei giovani trattori di compito stra-martie ultimo diciamo accenno vi ringrazio per la flessibilità perché come avete visto tutto quanto è stato organizzato al millesimo la scaletta la tempistica poi una nota diciamo qui ci siamo abituati in questi ultimi tempi si è molto accentuato il fatto che una volta bastava avere il piano A piano B e piano C adesso organizziamo tutto anche con il piano di data e comunque già sappiamo che le cose andranno diversamente da come le abbiamo pianificate perché poi ci sono tante elementi che danno la complessità e che modificano diciamo questo l'organizzazione dell'attività non cambia una cosa cioè il fatto comunque di avere il metodo comunque un metodo c'è poi si potrebbe esporre mezz'ora prima o mezz'ora dopo fare le attività però comunque rimane un gioco a grosso valore aggiunto per i partecipanti all'insegna ecco del diciamo si impara un'altra lezione ecco che è anche quella della flessibilità perché ci sono tante variabili che entrano in gioco che quindi rendono l'organizzazione molto diciamo variabile attenzione a non avere per niente l'organizzazione perché altrimenti sarebbe stato veramente un caos completo e il processo non poteva essere presidiato invece è stato comunque presidiato grazie ai docenti grazie ai ragazzi anche per la disponibilità che hanno che hanno dato posso dire una cosa Paola veloce dopo sì 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 una cosa tecnica perché è importante anche appunto per la divulgazione questi dati relativi ai numeri che tu già ci hai anticipato quindi 44 elaborati 20-20-24 se possono essere come sempre tu sei efficacissima e bravissima a darmi insomma a riportarceli come scheda di sintesi perché li utilizziamo per la divulgazione sul sito dell'Ateneo e se era possibile inserire sono già stati integrati nella scaletta magari anche per l'altra università i nomi dei docenti importante sarebbe inserire anche i dipartimenti di afferenza perché dà il segno dell'adesione progressiva dei vari dipartimenti in cui si articola un Ateneo quindi in corrispondenza del o dei docenti inserire anche il numero dei dipartimenti e a tutti i ragazzi che ancora ci ascoltano per i crediti formativi io provvederò a trasmetterli alle segreterie chiedo ai colleghi Cioppi e Murmura se mi mandano le schede che così poi le rendo effettive per gli altri dipartimenti è già passato tramite le loro segreterie quindi il digiure e il dipartimento di scienze biologiche è già passato la delibera per l'approvazione dei crediti formativi quindi non credo abbiano bisogno ulteriormente della mia firma scusami allora grazie a tutti per questa mattinata intensa abbiamo ascoltato tantissimi elaborati abbiamo capito come università scuola e mondo delle imprese possono alzare l'esticella reciprocamente in un processo di osmosi conoscitiva di innovazione di ricerca e vi diamo appuntamento appunto al 30 maggio grazie ancora e di essere stati con noi da Confindustria è tutto grazie incrociamo le dita ciao ciao a tutti arrivederci ciao a tutti arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti